Musica Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson Letto dall'avido alchimista Musiche di Zero Copyright Free Music Eravamo dalle parti di Barslow al limite del deserto quando le droghe cominciarono a fare effetto Ricordo che dissi qualcosa come Mi sento la testa un tantino leggera! Magari potresti guidare tu? E immediatamente dopo ci fu un terrificante ruggito tutto intorno a noi e il cielo si riempì di enormi pipistrelli strillanti impicchiata sulla nostra macchina la quale filava a 160 all'ora verso Las Vegas con la cappotta abbassata e una voce gridava Senti Dio! Che cazzo sono questi animali? Poi tornò la calma Il mio avvocato si era tolto la maglietta e si versava birra sul petto per facilitare la bronzatura Che cazzo urli? Brontolò, puntando il sole con gli occhi chiusi e protetti dai suoi occhiali da sole spagnoli super avvolgenti Lascia stare! Dissi Tocca a te guidare! Diedi un colpo di freni e puntai il grande squalo rosso verso il bordo dell'autostrada Inutile parlare dei pipistrelli Almeno credo Il povero bastardo li avrebbe visti da solo abbastanza presto anche Era quasi mezzogiorno e avevamo ancora più di 160 chilometri da fare Tarebbero stati chilometri duri Molto presto, lo sapevo bene saremmo stati tutti e due completamente sballati Ma non c'era modo di tornare indietro né tempo per riposarsi Dovevamo trottare La distribuzione degli accrediti per la favolosa Mint 400 era già cominciata E noi avremmo dovuto essere là entro le quattro per farci assegnare la nostra suite insonorizzata Una lussuosa rivista sportiva di New York si era premurata di riservarcela Insieme a quella immensa Chevrolet decappottabile rossa che avevamo appena ritirato a noleggio del Sunset Strip E io ero, dopo tutto, un giornalista professionista Perciò avevo il dovere di fare il pezzo Bene o male L'editore sportivo mi aveva dato anche un anticipo di 300 dollari in contanti La maggior parte dei quali era già stata spesa in droghe estremamente pesanti Il baule della macchina pareva un laboratorio mobile delle narcotici Avevamo due borsate d'erba 65 palline di mescalina 5 foglie di LSD superpotente Una saliera piena zeppa di cocaina E un'intera galassia di pillole multicolori Eccitanti, calmanti, esilaranti E anche un litro di tequila Uno di room Una cassa di Budweiser Una pinta di ettere puro E due dozzine di fiale di popper Tutto ciò era stato rastrellato la notte prima In un raptus di guida a tavoletta su e giù per la contea di Los Angeles Da Topanga a Watts Incamerando tutto quello su cui riuscivamo a mettere le mani Non che per il viaggio avessimo bisogno di tutta quella roba Ma una volta che ci si trova risucchiati in una serie raccolta di droghe La tendenza è quella di spingerla più in là che si può L'unica cosa che realmente mi preoccupava era l'etere Al mondo non c'è nulla di più indifeso, irresponsabile e depravato Di un uomo nelle profondità di una sbornia di etere E io sapevo che in quelle profondità saremmo precipitati entrambi abbastanza presto Probabilmente alla prima stazione di servizio Avevamo collaudato praticamente tutto il resto e ora Sì, era tempo per un lungo cicchetto di etere Per poi fare i successivi 160 km in preda ad un orribile sbavante stupore spastico L'unico modo per rimanere vigili sotto etere era farsi un bel po' di popper Non tutto insieme, ma con regolarità Abbastanza da mantenere il fuoco a 150 all'ora attraverso Barstow Gente, questo sì che viaggiare! Disse il mio avvocato Si sporse per alzare il volume della radio Mugulando a tempo con la sezione ritmica e smuzzicando le parole Un tiro di troppo? Povero scemo Aspetta finché non vedrai anche tu quei maledetti pipistrelli Io la radio la sentivo a malapena Buttato com'ero verso il sedile lontano A combattere con un registratore Che sparava a tutto volume Sympathy for the Devil Era l'unico nastro che avevamo E lo mandavamo di continuo, senza sosta In una sorta di demenziale contrapunto con la radio E anche per mantenerci al ritmo con la strada Una velocità costante è l'ideale Per il rimborso spese a chilometro E per alcune altre ragioni che al momento sembravano importanti Certo In un viaggio come quello bisognava fare attenzione al consumo Bisognava evitare quei bruschi colpi di acceleratore Che sparavano il sangue nel retro del cervello Il mio avvocato vide l'autostoppista molto prima di me Diamo un passaggio a questo ragazzo Disse E prima che potessi oppor di qualsiasi argomento Si era già fermato Quel povero tonno correva verso la macchina Con un largo sorriso stampato in faccia Dicendo Cazzo Non sono mai stato su una decapottabile prima d'ora Davvero? Dissi Beh immagino che tu sia pronto eh Il ragazzo annui entusiasticamente e rombammo via Noi siamo tuoi amici Disse il mio avvocato Non siamo come gli altri Oh Cristo Pensai Ha perso il cervello Non una parola di più Sibilai O ti butto addosso le sanguisughe Lui sorrise mostrando di aver capito Fortunatamente il rumore della macchina era così forte Tra vento, radio e registratore Che il ragazzo nel sedile di dietro non pote sentire una parola O sentì Per quanto tempo avremmo resistito? Mi misi a fantasticare Quanto tempo sarebbe passato prima che uno di noi due cominciasse a delirare con quel ragazzo? Cosa avrebbe pensato lui? Quello stesso deserto era stato l'ultimo domicilio sconosciuto della famiglia Manson Avrebbe fatto quella sinistra associazione, il ragazzo, quando il mio avvocato avesse cominciato a gridare a proposito di pipistrelli e di enormi razze che scendevano dal cielo sulla nostra macchina? Se sì, beh, non ci sarebbe rimasto che tagliargli la testa e seppellirlo da qualche parte Perché va da sé che non potevamo lasciarlo andare Ci avrebbe immediatamente denunciato a qualche sottospecie di sperduta stazione di polizia piena di nazisti Che ci sarebbero corsi dietro come cani Gesù! Lo avevo detto? O lo avevo soltanto pensato? Stavo parlando? Mi potevano sentire? Lanciai un'occhiata al mio avvocato, ma lui sembrava del tutto immemore Lo sguardo fisso sulla strada, le mani sul volante del nostro grande squalo rosso lanciato a 160 all'ora Nessun suono dal sedile posteriore Forse era meglio conversare un po' con quel ragazzo, pensai Forse, se fossi riuscito a spiegargli le cose, sarebbe rimasto tranquillo Certo Mi girai, sporgendomi verso di lui con un gran bel sorriso e ammirando la forma del suo cranio E comunque Dissi C'è una cosa che forse sei in grado di capire Mi fissava, senza battere ciglio Stava digrignando i denti? Mi senti? Urlai Annui Benone Dissi Perché voglio che tu sappia che noi stiamo andando a Las Vegas per scovare il sogno americano Sorrisi Ecco spiegato perché abbiamo noleggiato questa macchina Era il solo modo per farlo, riesci ad afferrare? Annui di nuovo Ma aveva gli occhi nervosi Voglio che tu sappia tutto quello che c'è da sapere Dissi Perché questa è una missione piuttosto bieca Con sprazzi di estremo pericolo personale Diavolo Mi ero completamente scordato di queste birre, ne vuoi una? Scosse la testa Un po' di etere? Cosa? Niente, niente Veniamo al sodo Sai, circa 24 ore fa eravamo seduti nella Polo Lounge del Beverly Hills Hotel Nel patio, naturalmente Ed eravamo appunto là seduti sotto una bella palma Quando il nano in uniforme è venuto da me con un telefono rosa in mano e ha detto Questa deve essere la telefonata che avete aspettato per tutto questo tempo, signori Risi e aprì una lattina di birra che straripò spumeggiando su tutto il sedile di dietro Mentre io continuavo a parlare E sai una cosa? Avevano ragione Stavo aspettando quella chiamata Solo che non sapevo chi me l'avrebbe fatta Mi segui? Il volto del ragazzo era una maschera di confusione e di puro terrore Andai avanti Voglio che tu capisca che quest'uomo al volante è il mio avvocato Non è un semplice svitato trovato sullo strip Merda, guardalo! Non sembra come mette, giusto? È perché è straniero Credo che sia samuano Ma non ha molta importanza, no? O hai dei pregiudizi? Oh no 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 Disse convinto Non l'ho mai pensato! Dissi Perché nonostante la sua razza, quest'uomo mi è estremamente prezioso Guardai il mio avvocato, ma la sua mente era davvero altrove Picchiai un pugno contro lo schienale del guidatore Questo è importante maledizione! Questa è una storia vera! La macchina ebbe uno scarto stomachevole e poi tornò a filare dritta Giù le mani dal mio fottuto collo! Gridò il mio avvocato Il ragazzo dietro sembrava ormai pronto a giocarsela saltando giù dalla macchina in corsa Le nostre vibrazioni si stavano facendo cattive, ma perché? Mi sentivo confuso, frustrato Era scesa l'incomunicabilità in quella macchina? Eravamo degenerati fino al livello di bestie mute? Perché la storia era vera Ne ero certo Ed era estremamente importante Avvertivo Per il significato del nostro viaggio a far sì che questo risultasse assolutamente chiaro Siamo stati sul serio seduti in quella polo lounge Per molte ore A bere Singapore Sling con mescala a parte e birra per mandarlo giù E quando la chiamata era arrivata, io ero pronto Il nano si era avvicinato con cautela a nostro tavolo, mi ricordo E dopo che mi ebbe passato la coronetta del telefono rosa, io non dissi una parola Ascoltai e basta Una volta riattaccato, mi voltai verso il mio avvocato Erano i capoccia? Dissi Vogliono che vada subito a Las Vegas E che entri in contatto con un fotografo portoghese di nome La Serta Lui mi fornirà i dettagli Tutto quello che devo fare è prendere possesso della mia camera e lui mi cercherà Per un momento il mio avvocato non disse nulla Poi ed improvviso rinvenne sulla sedia Dio beato! Esclamò Mi pare già di vederlo Questo tipo sì che sarà un problema Pigiò la maglietta Kaki dentro ai suoi pantaloni bianchi di acrilico a zampa di elefante E ordinò di nuovo da bere Avrai bisogno di una quantità di consigli legali prima che questa faccenda sia finita Disse E il mio primo consiglio è di prendere a noleggio una macchina molto veloce senza tettino E andartene via da LA per almeno 48 ore Scossi la testa tristemente Ciò mi rovinerà il fine settimana poiché naturalmente dovrò venire con te E dovremmo armarci Perché no? Dissi Se vale la pena fare una cosa come questa è per farla bene Avremo bisogno di un equipaggiamento decente e un pieno di soldi a disposizione Non fosse altro che per le droghe e per un registratore a cassette super sensibile Per dotarsi di una documentazione oggettiva Che storia è questa? La Mint 400 Dissi È la più ricca corsa fuoristrada per motociclette e dune buggy nella storia dello sport organizzato Uno spettacolo fantastico in onore di quel burino arricchito di nome Del Webb Che possiede il lussuosissimo Mint Hotel nel centro di Las Vegas Almeno questo è ciò che dice il comunicato stampa Il mio uomo a New York me lo ha appena letto Bene Disse lui In qualità di tuo avvocato ti consiglio di comprare una motocicletta Altrimenti come puoi seguire convenientemente una cosa come questa? In nessun altro modo Dissi Dov'è che possiamo mettere le mani su una Vincent Black Shadow? E che cos'è? Una moto fantastica Dissi L'ultimo modello è qualcosa come 6.000 centimetri cubici Sviluppa 200 cavalli vapore e 4.000 giri al minuto su un telaio al magnesio Dal peso totale al riposo di 90 chili esatti con due sedili a polistirolo espanso Sembra l'ideale per una faccenda come la nostra Disse Lo è Gli assicurai La Troia non è granché in curva Ma è un vero demonio nei rettilinei Si lascia dietro un F-111 sulla pista di decollo Decollo? Disse E noi resteremo alla sollecitazione Assolutamente! Chiamerò New York per un po' di contante Capitolo 2 La confisca di 300 dollari a una donna maiale di Beverly Hills L'ufficio di New York non aveva dimestichezza con la Vincent Black Shadow Mi dirottarono a quello di Los Angeles che si trovava a Beverly Hills a pochi isolati dall'Apollo Lounge Ma quando arrivai la donna che gestiva la cassa si rifiutò di darmi più di 300 dollari in contanti Non aveva la minima idea di chi io fossi mi disse E al momento io grondavo di sudore Ho il sangue troppo denso per la California In quel clima non sono mai stato capace di esprimere compiutamente le mie ragioni Non mi riesce Grondante di sudore Con gli occhi rossi e le mani tremanti Così presi i miei 300 e me ne andai Il mio avvocato mi stava aspettando in un bar lì all'angolo Non basteranno neanche a coprire le spese Disse A meno che Non abbiamo credito illimitato Lo rassicurai che l'avremmo avuto Voi Samoani siete tutti uguali Gli spiegai Non avete nessuna fiducia nel sostanziale decenza della cultura dei bianchi Cristo Neanche un'ora fa eravamo seduti in un fetido lupanare in bolletta e paralizzati per il weekend Quando arriva una telefonata di uno sconosciuto da New York che mi dice di andare a Las Vegas sbattendosene delle spese E poi mi spedisce in un certo ufficio di Beverly Hills dove un'altra sconosciuta mi consegna 300 dollari sull'unghia senza alcuna ragione apparente Voglio dire amico È il sogno americano in piena azione Saremmo due pazzi se non cavalcassimo quello strano siluro fino in fondo Certo Disse lui Dobbiamo farlo Giusto Risposi Ma per prima cosa abbiamo bisogno di una macchina E dopo quella di cocaina Quindi di un registratore a cassette per musica speciale E di qualche camicia a stile Acapulco Sentivo che il solo modo per prepararsi a un viaggio come quello era vestirsi come degli esosi e dare di matto Dopodiché sgommare attraverso il deserto e scrivere l'articolo Mai perdere di vista le responsabilità primarie Ma l'articolo di che? Nessuno si era disturbato a dirmelo Così avremmo dovuto tirarlo su per conto nostro Libera impresa Il sogno americano Orazio Alger strafatto di droghe a Las Vegas Farlo subito Puro giornalismo gonzo C'era anche il fattore socio-psicologico Ogni tanto quando la vita si complica I predatori cominciano a farsi sotto L'unico vero rimedio è fare il pieno di micidiali prodotti chimici E poi guidare come un bastardo da Hollywood a Las Vegas Per rilassarsi, come si suol dire, nel grembo del sole e del deserto Tirare giù la cappotta e fissarla ben bene Imbrattarsi la faccia di crema abbronzante E decollare con la musica a tutto volume E almeno mezzo litro di etere Entrare in possesso delle droghe non era stato un problema Ma la macchina e il registratore non erano cose facili da riperticare a Hollywood Alle sei e mezzo di un venerdì pomeriggio per giunta Io avevo già una macchina Ma era troppo clamorosamente piccola e lenta per affrontare il deserto Andammo in un bar polinesiano Da dove il mio avvocato effettuò 17 telefonate Prima di riuscire ad affittare una decappottabile di adeguata potenza E appropriata colorazione Tienila da parte Gli sentii dire nella cornetta Tra mezz'ora saremo lì a definire l'affare Poi, dopo una pausa, cominciò a strillare Cosa? Ma certo che il signore possiede una carta di credito internazionale Ti rendi conto con chi cazzo stai parlando? Lascia perdere questo maiale Dissi non appena ebbe sbattuto giù il telefono Ora abbiamo bisogno di un negozio con le migliori apparecchiature sonore Non vogliamo roba da quattro soldi Noi vogliamo uno di quei nuovi Helio Watts Belgi dotati di microfono Che si attiva da solo quando sente una voce Per catturare le conversazioni nelle macchine in avvicinamento Facemmo molte altre telefonate E finalmente trovammo il nostro equipaggiamento in un negozio distante circa 8 chilometri Era già chiuso ma il commesso disse che ci avrebbe aspettato se ci fossimo sbrigati Ma perdemmo tempo lungo la strada per via di uno Chevrolet Sting Ray davanti a noi Che mise sotto un pedone sul Sunset Boulevard e lo accoppò Quando arrivammo il negozio era chiuso per davvero Dentro c'era ancora gente Ma quelli si rifiutarono di venire alla porta a doppi vetri finché non la prendemmo a calci Facendoci capire all'istante Alla fine vennero due commessi Prendendo delle chiavi inglesi E ci accordammo di negoziare la transazione attraverso una piccola fessura Dopodiché aprirono la porta quel tanto da far uscire gli apparecchi Prima di richiuderla con forza e dare tre mandate di chiavi Prendete questa roba e andate al diavolo più lontano possibile da qui Gridò uno dei due dalla fessura Il mio avvocato gli agitò contro il pugno Ritorneremo! Urlò Uno di questi giorni Vengo e butto una bomba in questo posto del cazzo C'è il tuo nome scritto sullo scontrino Scoprirò dove ambiti e ti brucerò la casa Il che gli darà qualcosa a cui pensare Mormorò quando eravamo già in macchina Quel tipo è un paranoico psicotico comunque Si riconoscono al volo Avemmo altri problemi all'agenzia di noleggio auto Dopo aver firmato tutte le carte montai sulla macchina E quasi persi il controllo Mentre attraversavo il parcheggio a marcia indietro Verso la pompa di benzina Ovviamente il noleggiatore ne fu turbato Dite un po' Voi altri due farete attenzione con quella macchina Non è vero? Naturalmente! Bene, bene, buon Dio Disse quello Siete appena montati sopra un cordolo di cemento Alto mezzo metro senza nemmeno rallentare 70 all'ora in retromarcia E avete anche mancato la pompa per un pelo Nessun danno! Dissi Io collaudo sempre la trasmissione in questo modo Il giunto cardanico Sui fattori usuranti Nel frattempo il mio avvocato stava trasferendo rum e ghiaccio Dalla nostra Pinto al sedile posteriore della decapottabile Il noleggiatore lo guardò nervosamente Dite un po' Fece Intendete Bere? Non io! Gli risposi Pensa a riempire quel maledetto serbatoio Ringhiò il mio avvocato Abbiamo una fretta del diavolo Dobbiamo andare a Las Vegas per una Corsa nel deserto Cosa? Non preoccuparti! Dissi Siamo gente responsabile noi! Lo guardai rimettere a posto il tappo della benzina Poi innestai la prima e rollammo di colpo in mezzo al traffico Ecco un altro ansioso Disse il mio avvocato Deve essere completamente pieno di anfetamine Sì! Avrei dovuto dargli una delle nostre rosse Nemmeno le rosse avrebbero potuto nulla con un maiale come quello Disse lui Al diavolo! Dobbiamo ancora occuparci di un mucchio di cose prima di partire Mi piacerebbe Trovare qualche indumento da prete Dissi Potrebbe venirmi comodo a Las Vegas Ma i negozi di costumi erano chiusi E noi non eravamo in vena di svaliggiare una chiesa Non prendertela Disse il mio avvocato E pensa a quanti poliziotti cattolici ci sono in circolazione Riesci a immaginare cosa potrebbero farci Quei bastardi Se ci acchiappassero ubriachi e pieni di droga In abiti talari rubati Cristo ci castrerebbero Hai ragione Dissi E per l'amor di Dio non fumare quella pipa ai semafori Tieni a mente che siamo molto visibili A noi Qui ci vuole un arghile bello grande Da tenere giù sul sedile Fuori dalla vista Se qualcuno ci vede Penserà che stiamo facendo Uso di ossigeno Passamo il resto di quella notte Ramazzando roba in giro E stivandola nella macchina Poi ingurgitammo un po' di mescalina E ce ne andammo a nuotare nell'oceano Verso l'alba Facemmo colazione in un bar di Malibu Dopodiché Attraversammo la città Facendo molta attenzione E ci infilammo Sulla Pasadena Freeway Immersa nello smog Puntando verso est Capitolo 3 Strana medicina nel deserto Una crisi di fiducia Sono ancora vagamente ossessionato Dall'osservazione fatta dal nostro autostoppista Di non essere mai salito su una decapottabile Ecco qua Un povero farlocco Immerso in un mondo di decapottabili Che gli sfrecciano accanto Dalla mattina alla sera Sulle autostrade E lui Non ci è mai nemmeno salito sopra Questa cosa Mi faceva sentire come il re Farouk Ero tentato di indirizzare il mio avvocato Verso il più vicino aeroporto E concordare una specie di contratto de facto Con il quale Noi Avremmo semplicemente dato la macchina A quello sfortunato bastardo Dirgli soltanto Ecco Firma questo E la macchina è tua Consegnargli le chiavi E poi usare la carta di credito Per filare in aereo In un posto tipo Miami Dove noleggiare Un'altra immensa decapottabile Rosso fuoco Per una corsa fradicia di droghe Attraverso le acque Fino al capolinea di Key West E lì Barattare la macchina con una barca Sempre in movimento Ma questa fissa balorda Passò in fretta Non era il caso di far finire al fresco Un ragazzo indifeso E d'altra parte Avevo dei progetti per quella macchina Con quella rotta in culo Mi aspettavo di sfrecciarci per Las Vegas Magari farci un po' di serio Drag racing sullo strip Inchiodare a quel grande semaforo Di fronte al flamingo E cominciare a gridare nel traffico Bene Banda di rammolliti merdosi Finocchi Quando questo cazzo di semaforo Diventerà verde Io Piggerò l'acceleratore a tavoletta E vi farò finire Tutti quanti fuori strada Vagabondi smidollati Sì Sfidare i bastardi Sul loro terreno Piombare sgommando Sulle strisce pedonali Derrapare E impennarsi Con una bottiglia di rum in mano E clacson sparato Che copre la musica Occhi vitrei Follemente dilatati Dietro piccole lenti nere Da gangster bordate d'oro Gridando frasi inarticolate Un autentico Ubriaco Pericoloso Tra sudante etere E psicosi terminale Far salire i giri del motore Fino a un terribile Acutissimo lamento Tambureggiante Lo scattare Del verde Quante volte si presenta Un'occasione simile Strapazzare i bastardi Fino a scuotergli la milza I vecchi elefanti Si trascinano in cima Alle colline Per morire I vecchi americani Vanno in autostrada E guidano a morte Sui loro macchinoni Ma il nostro viaggio Era diverso Era la classica affermazione Del tutto è a posto E autentico Decente Nello stile nazionale Era un grosso lano Fisico Tributo alle fantastiche Possibilità di vita In questo paese Ma solo per quelli Dotati di autentica grinta E noi di quella Eravamo stracarichi Il mio avvocato Aveva afferrato il concetto Nonostante il suo Handicap razziale Ma il nostro autostoppista Non era una persona Facile da prendere Aveva detto Di avere capito Ma io vedevo Nei suoi occhi Che non era vero Mi stava mentendo Improvvisamente La macchina scartò di lato Uscì di carreggiata E si fermò Slittando sulla ghiaia Io fui scaraventato Contro il cruscotto Il mio avvocato Crollò sul volante Che succede? Urlai Non possiamo fermarci qui Questa è una terra Di pipistrelli Il cuore Gemette Dov'è la medicina? Oh Dissi La medicina Sì È proprio qui È proprio qui Trovai il popper Nel cassettino Il ragazzo Pareva pietrificato Non preoccuparti Gli dissi Quest'uomo Ha un cuore malconcio Angina pectoris Ma abbiamo la medicina giusta Già Eccola qui Presi quattro fialette Dalla scatoletta di latta E ne passai due Al mio avvocato Lui Immediatamente Se ne spezzò una sotto al naso E io feci altrettanto Feci una lunga tirata E ricadde all'indietro Sul sedile Fissando dritto Contro il sole Accendi quella cazzo di musica Gridò Ho il cuore Che sembra un alligatore Volume Tono Bassi Dobbiamo metterci i bassi Agitava contro il cielo Le braccia nude Cosa c'è che non va Siamo delle vecchie signore del cazzo Sparai a tutta Sia la radio Sia il registratore Tu Vile a zecca garbugli Bastardo Dissi Vada come ti esprimi Stai parlando con un dottore In giornalismo Lui si era messo a ridere Senza controllo Cosa cazzo ci facciamo in pieno deserto Gridò Qualcuno Qualcuno chiami la polizia Abbiamo bisogno d'aiuto Non badare a questo porco Disse all'autostoppista Non regge la medicina In realtà siamo entrambi dottori in giornalismo E stiamo andando a Las Vegas Per seguire la faccenda più importante Della nostra generazione E cominciai a ridere anche io Il mio avvocato si piegò Per mettersi faccia a faccia Con l'autostoppista La verità Disse È che stiamo andando a Las Vegas Per ammazzare un boss dell'eroina Di nome Savage Henry Ci conosciamo da anni E nonostante ciò Ha provato a fregarci E tu capisci cosa vuol dire questo No? Avrei voluto zittirlo Ma ridevamo entrambi Senza rimedio Cosa cazzo ci facevamo In pieno deserto Se eravamo malati di cuore Savage Henry Ha incassato l'assegno Ringhiò il mio avvocato Al ragazzo sul sedile di dietro E noi Stiamo andando a strappargli via I polmoni E a mangiarceli Aggiunsi io Distinto Quel bastardo Non la farà a Frank Cosa succederebbe A questo paese Se un lecca merda come lui Riuscisse a buggerare Un dottore in giornalismo Nessuno rispose Il mio avvocato Stava spezzando Un'altra fialetta di Popper E il ragazzo Stava abbandonando la vettura Calandosi giù Dalla bauliera Dopo aver scavalcato il sedile Grazie del passaggio Urlò Grazie mille davvero Sono stato molto bene con voi Non preoccupatevi per me Come i piedi toccarono l'asfalto Cominciò a correre all'indietro In direzione di Baker In pieno deserto Neanche un albero in vista Aspetta un momento Gli urlai Torna indietro e fatti una birra Ma non doveva già più sentirmi La musica era molto alta E lui se la stava battendo A grande velocità Che liberazione Disse il mio avvocato Avevamo un vero freak Per le mani Mi rendeva nervoso Hai visto i suoi occhi? Stava ancora ridendo Cristo Disse Questa è proprio una buona medicina Apri lo sportello E vacillai intorno alla macchina Fino al posto di guida Togliti di mezzo Ordinai Guido io Dobbiamo lasciare la California Prima che quel ragazzo Trovi un poliziotto Merda Ci metterà ore Disse il mio avvocato E' a 150 km da qualunque cosa Come noi Dissi Giriamo il culo E torniamocene al polo lunch Disse lui Nessuno verrà a cercarci proprio là Lo ignorai Apri la tequila Urlai Quando ricominciò il rombo del vento E appena rientrati sull'autostrada Pigiai a fondo l'acceleratore Un momento dopo Lui era piegato su una cartina C'è un posto fra un po' Che si chiama Mescal Springs Disse In qualità di tuo avvocato Ti consiglio di fermartici E farci una nuotatina Scossi il capo E' assolutamente imperativo Che arriviamo al Mint Hotel Prima che chiudano la registrazione Dei giornalisti accreditati Dissi In caso contrario La suite dovremmo pagarla noi A noi Senti Lasciamo perdere questa stronzata Del sogno americano Quello che conta è il grande sogno samuano Stava rovistando nel cassettino Penso Si è tempo di farsi un acido Disse Quella mescalina da quattro soldi E' già svanita da un pezzo E non so proprio Se potrò sopportare Ancora la puzza Di quel maledetto etere A me piace Dissi Dovremmo inzupparci una salvietta E poi metterla sul tappetino Sotto l'acceleratore Così che i fumi Mi salgano in faccia Fino a Las Vegas Stava spegnendo il registratore La radio continuava a gracchiare Power to the people ride on L'inno politico di John Lennon Dieci anni in ritardo Quel povero scemo avrebbe dovuto Rimanere al suo posto Disse il mio avvocato Teppistelli come lui rompono solo i coglioni Quando cercano di fare i seri A proposito di cose serie Dissi Penso sia giunto il momento di etere e cocaina Lascia stare l'etere Disse lui Serviamolo per inzupparci lo zerbino della suite Ma ecco qua La tua metà del radioso trip Masticalo come fosse un chewing gum Resi il tampone di acido E lo ingoiai Il mio avvocato ora Stava armeggiando con la saliera Contenente la cocaina La stava aprendo La stava rovesciando Stava urlando e annaspando nel vuoto Mentre la nostra amata polvere bianca Si spargeva sull'autostrada deserta Una costosissima piccola tromba d'aria Che saliva sul grande squalo rosso Oh Cristo Gemette Hai visto cosa ci ha appena fatto il Dio Non l'ha affatto il Dio Urlai L'hai fatto tu Sei un fottuto agente della narcotici Ecco cosa sei Ho visto tutta la tua merdosa manovra dall'inizio Maiale Vedi di stare in campana Fece lui E improvvisamente mi stava agitando sotto il naso Una grossa 357 Magnum nera Una di quelle Colt Python Dal naso rincagnato e col tamburo smussato È pieno di avvoltoi qui intorno Ti ripuliscono le ossa Prima che venga giorno Brutta puttana Dissi Quando arriviamo a Las Vegas Ti trito in un hamburger Cosa credi che farà la banda della droga Quando mi presenterò con un agente Delle narcotici samuano Ci ammazzerà tutti e due Rispose Sevegendri mi conosce Cazzo sono il tuo avvocato Scoppiò in una risata selvaggia Sei pieno di acido scemo Farà un maledetto miracolo Se riusciremo a raggiungere l'hotel Prima che ti sia trasformato in un animale selvatico Sei pronto per farlo? Insediarti in un albergo di Las Vegas sotto falso nome? Con testa piena d'acido e l'intento di commettere una frode aggravata? Rise di nuovo Poi spinse il naso contro la saliera Puntando il biglietto da 20 dollari arrotolato direttamente sulla polverina superstite Quanto tempo mi rimane? Domandai Mezz'ora Forse Rispose In qualità di tuo avvocato Ti consiglio di andare a tutto fuoco Las Vegas era giusto là davanti Potevo vedere lo skyline dei grandi alberghi dello strip Accennarsi attraverso la nebbiolina blu del deserto Il Sahara, il landmark e poi l'americana e il sinistro Thunderbird Un grappolo di rettangoli grigi in lontananza che spuntavano tra i cactus Mezz'ora La cosa si faceva imminente L'obiettivo era la grande torre dell'hotel Mint In centro E se non fossimo riusciti ad arrivarci prima di aver perso totalmente il controllo C'era anche la prigione di stato su a Carson City C'ero passato una volta Ma solo per un colloquio con i detenuti E non volevo tornarci mai più Per nessuna ragione al mondo Perciò non c'era proprio scelta Dovevamo passare alle forche caudine E al diavolo l'acido Superare tutte le beghe ufficiali Piazzare la macchina nel garage dell'albergo Lavorarsi l'impiegato alla reception Trattare col fattorino E firmare per gli accrediti stampa Tutto falsificato Totalmente illegale Una truffa bella e buona Ma naturalmente Andava fatto Uccidi il corpo e la testa morirà Questa frase compare nel mio quaderno Per qualche ragione Forse ancora in relazione a Joe Frazer E' ancora vivo? E' ancora in grado di parlare? Ho visto quel match a Seattle Orribilmente fatto a quattro poltrone di distanza dal governatore Un'esperienza assai dolorosa sotto tutti i punti di vista Un vero e proprio epilogo degli anni 60 Tim Leary prigioniero di Eldridge Cleaver in Algeria Bob Dylan a collezionare buoni sconto al Greenwich Village Entrambi i Kennedy assassinati da dei mutanti Olsey che piegava tovaglioli a Terminal Island E infine Cassius Salì Incredibilmente detronizzato da un hamburger umano Un uomo a tu per tu con la morte Joe Frazer Come Nixon alla fine aveva vinto per ragioni che gente come me rifiutava di comprendere Almeno ad alta voce Ma quella era un'altra era Bruciata e distanziata dalla brutale realtà di quello sporco anno del signore 1971 Erano cambiate molte cose in quegli anni E io ero finito a Las Vegas perché il redattore di motociclistica di una ricca rivista patinata Mi ci aveva mandato a bordo del grande Squal Rosso Per ragioni che nessuno desiderava sapere Vai a dare un'occhiata avevano detto E poi ci pensiamo noi Certo a dare un'occhiata Ma quando alla fine siamo arrivati all'hotel Mint Il mio avvocato era incapace di tenere adeguatamente testa alla procedura di registrazione Eravamo obbligati a stare in coda dietro a tutti gli altri Il che si dimostrava estremamente difficoltoso date le circostanze Continuavo a dirmi Calmo, tranquillo, non dire nulla Parla solo quando ti si rivolgono Nome, qualifica e testata giornalistica Nulla più Ignora questa terribile droga Fai finta che non stia facendo effetto Non c'è modo di spiegare il terrore che mi prese Quando finalmente feci il passo verso l'impiegata e cominciai a babalbettare Tutte le mie frasi, imparata in memoria Svanirono di colpo davanti allo sguardo duro e minaccioso di quella donna E là Dissi Mi chiamo Raul Duke Sì, nella lista Questo è certo Pasti gratis, illuminazione finale, copertura totale Perché no? Con me c'è il mio avvocato E mi rendo perfettamente conto che il suo nome non è sulla lista Ma noi dobbiamo avere quella suite Sì Quell'uomo in realtà è il mio autista Abbiamo portato fin qui questo squalo rosso dallo strip E ora è venuto il tempo per il deserto, giusto? Sì Controlli la lista e vedrà Non si preoccupi Cosa sta succedendo qui? Che altro c'è? La donna non batte ciglio La sua stanza non è ancora pronta Disse Ma c'è qualcuno che vi sta cercando? No! Gridai Non abbiamo ancora fatto niente Mi sentivo le gambe di gomma Mi aggrappai al banco e mi chinai verso di lei mentre mi porgeva la busta Mi rifiutai di prenderla La faccia della donna stava cambiando Si gonfiava Si gonfiava, pulsava Orribili macelle verdi e zannute sporgenti La faccia di una murena Beleno mortale Mi buttai all'indietro verso il mio avvocato che mi afferrò le braccia mentre prendeva la busta Me ne occupo io Disse la donna murena Quest'uomo è malato di cuore Ma io sono pieno di medicine Mi chiamo dottor Gonzo Preparate subito la nostra suite Noi aspetteremo al bar Mentre lui mi portava via la donna scrollò le spalle In una città piena di pazzi scatenati un fricchi in acido non viene nemmeno notato Lottammo per attraversare la lobby affollatissima e trovammo due sgabelli al bar Il mio avvocato ordinò due cuba libre con birra e mescala a parte Poi aprì la busta Chi è la Serta? Domandò Ci sta aspettando in una stanza al dodicesimo piano Non riuscivo a ricordare La Serta Quel nome faceva suonare un campanello Ma non riuscivo a concentrarmi Cose terribili stavano accadendo intorno a noi Giusto accanto a me Un rettile immenso stava mordendo una donna sul collo Il tappeto era una spugna inzuppata di sangue Impossibile camminarci sopra Nessuna possibile aderenza Ordine delle scarpe da golf Sussurrai Altrimenti non riusciremo vivi da questo posto Come puoi vedere Queste lucertole non hanno problemi a muoversi in questo porcaio Ed è perché hanno gli artigli sotto le zampe Lucertole Disse Se pensi di essere nei guai adesso Aspetta di vedere cosa succederà negli ascensori Si tolse i suoi occhiali da sole ai brasiliani E vidi che aveva pianto Sono appena andato di sopra da quella Serta Disse Gli ho detto che sappiamo dei suoi traffici Sostiene di essere un fotografo Ma quando ho nominato Sava Jerry Beh Ha funzionato Panico Gliel'ho visto negli occhi Ha capito che gli stiamo sopra Ha capito che abbiamo delle magnum? Domandai No Ma gli ho detto che abbiamo una Vincent Black Shadow E l'ho fatto pisciare sotto Bene Dissi E che ne è della nostra stanza? E delle scarpe da golf? Siamo nel bel mezzo di un fottuto rettilario E qualcuno sta facendo ubriacare questi maledetti mostri Non ci vorrà molto perché ci facciano a brandelli Cristo Guarda per terra Hai mai visto tanto sangue? Quanti ne hanno già ammazzati? Indicai un gruppo di là nella sala che sembrava fissarci Santa merda Guarda quella banda laggiù Ci hanno individuato Quello è il tavolo della stampa Disse lui E dove devi andare a firmare per farti consegnare gli accrediti? Merda Sbarazziamoci delle formalità Tu occupati di quello Io mi farò dare la stanza Capitolo 4 Musica orrenda e rumore di molti fucili da caccia Rudi vibrazioni del sabato sera a Las Vegas Prendemmo possesso della suite verso il crepuscolo E il mio avvocato telefonò subito al servizio in camera Per ordinare 4 club sandwich 4 cocktail di scampi 1 litro di rum E 9 pompelmi freschi Vitamina C Spiegò Più ne prendiamo Meglio è Ne convenni Nel frattempo l'alcol stava cominciando a soppiantare l'acido E le mie allucinazioni erano scese a un livello più tollerabile Quello del servizio in camera aveva ancora tratti vagamente rettiliformi Ma io avevo smesso di vedere immensi pterodattili ammassati nei corridoi in pozze di sangue fresco Il solo problema adesso era una gigantesca insegna neon fuori dalla finestra che ci ostruiva La vista sulle montagne Milioni di palle colorate che correvano lungo un tracciato molto complicato Strani simboli e filigrane emananti un forte ronzio Guarda un po' fuori Dissi Perché? C'è una grande macchina nel cielo Una specie di serpentone elettrico Che viene dritto contro di noi Sparagli Disse il mio avvocato Non ancora Dissi Prima voglio studiare le sue abitudini Ci spostammo nell'angolo e cominciammo a tirare una catenella per chiudere le tende Guarda Fece lui Che la devi piantare con questi discorsi sui serpenti e sanguisughe E lucertole e roba simile Mi stai ammorbando Non preoccuparti Dissi Preoccuparmi? Cristo Ci sono quasi impazzito giù nel bar Non ci faranno entrare mai più in quel posto Non dopo la tua scenata al tavolo della stampa Che scenata? Ti ho lasciato solo per tre minuti Bastardo che non sei altro L'hai fatto cacare sotto Quella brava gente Agitando quel maledetto aculeo di pesce spada E gridando Aiuto I rettili Per fortuna sono tornato in tempo Stavano per chiamare la polizia Gli ho detto che eri un po' brillo e che ti portavo in camera a fare una doccia fredda Cazzo L'unica ragione per cui ti hanno dato gli accrediti è stato di toglierti di torno Girava in cerchio nervosamente Cristo Quella scena mi ha fatto tornare completamente a terra Ho bisogno di droga Che ne hai fatto della mescalina? La sacca Risposi Aprì la sacca e ingurgitò due pillole mentre accendevo il registratore Forse potresti prenderne una anche tu Disse Sei ancora in acido Giusto Dobbiamo uscire a vedere la pista prima che faccia buio Dissi Ma abbiamo tempo per guardare il notiziario alla tv Apriamo questi pompelmi e facciamoci un bel ponch a rum Magari Infiliandoci dentro un po' di acido Dov'è la macchina? L'abbiamo lasciata a un tale nel parcheggio Ho il biglietto nella cartella Che numero? Così chiamo giù e la faccio lavare La bastarda Per togliere tutta quella polvere e quel sudiciume Buona idea Disse Ma non trovava più il biglietto Cazzo Siamo fottuti Dissi Non li convinceremo mai a darci quella macchina senza una prova Si mise a pensare un momento Poi alzò il telefono e si fece passare il garage Qui è il dottor Gonzo della 8 e 50 Disse Devo aver perso lo scontrino della decappottabile rossa che vi ho lasciato Ma la voglio pulita e pronta tra mezz'ora Può mandarmi su un duplicato dello scontrino Cosa? Oh Bene Perfetto Riattaccò e raggiunse la pipa da hashish Nessun problema Nessun problema Disse Quell'uomo ricorda la mia faccia Molto bene Feci Probabilmente hanno anche una grossa rete profonda per quando ci faremo vedere Scosse la testa In qualità di tuo avvocato ti consiglio di non preoccuparti per me Il telegiornale parlò dell'invasione del Laos Una serie di disastri orripilanti Esplosioni e lamiere contorte Uomini terrorizzati che fuggivano Generali del pentagono che blateravano scene menzogne Spegni quella merda! Gridò il mio avvocato Usciamo da qui! Una mossa saggia Pochi istanti dopo aver ritirato la macchina Il mio avvocato cadde in un coma di sostanze stupefacenti E bucò un rosso sulla Main Street Prima che io riuscissi a prendere il controllo della macchina La puntellai sul sedile accanto e mi misi io al volante Mi sentivo bene Estremamente lucido Intorno a me, nel traffico Vedevo persone che parlavano E mi venne la voglia di sentire che cosa si stavano dicendo Tutte quante Ma il microfono direzionale era nel bagagliaglio E decisi di lasciarlo lì Las Vegas non è il tipo di città In cui ti venga voglia di guidare Con uno strumento a forma di bazooka Puntato verso la gente Accendi la radio Accendi il registratore Guarda il tramonto là davanti Tira giù i finestrini Per godere meglio del vento fresco del deserto Ah sì Era tutto lì Controllo totale Ora Scarrozzarsi lungo la strada principale di Las Vegas al sabato sera Due vecchi bravi ragazzi in una decapottabile rossofiamma Fatti Intontiti Alterati Brava gente Grandio Cos'è questa musica terribile? No, non potevo ascoltare una cosa simile Doveva essere la droga Mi sporsi verso il mio avvocato Ma lui stava fissando il cielo E vidi che il suo cervello Se n'era andato anch'esso In quel campo di là del sole Ringraziando Dio Non può sentire questa musica Pensai Avrebbe potuto trascinarlo In qualche paranoia razzista Pietosamente La canzone finì Ma il mio umore Era già sconvolto E ora Subentravo al malvagio succo di cactus A buttarmi in un terrore subumano Quando d'improvviso Arrivamo allo svincolo per il Mint Gun Club Il circolo del tiro Un miglio Diceva il segnale Ma anche a un miglio di distanza Io sentivo il grido crepitante Dei due tempi che sgrassavano E poi Sempre più vicino Sentivo anche un altro rumore Fucilate Impossibile confondere Quelle esplosioni vuote e secche Fermai la macchina Che cazzo succede laggiù? Tirai su i finestrini E mi avviai giù per il vialetto di ghiaia Rincagnato sotto il volante Finché vidi una dozzina di sagome Che puntavano i fucili in aria E sparavano a intervalli regolari In piedi su una lastra di cemento Quaggiù nel deserto di Meschite Questa piccola oasi Spellacchiata in una terra desolata A nord di Las Vegas Erano raggruppati con i loro fucili A una cinquantina di metri di distanza Da un cubo di cemento di un solo piano Mezzo coperto da dieci o dodici alberi E circondato da macchine della polizia Carrelli e motociclette Ma certo Il Mint Gun Club Quegli schizzati Non lasciavano che nulla interferisse Con la loro esercitazione di tiro Ecco quasi cento motociclisti Meccanici e appassionati assortiti Che si assiepavano ai box Firmavano per la gara dell'indomani Succhiavano pigramente birra E si esaminavano a vicenda l'equipaggiamento E nel ben mezzo di tutto ciò Incurante di qualunque cosa Tranne che dei piccioni di terracotta Fatti uscire dalla gabbia Ogni cinque secondi dai lanciapiattelli Il popolo dei fucili Non perdeva un colpo Beh, perché no Pensai Le fucilate davano un certo ritmo Una specie di regolare linea di bassi Ai picchi alti del caos Nella scena dei motociclisti Parcheggiai la macchina E mi misi a vagabondare tra la folla Lasciando il mio vocato nel suo coma Presi una birra E mi misi a guardare La punzonatura delle moto Molte Ascavarna 405 Sofisticate palle di fuoco svedesi E anche molte Yamaha Kawasaki Qualche Triumph 500 Maiko Qua e là una CZ Una Pursan Tutte moto ultraleggere Cattive Molto veloci Neanche un Hog in questa categoria E nemmeno uno Sportster Che avrebbe fatto la figura Del nostro grande squalo rosso In una gara di Dune Buggy Forse potrei farlo Pensai Iscrivere come pilota il mio avvocato E spedirlo sulla linea di partenza Con la testa piena di etere e di acido Come l'avrebbero presa Nessuno oserebbe mettersi in pista Insieme ad un pazzo simile Farebbe fuori 4 o 5 Dune Buggy Già alla prima curva Una missione suicida Quanta è l'iscrizione? Chiesi a quello della giuria Due e cinquanta Disse lui E se ti dicessi che è una Vincent Black Shadow? Mi fissò Non molto amichevolmente Senza dir nulla E notai che portava una P-38 alla cintola Non importa Feci Tanto il mio pilota si sente poco bene I suoi occhi si fecero più vicini Non è il solo qua intorno Fratello Gli è rimasto un osso in gola Dissi Cosa? Si stava innervosendo Ma ad un tratto i suoi occhi volarono via Stava fissando qualcos'altro Il mio avvocato Senza più gli occhiali da sole danesi Senza nemmeno la camicia messicana Un vero pazzo Sembrava mezzo nudo e col respiro affannato Qual è il problema qui? Gracchiò Quest'uomo è un mio assistito Volete finire davanti a un giudice? Lo afferrai alla schiena e delicatamente lo sospinsi via Lascia stare Dissi È per via di quella Black Shadow Non possono accettarla Aspetta un momento Gridò Cosa significa che non possono accettarla? Ti sei messo a trattare con questi maiali? Certo che no Risposi Spingendolo verso il cancello Ma come avrai notato Sono tutti armati Siamo gli unici qua che non hanno una pistola Riesci a sentire quella sparatoria laggiù? Si bloccò un istante all'ascolto E poi di colpo Si mise a correre verso la macchina Brutti succhiacazzi! Gridò oltre le proprie spalle Torneremo! Solo quando lo squalo infilò l'autostrada Fu in grado di parlare di nuovo Gesù Cristo! Come diavolo siamo finiti In mezzo a quella banda di esaltati psicopatici Andiamocene da questa città del cazzo Questi scarafaggi ci volevano uccidere Grazie a tutti! Capitolo 5 Fare il pezzo Rapida visione della stampa in azione Abiezione e fallimento I concorrenti erano pronti a levare del sole Bella l'alba nel deserto Molto tirata Ma la corsa non prese il via fino alle 9 Così fummo costretti ad ammazzare Tre lunghe ore al casino vicino ai box E fu lì che cominciarono i problemi Il bar apriva alle 7 C'era anche una coffee e donut canteen nel sottosuolo Ma quelli di noi che erano stati in piedi tutta la notte In posti come il Circus Circus Non erano dell'umore giusto per caffè e frittelle Volevamo alcolici La nostra disposizione d'animo era pessima ed eravamo più di 200 Così decisero di aprire il bar un po' prima Alle 8 e mezzo c'era una gran folla attorno ai tavolini dei dadi Il posto era pieno di rumori e di ubriachi che urlavano Uno sottoteppista di mezza età che portava una t-shirt della Harley Davidson Irruppe nel banco del bar e strillò Maledizione che giorno è oggi? Sabato? Vi pure domenica Qualcuno ribatté Ha! Bel casino vero? Gridò Harley Davidson a nessuno in particolare L'altra sera ero a casa giù a Long Beach E qualcuno mi ha detto che oggi si correva la Mint 400 E così io faccio la mia vecchia Donna! Dico Io vado Rise Così lei comincia a rompermi il cazzo sapete E allora io gliele suono E quello che ricordo subito dopo sono due tipi mai visti prima Che mi portano sul marciapiede e mi lavorano per benino Cristo mi hanno fatto nero Rise di nuovo Parlando nel mucchio senza dare l'impressione di preoccuparsi che qualcuno lo ascoltasse Sì cazzo Continuò Poi uno di loro dice Dov'è che vai? E io faccio Las Vegas alla Mint 400 E loro mi danno 10 dollari e mi accompagnano giù alla stazione del bus Si interruppe Almeno credo che fossero loro Beh ad ogni modo eccomi qui E vi dico che è stata una cazzo di nottata gente Sette ore su quel maledetto bus Quando mi sono svegliato era l'alba ed eccomi qui nel cuore di Las Vegas E lì per lì non ricordavo nemmeno cosa cazzo c'ero venuto a fare Tutto quello che riuscivo a pensare era Rieccoci Cristo Da chi divorzio stavolta? Accettò una sigretta da uno della folla Continuando a sogginare mentre l'accendeva Ma poi mi sono ricordato Per dio Ero qui per la Mint 400 E gente Era davvero tutto quello che c'era da sapere Vi dico che è bellissimo essere qui Chi se ne frega di chi vince o chi perde Proprio è bello essere qui insieme a voi Gente Nessuno lo contraddisse Tutti noi capivamo In certi ambienti la Mint 400 è molto, molto di più del Super Bowl Del Kentucky Derby E delle finali del Lower Oakland Roller Derby messi insieme Questa corsa attira una razza tutta speciale E il nostro uomo con la maglietta Harley ne faceva chiaramente parte Il corrispondente di Life annui con comprensione E strillò al barista Se vieni qui rubiamo quello che vuole Alla svelta Gracchiai Anzi facciamo 5 Lasciai andare una pacca sul banco con il palmo sanguinante Anzi cazzo portacene 10 Affare fatto Gridò quello di Life Stava perdendo la presa sul bancone Affondava lentamente sulle ginocchia Ma sempre parlando con assoluta autorità Questo è un momento magico per lo sport Potrebbe non ripetersi mai più Poi la sua voce parve spezzarsi Una volta ho seguito La Triple Crown Mormorò Ma non era nulla al confronto Una donna dagli occhi da rana lo artigliò alla cintura Alzati Supplicò Per favore tirati su Saresti un uomo così bello se solo ti reggessi in piedi Lui erise distrattamente Senti signora Schioccò Sono già quasi intollerabilmente bello qua giù dove mi trovo Diventeresti pazza se mi alzassi in piedi La donna continuava a tirarlo per la cintura Era rimasta a fissarlo da vicino per due ore E ora si era decisa a fare la propria mossa Ma l'uomo di Life non intendeva partecipare Crollò giù acciambellandosi definitivamente Mi voltai dall'altra parte Era uno spettacolo insostenibile Dopotutto eravamo la crema del giornalismo sportivo nazionale Ed eravamo lì riuniti con un compito molto speciale Raccontare la quadriennale Mint 400 E quando è il momento di una cosa come quella Non si può cazzeggiare più di tanto Ma ora Ancora prima che lo spettacolo cominciasse C'erano segnali che avremmo potuto perdere il controllo della situazione Eccoci qui In uno splendido mattino del Nevada Questa fredda luminosa alba del deserto Stravaccati in un untuoso bar Dentro a un fortino di cemento chiamato Mint Gun Club A una quindicina di chilometri da Las Vegas E con la corsa che stava per cominciare Eravamo pericolosamente disorganizzati Fuori i pazzoidi giocavano con le loro motociclette Coprivano i fari di nastro adesivo Davano l'ultima lubrificata alle forcelle L'ultima stretta ai bulloni Del carburante, del collettore, ecc E le prime dieci moto Esplosero allo scoccare delle nove Era qualcosa di estremamente eccitante E noi tutti uscimmo a guardare La bandiera si abbassò E quei dieci poveri diavoli Girarono la manetta E si fiondarono sulla prima curva Tutti insieme Dopodiché uno conquistò la testa Uno scavarna 405 mi pare E un applauso scoppiò Quando il pilota si voltò Prima di scomparire in una nuvola di polvere Beh, ecco fatto Disse qualcuno Ripasseranno tra un'oretta Torniamo al bar Non ancora No C'erano qualcosa come altre 190 moto Che aspettavano di partire Lo fecero dieci per volta Ogni due minuti All'inizio era possibile vedere Fino a una distanza di un paio di centinaia di metri Dalla linea di partenza Ma la visibilità non durò a lungo La terza mandata di dieci Scomparve nella polvere A circa 100 metri Da dove stavamo noi E quando ebbero fatto partire le prime 100 Con altre 100 ancora da fare La nostra visibilità era scesa A una quindicina di metri Riuscivamo a vedere giusto Le balle di fieno alla fine dei box Oltre a quel punto L'incredibile nuvola di polvere Che per i successivi due giorni Avrebbe gravato su quella parte del deserto Si era già fatta impenetrabile Nessuno di noi si rese conto Al momento Che quella era l'ultima cosa Che avremmo visto Della favolosa Mint 400 A mezzogiorno Era dura distinguere l'area del box Dal bar casino 30 metri più avanti Nel sole avvampante L'idea di raccontare questa cosa In qualunque senso giornalisticamente convenzionale Era assurda Era come cercare di tenere dietro A un campionato di nuoto In una piscina olimpionica Riempita di talco Anziché di acqua La Ford Motor Company Si era fatta avanti Come promesso Con un bronco e un autista per la stampa Ma dopo qualche corsa selvaggia nel deserto A cercare i motociclisti Trovandone occasionalmente qualcuno Lasciai questo veicolo ai fotografi E me ne tornai al bar Ero in tempo Mi accorsi Per un'agonizzante riconsiderazione di tutta la scena La corsa era definitivamente partita Avevo assistito all'inizio Quello era certo Ma ora? Noleggiare un elicottero? Tornare in quel bronco fetente? Errare in qualche maledetto deserto A guardare quella corsa di pazzi Quando passavano per i controlli? Uno ogni 13 minuti? A gruppi di 10 Erano sparsi per tutto il circuito Non era già più una corsa Ora era una sfida di durata L'unica azione visibile Era sulla linea di partenza arrivo Dove ogni tanto qualche sconvolto Sarebbe arrivato sfrecciando fuori dalla nuvola di polvere E sarebbe sceso baracollando dalla moto Mentre gli uomini della sua scuderia L'avrebbero tenuta su dei giri E poi lanciata di nuovo sul tracciato Con un pilota fresco Per un'altra tirata di 80 km Un'altra brutale Ora di paranoia spezzareni In quel terribile limbo di cieca polvere Verso le 11 Feci un altro giro sul veicolo stampa Ma tutto quel che trovammo Furono due dionbaghi piene di tipi Che sembravano sotto ufficiale di San Diego in pensione Ci tagliarono la strada In mezzo a un canale secco E domandarono Dov'è questa cazzo di corsa? E che ne so io? Dissi Siamo solo dei buoni patrioti americani Come voi altri Entrambe le loro dionbaghi Erano coperte di simboli truci Acquile urlanti Che tenevano bandiere americane tra gli artigli Un serpente dagli occhi storti Tagliato a pezzi da una sega elettrica Fatta di stelle e strisce E una delle macchine Aveva una specie di mitragliatrice Montata sul sedile posteriore Si divertivano con un po' di botti Scorrazzando per il deserto A tutta velocità E cacando il cazzo A chiunque incontrassero Di che compagnia siete? Gridò uno di loro I motori rombavano al massimo Potevamo sentirci a malapena Tampa sportiva! Urlai Genere amiconi Siamo gonzi in servizio Palli di sorrisi Se volete fare una buona caccia? Gridai Dovete andare dietro a quel farabutto della CBS Là davanti Nella jeep nera E' lui che ha fatto The Selling of the Pentagon Merda! Gridarono insieme due di loro Una jeep nera hai detto Rombarono via E noi pure Rimbalzando attraverso le rocce E la macchina di querce cactus Come rotola campo di ferro La birra che avevo in mano Volò in aria e colpì il tettino Poi mi ricadde addosso E mi infradiciò di schiuma calda Sei licenziato? Dissi all'autista Riportami ai box Era tempo mi accorsi Di mettere i piedi per terra Per riconsiderare questo lurido incarico E trovare il modo di venirne a capo La serda insisteva sulla copertura totale Voleva tornarsene in quella tempesta nel deserto E continuare a cercare La rara combinazione di pellicola e obiettivo Che potesse penetrare l'orrido malloppo Joe, il nostro autista, era disponibile Il suo vero nome non era Joe Ma così ci era stato ordinato di chiamarlo Avevo parlato col capo della Ford Motor Company La notte prima E quando aveva fatto menzione dell'autista Che ci avrebbe assegnato Aveva detto Il suo vero nome è Steve Ma voi dovrete chiamarlo Joe E perché no? Avevo risposto Lo chiameremo in qualunque modo vorrà essere chiamato Che ne pensa di... Zoom Niente scherzi Aveva detto l'uomo Ford Deve essere chiamato Joe La serda fu d'accordo a rientrare Ma a un certo punto Verso mezzogiorno Uscì di nuovo nel deserto In compagnia del nostro autista Ciao Io me ne tornai al Fortino Bar Casino Che in realtà era il Mint Gun Club Dove cominciai a bere di brutto A pensare di brutto E a buttar giù molti brutti appunti Capitolo 6 Una notte in città Confronto al Desert Inn Delirio di droga al Circus Circus Mezzanotte di sabato I ricordi di questa notte sono estremamente nebbiosi Tutto ciò che ho, come traccia È una tascata di schedine di cheno e tovaglioli da cocktail Tutti ricoperti di appunti scarabocchiati Eccone uno Provare l'uomo Ford Chiedere a un bronco per osservare la corsa Foto La serda a chiamare Perché non un elicottero Andare al telefono Una lavata di testa E questi stronzi Urlare di brutto Un altro invece dice Pubblicità in Paradise Boulevard Stopless and Topless Sesso di serie C In confronto a Los Angeles Adesivi sui capezzoli Qui Scopata integrali dal vivo a LA Las Vegas è una società di masturbatori armati La libidine qui è giocare Il sesso è un di più Un magico trip per i grandi giocatori Puttane d'albergo per i vincenti Seghe per gli sfigati Molto tempo fa Quando vivevo a Big Sur nella stessa strada di Lionel Oley Avevo un amico che amava andare a Reno per giocare a Dadi Era titolare di un negozio di articoli sportivi a Carmel E in un mese guidò la sua Mercedes fino a Reno Per tre fine settimana consecutivi Vincendo parecchio ogni volta Dopo quei tre viaggi Si ritrovò sopra di 15.000 dollari E così decise di saltare il quarto weekend E portò alcuni amici a cena a Nefante Sempre lasciate da vincenti Spiegò E d'altronde Il viaggio è una ammazzata Il lunedì mattina Ricevette una telefonata da Reno Dal general manager del casino Dove aveva vinto tutti quei soldi Abbiamo sentito la sua mancanza questo fine settimana Disse il GM I courpier si annoiavano Caspita Disse il mio amico Così il weekend successivo volò a Reno con un aereo privato Insieme a un amico e due ragazze Tutti special guest del general manager Per i grandi giocatori non si badava a spese E lunedì mattina lo stesso aereo L'aereo del casino Lo riportò all'aeroporto di Monterrey Il pilota gli prestò un diecino per telefonare a un amico Che gli desse un passaggio fino a Carmel Era sotto di 30.000 dollari E due mesi dopo Era nel mirino di una delle più toste agenzie di recupero crediti del mondo Vendette il negozio Ma non fu sufficiente Disse che per il resto Quelli potevano aspettare Si convinse che forse era meglio farsi prestare i soldi per finire di pagare Giocare forte è davvero un brutto affare E Las Vegas fa somigliare Reno all'accogliente pizzicheria vicino a casa Per un perdente Vegas è la peggiore città del mondo Fino a quasi un anno fa nei soborghi di Las Vegas c'era un cartello gigante che diceva Non giocate con la marijuana In Nevada Possesso 20 anni Vendita Ergastolo Perciò non ero del tutto a mio agio quel sabato notte Mentre giravo per il casino con una macchina imbottita di marijuana E la testa piena di acido Ci salvammo a pelo diverse volte A un certo punto Cercai di pilotare il grande squadro rosso fin dentro la lavanderia del Landmark Hotel Ma la porta era troppo stretta E le persone là dentro sembravano pericolosamente eccitate Andammo fino al Desert Inn per intercettare il recital di Debbie Reynolds e Harry James Non so te Dissi al mio avvocato Ma per il mio stile di vita è importante essere alla page Anche per il mio? Fece lui Ma come tuo avvocato ti consiglio di guidare fino al Tropicana E buttarti su Guy Lombardo E nella stessa stanza blu con i suoi Royal Canadians E perché? Perché cosa? Perché dovrei cacciare i miei sudati soldi per guardare un fottuto cadavere? Ascolta Disse lui Per quale ragione siamo qui? Per divertimento o per lavoro? Lavoro, naturalmente Risposi Stavamo girando in cerchio nel parcheggio di un posto che credevo fosse il Dunes Ma che si rivelò essere il Thunderbird o forse era la sierda Il mio avvocato stava scorrendo The Vegas Visitor in cerca di ogni accenno di evento Che cosa ne dici del Nickel Nick Slot Arcade? Disse Hot Slot! Sembra Gagliardo! Hot Dog a 29 centesimi! All'improvviso della gente prese a urlarci dietro Eravamo nei guai Due gorilla vestiti con cappotti militari in rosso oro erano spuntati sopra il cofano Che cazzo state facendo voi due? Strellò uno Non potete parcheggiare qui! E perché no? Dissi Sembrava un posto abbastanza ragionevole per parcheggiare Un sacco di spazio Ero in cerca di un posto da parecchio tempo Troppo tempo Ero quasi disposto ad abbandonare la macchina e chiamare un taxi Ma poi... Beh, avevamo trovato quel posto Che però in realtà era il marciapiede davanti all'entrata principale del Desert Inn Ero montato sopra così tanti marciapiedi fin lì Che quello non l'avevo nemmeno notato Ma ora ci trovavamo in una posizione che era difficile da spiegare Loccavamo l'entrata I gorilla ci urlavano dietro Un bel macello In un lampo il mio avvocato balzò fuori dalla macchina agitando un biglietto da 5 dollari Vogliamo un parcheggio per questa macchina? Sono un vecchio amico di Debbie Facevamo Baldoria insieme Per un momento pensai che avesse scazzato Poi uno degli inservienti alla porta ci raggiunse Prese il bigliettone e disse Ok, ok, me ne occupo io, signore E strappò un biglietto dal parcheggio Santa merda! Dissi Mentre correvamo nella lobby Eravamo quasi fritti Questo vuol dire pensare svelto Cosa ti aspettavi? Disse lui Sono il tuo avvocato E tu mi devi 5 dollari Li voglio subito Trollai le spalle e gli allungai la banconota Questa abbagliante lobby del Desert Inn Imbottita di soffici tappeti di Orlon Non pareva luogo adatto per mettersi a discutere sulle mance ai parcheggiatori Era il mondo di Bob Hope, di Frank Sinatra e di Spyro Enyu La lobby puzzava abbastanza di formica e palmizi di plastica Era chiaramente un rifugio d'alto bordo per grandi consumatori Ci avvicinammo alla grande sala da ballo pieni di fiducia Ma ci fu impedito di entrare Era troppo tardi Disse un uomo in smoking color vino La sala era strapiena Neanche una poltrona libera, a qualunque prezzo Chi se ne frega delle poltrone? Disse il mio avvocato Siamo vecchi amici di Debbie Siamo venuti in macchina da Los Angeles Per questo spettacolo E col cazzo che restiamo fuori L'uomo in smoking cominciò a blatterare di enorme antincendio Ma il mio avvocato si rifiutò di ascoltare Alla fine, dopo un bel po' di rumore Quello ci fece entrare gratis A patto che ce ne stessimo buoni buoni in piedi sul fondo Senza fumare Glielo promettemmo Ma nel momento stesso in cui entrammo dentro Perdemmo il controllo La tensione era stata troppo grande Debbie Reynolds stava starnazzando da su e giù Per il palcoscenico Con una parrucca afro argentata Sulle note di Sgt. Peppers Provenienti dalla tromba d'oro di Harry James Merda sciolta di Gesù Disse il mio avvocato Siamo finiti nella macchina del tempo Mani gigantesche ci afferrarono per le spalle Mi infilai in tasca la pipa da hashish appena in tempo Fummo trascinati per la lobby dai buttafuori E tenuti schiacciati contro la porta d'ingresso Finché non fu rintracciata la nostra macchina Ok, sparite Disse l'uomo in smoking color vino Vi diamo una possibilità Ma se Debbie ha amici come voi Allora è messa anche peggio di quanto pensassi Ti sistemeremo noi Urlò il mio avvocato Mentre ce la filavamo in macchina Brutto verme paranoico Uidai fino al casino del Circus Circus E parcheggiai vicino alla porta posteriore Questo è il posto Dissi Qui non ci fotteranno mai Dov'è l'etere? Chiese il mio avvocato La mescalina non mi sta facendo un cazzo Gli detti la chiave del bagagliaio Mentre accendevo la pipa da hashish Tornò con la bottiglietta di etere già strappata Poi ne rovesciò un po' su un Kleenex E lo schiacciò contro il naso Respirando profondamente Insuppai un altro fazzoletto E riempì anche il mio naso L'odore era devastante Anche sull'altro lato Poco dopo Stavamo barcollando per le scale dell'entrata Ridendo e spintonandoci come due ubriachi Questo è il maggior vantaggio dell'etere Gli fa comportare come lo sbronzo del villaggio Di qualche antico romanzo irlandese Perdita totale di ogni più elementare abilità motoria Vista offuscata Niente equilibrio Lingua insensibile Interruzione di ogni rapporto tra il corpo e il cervello Quel che è interessante è che il cervello continua a funzionare più o meno normalmente Cioè puoi osservarti Mentre ti comporti in quel modo tremendo Ma non puoi farci nulla Ti avvicini alla porta girevole che dà accesso al Circus Circus E sai bene che quando ci sarai dovrai allungare all'uomo un paio di dollari Perché altrimenti quello non ti farà entrare Ma quando ci sei va tutto storto Paloti male la distanza dalla porta girevole e ci vai a sbattere contro Rimbalzi indietro e ti aggrappi a una vecchia signora per non cascare Qualche rotario inferocito ti dà uno spintone e tu pensi Cosa sta facendo? Che succede? Poi ti scopri a borbottare Il cane si è fottuto il papa Non è colpa mia Attenzione Soldi di che? Mi chiamo Brinks Sono nato Nato Imbarcate prima le pecore Donne e bambini nella carrozza blindata Ordine del capitano Zip Ah etero e diabolico Droga corporea totale La mente inorridisce Incapace di comunicare con la colonna vertebrale Le mani armeggiano pazzamente Incapaci di cavare il denaro dalla tasca Risate mozze e sibili fuori dalla bocca Sempre sorridendo L'etere è una droga perfetta per Las Vegas In questa città amano gli ubriachi Carne fresca Così ci misero dentro alla porta girevole E ci fecero entrare liberamente Il Circus Circus è quello che sarebbe il jet set del sabato sera Se i nazisti avessero vinto la guerra E' il sesto Reich Il piano terra è pieno di tavoli da gioco Come in tutti gli altri casinò Ma il vano è alto all'incirca 6 piani Tipo tendone da circo E in questo spazio si sviluppa ogni possibile espressione di follia Da fiera cittadina a feste de noartri Giusto sopra i tavoli da gioco I Forti Flying Carazo Brothers Stanno eseguendo un ardito numero a trapezio Insieme a 4 ghiottoni in muserruole E alle 6 Nymphed Sisters di San Diego E così tu te ne stai giù al piano terra a giocare a blackjack E stai giusto rinforzando le puntate Quando ad un tratto ti viene di guardare in alto E lassù Dritto sopra la tua testa Vedi una 14enne mezza nuda rincorsa nell'aria da un ghiottone ringhiante Che viene improvvisamente risucchiato in una battaglia mortale Con due polacchi pitturati d'argento Che piombano giù da due opposti balconi E si incontrano a mezz'aria sul collo del ghiottone Entrambi afferano l'animale Prima di precipitare tutti e tre verso i tavoli dei dadi Ma poi rimbalzano sulla rete Si preparano e risaltano su verso il tetto In tre differenti direzioni E proprio quando sono sul punto di cadere Di nuovo sono acchiappati per aria da tre gattine coreane Riportati sul bancone a bordo di un trapezio Questa follia va avanti all'infinito Ma nessuno sembra farci caso Il gioco d'azzardo funziona 24 ore al giorno E il circo non si ferma mai Nel frattempo su tutti i ballatoi in cima alle scale Clienti vengono centrifugati in ogni stronzata possibile e immaginabile Tutta la gamma di baracche del parco dei divertimenti Spara via gli adesivi dai capezzoli di una uoma Alta tre metri e vinci una capra di zucchero filato Rimanete davanti a questa fantastica macchina amici E per soli 99 centesimi La vostra faccia apparirà alta 60 metri In un mega schermo isato al sopra al centro di Las Vegas Altri 99 centesimi per un massaggio in voce Potrete dire qualunque cosa amici Giù vi ascolteranno Potete star certi Ricordate che sarete alti 60 metri Gesù Cristo Mi vedevo Sdraiato sul letto al Mint Hotel Mezzo addormentato A fissare pigramente la finestra Quando all'improvviso Uno schifoso nazista ubriaco Alto 60 metri Appariva nel cielo di mezzanotte Gridando spropositi al mondo Bisognerà chiudere bene le tende stanotte Una cosa simile potrebbe mandare un drogato A rimbalzare per la stanza Come una pallina da ping pong Le normali allucinazioni sono già abbastanza toste Ma dopo un po' Impari a tenere testa a cose Tipo vedere tua nonna morta Che si trascina fino alle tue gambe Con un coltello infilato tra i denti La maggior parte dei lisergisti Riesce a sopportare questo genere di cose Ma nessuno Può sopportare quest'altro trip La possibilità Che qualunque pezzente Con un dollaro e 98 in tasca Possa entrarsene al Circus Circus E di colpo apparire nel cielo Sopra al centro di Las Vegas 12 volte più grandi di Dio Urlando qualunque cosa Gli passi per la testa No Questa non è proprio Una città da droghe psichedeliche La realtà stessa è troppo sballata La mescalina buona Fa effetto lentamente La prima ora è tutta attesa Poi Circa a metà della seconda ora Cominci a maledire il verme che ti ha bidonato Perché non succede ancora nulla E ZANG Intensità diabolica Strane vampate e vibrazioni Una punizione molto dura in un posto come il Circus Circus Mi secca molto dirlo Fece il mio avvocato Quando sedemmo al bar Giostra Sul secondo ballatoio Ma questo posto mi dà sui nervi Penso che sto Per avere paura Insensato Eravamo seduti a un piccolo tavolo rotondo Di formica dorata E orbitavamo intorno al barista Guarda laggiù Dissi Due donne si scopano un orso polare Ti prego Disse lui Non dirmi queste cose Non ora Fece segno alla cameriera Di portarci altre due wild turkey Questo è l'ultimo per me Fece Quanti soldi puoi prestarmi? Non molti Perché? Devo andare Disse Andare? Sì Lasciare il paese Stanotte Calma Calma Feci Tra qualche ora sarai a posto No Disse lui Questa È una cosa seria Giorgio Meteschi era serio Dissi Gli hai visto cosa gli hanno fatto? Non fare lo stronzo Gridò Ancora un'ora in questa città E ammazzo qualcuno Vedevo che era il limite Quella terrorizzante intensità Che aveva quando si è all'apice Dell'aggressione della mescalina Ok Gli dissi Ti presterò del denaro Usciamo e vediamo quanto ci è rimasto Ce la faremo Disse lui Beh Dipende da quante cazzo di persone Urteremo da qui alla porta Vuoi uscire ad agio? Io voglio uscire in fretta Ok Ok Paghiamo il conto e alziamoci piano piano Siamo tutti e due fuori di testa Sarà una bella camminata Urlai alla cameriera Che ci portasse il conto Lei arrivò L'aria annoiata E il mio avvocato Si alzò in piedi Ti pagano Per scoparti Quell'orso Le chiese Come? Niente Niente Dissi frapponendomi Andiamo doc Andiamo giù a giocare Lo trascinai Fino al limite del bar Cioè a dire Fino all'orlo Della giostra Ma lui Si rifiutò di scendere Finché quella Non avesse smesso di gridare Non si ferma Dissi Non è previsto che si fermi Mai Taltai giù E mi girai ad aspettarlo Ma lui Non si muoveva E prima che io potessi Tirarlo giù Era scivolato via Non muoverti Gridai Farai tutto il giro E tornerai qui I suoi occhi Fissavano ciecamente in avanti Sbattendo di paura E confusione Ma non mosse un muscolo Finché non ebbe fatto tutto il giro Aspettai che si trovasse qui Davanti a me Poi Riuscii ad afferrarlo Ma lui balzò all'indietro E rimase su per un altro giro Questo mi innervosì alquanto Mi sentivo sul punto di sbroccare Il barista sembrava osservarci Carston City Pensai Vent'anni Rimontai sulla giostra E corsi intorno al bar Avvicinandomi da dietro Al mio avvocato E quando arrivamo al punto giusto Gli mollai uno spintone Piombò barcollando nel corridoio E cacciò un urlo infernale Quando perse l'equilibrio E andò giù Annaspando nella folla Rotolando come un tronco Poi di nuovo su A scatti I pugni stretti Come in cerca di qualcuno Da picchiare Lo avvicinai con le mani in alto Cercando di sorridere Sei caduto Dissi Ora andiamo A quel punto la gente Ci stava guardando sul serio Ma lo scemo continuava a non muoversi E io sapevo Cosa sarebbe successo Se lo avessi afferrato di nuovo Ok Feci Tu resti qui E finisci in prigione Io me ne vado Cominciai a camminare velocemente Verso le scale Ignorandolo Questo lo schiodò Hai visto Cos'è successo Disse appena mi ebbe raggiunto Un figlio di puttana Mi ha spinto da dietro Probabilmente è stato il barista Feci Forse voleva cazzottarti Per quello che hai detto alla cameriera Buon dio Andiamocene via da qui Dov'è l'ascensore Non Avvicinarti all'ascensore Dissi È esattamente ciò che vogliono da noi Intrappolarci In una scatola di metallo E portarci giù nel sottosuolo Mi guardai dietro Ma nessuno ci stava seguendo E non correre Dissi Avrebbero una scusa per spararci Annui Dando l'impressione di capire Camminammo in fretta Lungo il grande percorso centrale Passando velocemente Davanti a gallerie di tiro a segno Talette di tatuaggi Macchina cambia soldi E baracche dello zucchero filato Poi Fuori attraverso una serie di porte di vetro E in discesa sull'erba Fino al parcheggio Dove lo squalo rosso ci aspettava Guida tu Disse il mio avvocato Non credo di essere a posto Capitolo 7 Terrore paranoico E l'orrido spettro della sodomia Uno scintillare di coltelli E verdi acque Quando arrivamo al Mint Posteggiai sulla strada Di fronte al casino Girato l'angolo Del parcheggio principale Non era il caso Di rischiare un teatro Nella lobby pensai Nessuno dei due Poteva passare per sbronzo Eravamo entrambi ipertesi Vibrazioni estremamente minacciose Tutti intorno Attraversammo velocemente il casino E poi su per la scala posteriore Riuscimmo a raggiungere la stanza Senza incontrare nessuno Ma la chiave non apriva Il mio avvocato Lottava disperatamente con la serratura Questi bastardi ce l'hanno cambiata Gemeva Magari hanno perquisito la stanza Cristo siamo finiti D'un tratto la porta si aprì Esitammo E poi ci infilammo dentro Nessun segno di guai Spranga tutto Disse lui Usa tutte le catenelle In mano Aveva due differenti chiavi del Mint E le fissava Da dove spunta questa? Disse Sollevando la chiave con numero 1221 È la stanza di la serda Dissi Sorrise Già È vero Avevo pensato che ci potesse servire Per cosa? Andare da lui E scaraventarlo giù dal letto Con la manichetta antincendio No Dissi Lasciamolo in pace quel povero bastardo Ho l'impressione Che stia cercando di evitarci Per qualche ragione Non illuderti Fece lui Il portoghese figlio di puttana È pericoloso Ci osserva come un falco Mi guardò di traverso Come vi siete Messi D'accordo Io ho parlato al telefono Disse Mentre eri andato a far lavar la macchina Ha detto che andava a letto presto Così poteva essere sulla linea di partenza all'alba Il mio avvocato non mi ascoltava E mise un grido pieno di angoscia E colpì il muro con tutte e due le mani Quel lurido bastardo Gridò Lo sapevo Si è preso la mia donna Mi venne da ridere Quella biondina della troupe televisiva Pensi che l'abbia sodomizzata? Proprio così E tu ci ridi Strillò Voi maledetti bianchi siete tutti uguali Nel frattempo aveva aperto una bottiglia di tequila E la stava tracannando A lunghi sorsi Poi prese un pompelmo e lo tagliò a metà con un grember mini magnum Un coltello da caccia di acciaio inossidabile con una lama Che sembrava un rasoio appena arrotato Dov'hai preso quel coltello? Gli chiesi L'ha mandato il servizio in camera Rispose Volevo qualcosa per tagliare i cedri Quali cedri? Non ne avevamo Disse Pare che non riescano a crescere nel deserto Tagliò il pompelmo in quattro Poi in otto Poi in sedici spicchi Poi cominciò a tagliuzzare il tutto forse natamente Quell'urino rospo bastardo Ringhiò Lo sapevo che avrei dovuto farlo fuori quando ne avevo l'occasione Ora A lei Ricordavo quella ragazza Avevamo avuto un problema con lei nell'ascensore qualche ora prima Il mio avvocato aveva fatto il coglione Tu devi essere un concorrente Gli aveva detto la ragazza In che categoria sei iscritto? Categoria Era saltato su Che cazzo intendi dire? Cosa Monti? Aveva chiesto lei con un breve sorriso Stiamo filmando la corsa per una serie tv Magari potremmo utilizzarti Utilizzare me! Madre di Dio pensai Ci siamo L'ascensore era stipato di gente della corsa Impiegava moltissimo tempo per passare da un piano all'altro Quando si era fermato al terzo Il mio avvocato stava tremando malamente Ancora cinque piani Io monto le maxicilindrate! Gridò ad un tratto Mi ingroppo solo quelle gran puttanone Risi Cercando di sdrammatizzare La Vincent Black Shadow Dissi Siamo della scuderia ufficiale Questo provocò un mormorio di aspro dissenso nella folla Stronzate Borbottò uno dietro di me Aspetta un momento Gridò il mio avvocato E poi alla ragazza Mi scusi signorina Ma io Credo che in questa cabina Ci sia qualche sottospecie Di bastardo masticapolli Che ha bisogno Che gli si apra la faccia in due Affondò la mano nella tasca del giubbotto di plastica nera E si girò per fronteggiare la gente ammucchiata sul retro dell'ascensore Banda di finocchietti bianchi da quattro soldi Ringhiò Chi di voi vuol farsi spaccare in due? Io guardavo l'indicatore dei piani La porta si aprì al settimo e nessuno si mosse Silenzio mortale La porta si chiuse Su all'ottavo E di nuovo la porta che si apre Ancora né suoni né movimenti della cabina fitta di gente Proprio mentre la porta si richiudeva Saltai fuori afferrandolo per un braccio E tirandomelo dietro appena in tempo La porta finì di chiudersi e la lucetta dell'indicatore scattò sul nove Presto! In camera! Dissi Quei bastardi ci scateneranno dietro gli sbirri! Di corsa avevamo girato l'angolo verso la camera Il mio avvocato rideva selvaggiamente Aterriti! Gridava Hai visto? Erano tutti... Tutti atterriti Come topi in trappola! Poi Sprangata la porta dietro di noi Aveva smesso di ridere Maledizione! Aveva detto È una cosa seria ora La ragazza Ha sgamato E si è innamorata di me Adesso Molte ore dopo Si era convinto che quella serda Il fotografo così chiamato Avesse in qualche modo messo le mani sulla ragazza Andiamo su e castriamolo Quel bastardo Disse Muovendo il coltello in rapidi cerchi davanti ai denti Di un po' Gliel'hai fatta beccare tu? Senti Dissi È meglio che metti via quella maledetta lama E ti schiarisci il cervello Devo andare a mettere la macchina nel parcheggio Stavo indietreggiando lentamente verso la porta Una delle cose che si imparano Avendo a che fare per anni con gente drogata È che tutto è pericoloso Gira le spalle a chiunque Ma non a un drogato Specialmente quando ti sta agitando sotto gli occhi La lama affilata di un coltello da caccia Fatti una doccia Dissi Tarò qui Tra una ventina di minuti Me ne andai di corsa Chiudendo la porta a chiave E portandomi dietro quella della camera di la serda Quella che il mio avvocato aveva rubato Quel povero farlocco Pensai Mentre scendevo le scalle di corsa Lo mandano qui con un incarico assolutamente ragionevole Solo un po' di foto di motociclette e di un buggy Che corrono nel deserto E si ritrova senza nemmeno accorgersene Nelle viscere di un mondo fuori dalle sue possibilità di comprensione Non c'era modo che potesse capire cosa stava succedendo Cosa stavamo facendo lì? Che significato aveva quel viaggio? Avevo veramente una grande decappottabile rossa parcheggiata in strada? Stavo solo vagando per le scale di quel mint hotel sotto l'effetto delle droghe? O ero davvero venuto a Las Vegas per scrivere un pezzo? Recuperai nella tasca la chiave della camera 1850 diceva Almeno quella era vera Allora il mio immediato dovere Era sistemare la macchina e tornare subito in camera E sperare di rimettermi in sesto abbastanza Da tenere testa a tutto ciò che poteva accadere dopo l'alba Giù dalle scale Ora dentro al casino Un gran bordello di gente pigiata intorno ai tavoli dei dadi Chi sono queste persone? Queste facce? Da dove vengono? Paiano caricature di venditori di auto usate di Dallas Ma sono reali? E Gesù mio sono maledettamente tanti Ancora intenti a gridare ai tavoli da gioco di questa città deserto alle 4 e mezzo di una domenica mattina Ancora intenti a pomparsi il sogno americano Quel miraggio del grande vincente che emerge dall'ultimo caos preaurorale di un logoro casinò di Las Vegas Colpaccio a Silver City Battere il banco e tornare a casa ricchi Perché no? Mi fermai alla ruota dei soldi e puntai su Thomas Jefferson Una banconota da 2 dollari Il classico biglietto del coglione Pensando, come sempre, che una pigra puntata di stinto potesse sbancare tutto E invece no Solo altri 2 dollari buttati nel cesso Bastardi No Calma Impara a perdere divertendoti La cosa importante è raccontare questa storia nei suoi giusti termini Lascia il resto a Life e a Luke Almeno per ora Scendendo le scale, avevo visto l'uomo di Life agitarsi febbrilmente dentro una cabina del telegrafo Mentre Sal modiava il suo buon senso nell'orecchio di un calloso robot Chiuso in un cubicolo dall'altra parte dell'America Certo Las Vegas all'alba Concorrenti stanno ancora dormendo La polvere è ancora sul deserto Premio di 50.000 dollari Sonnecchia oscuramente in una cassetta di sicurezza Del favoloso Mint Hotel di Del Webb Nel cuore lucente del Casino Center La tensione è estrema E la nostra squadra di Life è qui Come sempre con una robusta scorta di polizia Pausa Sì, operatore La parola è polizia Che altro? Dopotutto si tratta di uno speciale di Life Lo squallo rosso era lì sulla Freeman Dove l'avevo lasciata Girai tutto intorno al garage Ed entrai La vettura del dottor Gonzo Tutto regolare E se qualcuno dei vostri uomini si libera Gradiremmo un ingrassaggio totale per domattina Sì, senz'altro Metta in conto alla camera Quando tornai il mio avvocato era nella vasca da bagno Immerso nell'acqua verde L'oleoso prodotto di qualche sale da bagno giapponese Raccattato al gift shop dell'albergo Insieme con una nuova radio AM-FM Attaccata alla presa del rasoio elettrico Volume al massimo La sbrodolata di un gruppo chiamato Three Dog Night Su una rana di nome Germia Che voleva allietare il mondo Prima Lennon Ora questi, pensai Il prossimo sarà Campbell Che urlerà Where have all the flowers gone? Davvero? Dove? Nemmeno un fiore in questa città Solo piante carnivore Abbassai il volume E notai un grosso pezzo di carta assorbente masticata accanto alla radio Il mio avvocato non sembrò accorgersi del cambiamento di volume Era perso in una nebbia di vapore verde Solo metà della sua testa era visibile al di sopra della linea dell'acqua Ti sei mangiato questo? Domandai Prendendo in mano il cartoccio bianco Mi ignorò Ma io sapevo Sarebbe stato molto difficile da raggiungere nelle successive sei ore Si era masticato tutto un tampone di acido Maledetto figlio di puttana Dissi Spera che in quella valigetta ci sia un po' di torazzina Perché altrimenti domattina sarai in guai seri Musica! Ruggì Alza! Alza e accendi il registratore! Quale registratore? Quello nuovo! È lì! Presi la radio e mi accorsi che era anche un registratore Uno di quegli affari con il vano cassette incorporato E il nastro sul realistic pillow doveva solo essere spinto dentro Il lato A era già stato ascoltato a un volume che deve essere il risultato percepibile in ogni stanza nel raggio di cento metri muri compresi Metti white rabbit Disse Voglio un suono ascendente Sei spacciato! Feci Tra due ore io me la filo Dopodiché verranno quassù e ti faranno vomitare quella merda mortale a suon di mazzate Direttamente qui nella vasca La mia tomba me la scavo da me Disse Acque verdi E il coniglio bianco Metti là Non costringermi ad usarlo Il braccio gli spuntò dall'acqua Col coltello da caccia stretto in pugno Cristo! Mormorai E a quel punto pensai che fosse irrecuperabile Sdraiato nella vasca con la testa a zeppa di acido E in mano il coltello più affilato che avessi mai visto Totalmente incapace di ragionare Che chiedeva white rabbit Ci siamo Pensai Con questo testone sono arrivato fin dove ho potuto Stavolta è un viaggio suicida Stavolta lo vuole davvero È pronto Ok! Dissi Alzando il volume e pigiando il tasto play Ma fammi un ultimo favore Dammi due ore È tutto ciò che chiedo Solo due ore per dormire fino a domani Sospetto che sarà una giornata difficile Naturalmente Fece lui Io sono il tuo avvocato Ti darò tutto il tempo che ti serve Alla mia normale tariffa 45 verdoni l'ora Ma tu vorrai anche un cuscino E allora perché non stendi uno di quei bigliettoni da 100 dollari lì accanto alla radio Prima di andartene a fare in culo Che ne dici di un assegno? Della Banca Nazionale dei Denti di Sega Non ti chiedono nemmeno il documento per incassarlo Mi conoscono Va bene tutto Disse Cominciando a sussultare a tempo di musica Il bagno era come l'interno di un gigantesco autoparlante difettoso Atroci vibrazioni Suono soverchiante Il pavimento era allagato Spinsi la radio il più lontano possibile dalla vasca Poi me ne andai e chiusi la porta dietro di me Pochi secondi dopo stava gridando Aiuto Bastardo Ho bisogno di aiuto Tornai dentro di corsa Pensando che per sbaglio si fosse tagliato un orecchio Ma no Si stava allungando Tutto lungo il bagno verso lo scaffale di formica bianca dove stava la radio Voglio quella cazzo di radio Ringhiò Gliela strappai dalle mani Tu sei scemo Dissi Torna nella vasca Stai lontano da questa maledetta radio La spin si è ancora più distante dalle sue mani Il volume era così alto che era difficile distinguere cosa stesse suonando A meno che non si conoscesse surrealistic pillow nota per nota Che era proprio il mio caso all'epoca Per cui mi accorsi che white rabbit era finita L'apice era venuto e se n'era andato Ma il mio avvocato a quanto pareva non aveva agito Voleva ascoltarla di nuovo Rimetti il nastro Strillo Ho bisogno di risentirla I suoi occhi ora erano pieni di vera paranoia Incapaci di mettere a fuoco Pareva sull'orlo di qualche orrendo orgasmo psichico Lascialo girare Grido Al cazzo di massimo volume Che può raggiungere E quando arriva a quella fantastica strofa in cui il coniglio si stacca da solo La testa con un morso Voglio che tu tiri quella fottuta radio nella vasca qui da me Lo fissai Mantenendo una ferma presa sulla radio Non io Dissi alla fine Sarei felice Di infilare un maledetto manganello elettrico a 440 volt in quella vasca lì con te Ma non questa radio Ti farebbe esplodere attraverso la parete Stecchito in 10 secondi Risi Merda Poi vorrebbero chiedere spiegazioni a me Mi trascinerebbero a qualche schifosa perizia medico legale E mi torchierebbero ben bene sui Sì Sui dettagli minuziosi Non ne ho proprio bisogno Strunciate Tu di solo che volevo innalzarmi Ci pensai un momento Ok Dissi alla fine Hai ragione Forse questa è l'unica soluzione Presi il radioregistratore Che ancora era attaccato alla presa E lo sporsi sopra la vasca Lasciami solo controllare se mi è tutto chiaro Tu vuoi Che butti questa cosa nella vasca Quando White rabbit è all'apice È così? Lui si lasciò cadere in acqua E sorrise di gratitudine Sì Cazzo Disse Stavo Cominciando a credere Che sarei dovuto uscire A chiederlo a una Di quelle maledette cameriere Non preoccuparti Dissi Sei pronto? Spinsi di nuovo il tasto play E White rabbit cominciò a pistonare Quasi immediatamente Lui prese a gemere e ad urlare Un'altra rapida arrampicata su per la montagna Stavolta col pensiero di arrivare davvero fino in cima I suoi occhi erano ben chiusi E dall'acqua verde e unta Spuntavano solo la testa e le sommità di tutti e due i ginocchi Lasciai avanzare la canzone Mentre rovistavo nel mucchio di grossi pompelmi maturi Che c'erano vicino al lavandino Il più grosso pesava almeno un chilo Lo afferrai con una salda presa alla vida blu E mentre proprio White rabbit arrivava al culmine Lo scagliai nella vasca come una palla di cannone Il mio avvocato urlò come un pazzo Sbattacchiando nella vasca come un pesce cane durante il pasto Rovesciando acqua sul pavimento Mentre cercava di sostenersi a qualcosa Strappai il filo del radioregistratore E uscì dal bagno di corsa L'apparecchio continuava a suonare Ma ora era tornato al suo inoffensivo funzionamento a batteria Potevo sentire i battiti diminuire Mentre attraversavo la stanza per raggiungere la mia sacca E tiravo fuori la bomboletta di Mace Poi il mio avvocato spalancò la porta del bagno E ruppe dentro la stanza Aveva ancora gli occhi sfocati Ma muoveva la lama davanti a sé Come uno che intende tagliare qualcosa Gas paralizzante! Gridai Puoi farti anche di questo? Agitai la bomboletta davanti ai suoi occhi liquidi Si fermò Bastardo! Sibilò Saresti capace di farlo! Non è vero! Risi Continuando a puntargli contro la bomboletta Perché ti preoccupi? Ti piacerebbe? Merda! Non c'è niente al mondo come farsi di Mace 45 minuti in ginocchio con i conati a vuoto e il respiro rantolato Ti calmerà di colpo! Guardò fisso in direzione della mia voce Cercando di mettere a fuoco Brutto! Bianco figlio di puttana da quattro soldi! Borbottò Saresti capace di farlo! Non è vero? Eh perché no! Cazzo! Un minuto fa mi stavi chiedendo di ucciderti! E adesso tu vuoi uccidere me! Quello che dovrei fare, merda È chiamare la polizia! Sì chi no? Gli spirri! Annui Non ho scelta! Non mi garba affatto l'idea di andare a dormire con te Che vaghi per la stanza in queste condizioni Con la testa in acido e l'intenzione di scotennarmi con quel maledetto coltello Proteò gli occhi per un istante e poi cercò di sorridere Ti ho mai parlato di scotennarti? Biascicò Volevo solo inciderti una piccola getta sulla fronte Niente di serio Scrollò le spalle e prese una sigaretta sopra il televisore La minacciai di nuovo con la bomboletta Torna nella vasca! Dissi Peglati qualche rossa e cerca di calmarti Fumati un po' di sterpa Fatti una pera Merda fai quel cazzo che ti pare Ma dammi un po' di riposo Scrollò di nuovo le spalle e sorrise distrattamente Come se tutto ciò che avevo detto fosse perfettamente sensato Sì Cazzo Disse molto seriamente Tu hai veramente bisogno di dormire Domani Devi Lavorare Scosse la testa tristemente e tornò verso il bagno Maledizione Che inculata Mi fece cenno di andare Cerca di riposare Disse Non lasciare che io ti tenga sveglio Annoi e lo guardai trascinarsi nel bagno sempre con il coltello in mano Anche se ora sembrava non accorgersene L'acido gli aveva alterato tutti i meccanismi Lo stadio successivo sarebbe probabilmente stato uno di quegli infernali intensi incubi introspettivi Più o meno quattro ore di disperazione catatonica ma niente di fisico niente di pericoloso Guardai la porta a chiudersi dietro di lui Poi sistemai dolcemente una pesante sedia dagli spigoli affilati davanti alla maniglia del bagno e misi la bomboletta di Mace vicino alla sveglia La stanza era molto silenziosa ora Andai al televisore e l'accesi su un canale morto Con il rumore al massimo Un bel suono per dormire Un simbilo poderoso e continuo che stemperava tutte le stranezze Capitolo 8 I geni del mondo si tengono per mano E un solo segno di riconoscimento basta a fare girare tutto il mondo Art Linkletter Vivo in un posto tranquillo In cui qualsiasi rumore di notte significa che sta succedendo qualcosa Ti svegli in soprassalto e pensi Cos'è? Di solito nulla Ma qualche volta È dura adattarsi a un lavoro urbano che riempie la notte di suoni assolutamente consueti Macchine, claxon, passi Non c'è modo di rilassarsi Tocca diluire tutto nel bel bianco ronzio di un televisore strabico Piantarlo nel mezzo tra un canale e l'altro, lo stronzetto E addormentarsi dolcemente Ignorando quell'essere da incubo chiuso nel bagno Solo un altro deforme profugo della Love Generation Solo un altro zoppo maltrattato dal destino che non ha retto alla pressione Il mio avvocato è sempre stato incapace di accettare l'assunto Spesso abbracciato dai tossicomani recuperati e particolarmente popolare Tra quelli sotto sorveglianza Secondo il quale, anche senza drogarsi, si possono raggiungere altezze inimmaginabili E neanch'io se è per questo Ma un tempo vivevo poco lontano dalla casa del dottor X in X Road Un ex guru degli acidi in seguito ritenuto protagonista del lungo salto che separa la paranoia chimica dalla percezione soprannaturale Un bel pomeriggio, nel primo sorgere di quella che sarebbe divenuta la Great San Francisco Acid Wave Mi fermai alla casa del buon dottore con l'intenzione di chiedergli Perché ancora, era un'assoluta autorità in fatto di droghe Quale consiglio avrebbe potuto dare a un suo vicino altamente interessato all'LSD Parcheggiai lungo la strada e mi trascinai su per il vialetto di Ghiaia Fermandomi a salutare affabilmente sua moglie Intenta a lavorare in giardino all'ombra di un immenso cappello da seminatore Una bella scena, pensai Il vecchio in casa, a mischiare i suoi fantastici intrugli allucinogeni E la sua donna qui in giardino, a raccogliere carote o cosa Canticchiando a bocca chiusa un motivo che non riuscivo a riconoscere Canticchiando a bocca chiusa, sì Mi ci sono voluti dieci anni per interpretare quel suono per quello che era Come Ginsberg perso nell'om, stava cercando di canticchiarmi via Non c'era nessuna vecchia signora in quel giardino Era il buon dottore in persona E il suo mugulio era un frenetico tentativo di tenermi fuori dalle sue percezioni superiori Feci diversi tentativi di farmi capire Un vicino che viene dal dottore per chiedergli consiglio su come trangugiare LSD nella propria baracca ai piedi dell'altura Ma dopo tutto possedevo armi da fuoco e mi piaceva sparare Specialmente di notte, quando si vede schizzare fuori la gran fiammata blu insieme con tutto quel chiasso E certo anche le pallottole Non potevamo ignorare questo Palettoni di lega di piombo che filavano nella vallata alla velocità di 1100 metri al secondo Ma sparavo sempre contro la collina più vicina O mancando questa, nell'oscurità Non volevo far male a nessuno Semplicemente mi piacevano gli scoppi E ho sempre badato a non uccidere più di ciò che potevo mangiare Uccidere? Mi resi conto che non avrei mai potuto esattamente spiegare quella parola alla creatura che faticava in quel giardino Aveva mai anche solo assaggiato la carne? Era in grado di coniugare il verbo cacciare? Avrebbe capito cosa voleva dire fame? Avrebbe afferrato l'orrore del fatto che le mie entrate quell'anno ammontavano circa 32 dollari la settimana? No Nessuna speranza di comunicazione in quel posto Me ne resi conto Ma non in tempo da evitare al dottore della droga il compito di canticchiarmi via Lungo tutto il vialetto, fino alla macchina E poi ancora giù per la strada di montagna Dimentica l'LSD, pensai Guarda cosa ha fatto a quel povero bastardo Così mi attaccai all'Hashish e al Room per altri sei mesi Finché me ne andai a San Francisco E mi ritrovai una notte in un posto chiamato Filmor Auditorium È tutto Una grigia zolletta di zucchero e BOOM Con la mente ritornai dritto davanti al giardino del dottore Non sulla superficie, ma sotto E spuntavo come una specie di fungo mutante attraverso quella terra amorevolmente coltivata Una vittima dell'esplosione psichedelica Un tipico freak vagabondo Che mangiava quello che capitava Ricordo una notte al Matrix Quando un autostoppista entrò con un grande zaino sulle spalle Gridando Nessuno vuole dell'LSD? Ho qui tutto il necessario Mi serve solo un posto per cuocere Il gestore gli fu addosso in un niente Mormorando Piano piano Vieni qua dietro in ufficio Non l'ho mai più rivisto dopo quella notte Ma prima che lo portassero via Distribuì degli assaggi Grandi capsulone bianche Andai nel bagno degli uomini a mangiarmi la mia Ma solo metà Credo All'inizio Buona idea Ma dura da portare a termine in quelle circostanze Mangiai la prima metà E rovesciai il resto nella manica della mia camicia pendleton rossa E poi chiedendomi cosa avrei potuto farne Vidi uno dei musicisti che entrava Qual'è il problema? Mi fece Beh Dissi Tutta questa roba bianca nella mia manica? È l'SD Non disse niente Mi afferrò il braccio e cominciò a succhiarlo Una scena molto volgare Mi chiesi cosa sarebbe accaduto se fosse entrato qualcuno Del tipo giovane agente di cambio armato del Kingston Trio E ci avesse colto sul fatto Che andasse a fanculo pensai Con un po' di fortuna si sarebbe rovinato la vita Pensando sempre che dietro a una porticina In tutti i suoi bar preferiti Uomini con camice pendleton rosse Stessero cavando sballi inimmaginabili Da cose che lui Non avrebbe mai nemmeno conosciuto Tarebbe mai stato capace Lui Di succhiare una manica? No Probabilmente no Stai alla larga Fai finta di non aver visto nulla Strani ricordi In quella nevosa notata a Las Vegas Cinque anni dopo Sei? Sembrava passata una vita O almeno un'epoca Quel tipo di culmine che non tornerà mai più San Francisco e la metà degli anni 60 Erano un bel tempo e un bel posto da vivere Forse ha significato qualcosa O forse no Alla lunga Ma nessuna spiegazione Nessun insieme di parole o musiche o ricordi Può toccare la consapevolezza di essere stato là Vivo In quell'angolo di tempo e di mondo Qualunque cosa significasse La storia è difficile da conoscere Per via di tutte le stronzate che ci aggiungono Ma anche senza essere sicuri di cosa dice la storia Pare del tutto ragionevole pensare che ogni tanto L'energia di un'intera generazione si concentra in un lungo bellissimo lampo Per ragioni che sul momento nessuno capisce E che mai spiegheranno retrospettivamente ciò che è veramente accaduto Il mio ricordo principale di quel tempo Sembra aggrappato a una o a cinque O forse a quaranta notti O mattine molto presto Quando mezzo sconvolto lasciavo il filmor E invece di andare a casa Prendevo la grandiosa Lightning 650 E sfrecciavo sopra il Bay Bridge a 160 all'ora Con indosso dei calzoncini L.L. Bean E un giubbotto Butte da pastore Irrompevo di là del tunnel di Treasure Island Sullo spettacolo di luci di Oakland, Berkeley e Richmond Non molto sicuro su quale uscita imboccare una volta arrivato là Sempre spegnendo il motore e il casello del pedaggio Troppo fatto per trovare la folle Mentre rovistavo in cerca di spiccioli Ma assolutamente certo Che per qualunque strada fossi andato Sarei arrivato in un posto dove la gente Era ispirata e selvaggia Esattamente come me Nessun dubbio su questo C'era follia in ogni direzione A ogni ora Se non attraverso la baia Allora su al Golden Gate O giù sulla 101 per lo salto sulla onda Potevi sprizzare scintille ovunque C'era una fantastica Universale impressione Che qualunque cosa si facesse fosse giusta Che si stesse vincendo E quella Credo Era la nostra ragione d'essere Quel senso di inevitabile vittoria Contro le forze del vecchio e del male Vittoria Non in senso violento o militare Non ne avevamo bisogno La nostra energia Avrebbe semplicemente prevalso Non c'era lotta Tra la nostra parte e la loro Avevamo tutto l'abrivo Noi Stavamo cavalcando un'onda altissima E meravigliosa Ora Meno di cinque anni dopo Potevi andare su una qualsiasi collina A Las Vegas E guardare verso ovest E con gli occhi adatti Potevi quasi vedere Il segno dell'alta marea Quel punto in cui l'onda Alla fine Si è spezzata Per tornare indietro Capitolo 9 Nessuna comprensione per il diavolo Giornalisti torturati Viaggio nella paranoia La decisione di filarsela Arrivò di colpo O forse no Forse l'avevo avuta in testa Per tutto il tempo Aspettando inconsciamente Il momento giusto Il conto fu un fattore Penso Perché non avevo i soldi Per pagarlo E nemmeno quelle diavolerie Che ammortizzano il rimborso Tramite carta di credito Non dopo l'affare Sidney Zion Hanno declassato La mia American Express Dopo di allora Mi hanno anche intentato causa I bastardi Come del resto Quelli della Diners Club E dell'IRS E d'altronde La rivista era legalmente responsabile Il mio avvocato Se ne era assicurato Non avevamo firmato nulla Eccetto i conti del servizio in camera Non siamo mai venuti a sapere il totale Ma il mio avvocato Giusto prima di sparire Stimò che viaggiavamo Tra i 29 e i 36 dollari l'ora Per 48 ore consecutive Incredibile Dissi Come è potuto succedere? Ma nel tempo in cui formulavo la domanda Non c'era già più nessuno Che potesse rispondere Il mio avvocato Era scomparso Dovevamo avere subodorato guai Il lunedì sera Aveva ordinato al servizio in camera Un intero set di eleganti valigie di cuoio Poi Mi aveva detto di aver riservato Un posto sul primo volo Per Los Angeles Non c'era molto tempo E durante il tragitto per l'aeroporto Mi aveva chiesto in prestito 25 dollari Per il biglietto Lo accompagnai fino all'uscita Poi tornai al negozio di souvenir Dall'aeroporto E spesi in fregnacce Tutto il resto dei miei soldi Autentica merda Suvenir di Las Vegas Falsi accendini zippo in plastica Con roulette incorporata A 6 dollari e 95 Spille raffiguranti monete Da mezzo dollaro Con le figie di JFK A 5 dollari Scimmiette che agitavano dadi A 7 dollari e mezzo Feci il pieno di questa pacottiglia Poi la trasportai fuori Nel grande squallo rosso E la scaricai sul sedile di dietro Quindi Mi sedetti alla guida In modo molto dignitoso La cappottina bianca era aperta Come sempre Accesi la radio E mi misi a pensare Come si sarebbe comportato Orazio Alger in questa situazione One took over the line Sweet Jesus One took over the line Panico Mi strisciò su per la spina dorsale Come la prima vibrazione Di un trip in acido Cominciarono ad apparire Tutte quelle orribili realtà Eccomi Tutto solo a Las Vegas Su quella maledetta Incredibile automobile di lusso Fatto come un fegatello Senza avvocato Senza più soldi Senza pezzo per la rivista E soprattutto Con un gigantesco conto D'albergo da affrontare In quella stanza Avevamo ordinato Tutto ciò che mani umane Potessero trasportare Incluse circa 600 stecche Di sapone traslucido Neutrogena Tutta la macchina nera In gombra I tappetini I sedili Lo sportello portaoggetti Il mio avvocato Aveva architettato Un accordo con la cameriera Meticcia del nostro piano Per ricevere in camera Il sapone 600 stecche Di quella magica Merda trasparente E ora Era tutto mio Come la cartella di plastica Che ad un tratto Notai sul sedile La sollevai E capì immediatamente Cosa conteneva La fottuta Nessun avvocato Samoano Sano di mente Se ne va nel metal detector Di una compagnia aerea Privata Con addosso Una grossa 357 magnum nera Così L'aveva lasciata a me Perché Gliela riportassi Nel caso Fossi riuscito A tornare a Los Angeles Altrimenti Beh Mi pareva già Di sentirmi parlare Con la California Highway Patrol Che? Quest'arma Questa 357 Magnum carica Non registrata Con numero di matricola Limitato E probabilmente rubata Cosa ve ne faccio? Beh Vede Agente Ero uscito Dall'autostrada Dalle parti di Mescal Spring Su consiglio Del mio avvocato In seguito Scomparso Ed un tratto Mentre stavo camminando Per quella pozza d'acqua Nel deserto Tutto solo E assolutamente Senza ragione Un tipetto Con la barba Mi è venuto davanti Spuntando dal nulla E aveva un'orribile Scheggia di linoleum In una mano E quell'enorme pistola Nera nell'altra E Ha cercato Di incidermi Una X Sulla fronte In memoria Del tenente Calle Ma quando Gli ho detto Che sono un dottore In giornalismo Il suo atteggiamento È cambiato Sì Lei probabilmente Non ci crederà Agente Ma lui Ha improvvisamente Gettato Quello spunzone Nelle acque Salmastre Di mescal Vicino ai nostri piedi E mi ha dato Questa Rivoltella È così Me l'ha proprio feccata In mano Per il calcio Poi È svanito Nel buio Ecco perché Ho quest'arma Agente Mi crede? Nah Ma non l'avrei Nemmeno buttata via La bastarda Una bella 357 Magnum È qualcosa di raro Di questi tempi Così ho pensato Beh Riporto Questa stronza A Malibu E diventa mia Mio il rischio Mia la pistola Non faceva una piega E se quel maiale Di un samoano Avesse avuto qualcosa Da ridire Se avesse avuto Intenzione di venire A urlare davanti A casa mia Gliel'avrei fatto Assaggiare giusto A mezzo femore Certo 10,23 grammi Di lega di piombo Semicorazzata Alla velocità Alla velocità di 450 metri al secondo Uguale circa 20 chili di hamburger Samoano Mescolato a schegge D'osso Perché no? Paranoia Paranoia E nel frattempo Sono tutto solo Con il grande Squalo rosso Nel parcheggio Dell'aeroporto Di Las Vegas Ah Al diavolo Questo panico Ritrova il controllo Mantienilo Per le prossime 24 ore Questa facenda del controllo Sarà critica Eccomi seduto qui Solo in questo Deserto del cazzo In questo covo Di mentecatti armati Con un carico Molto pericoloso Di rischi Orrori E responsabilità Che devo Riportare a L.A. Perché se mi inchiodano Qui sono perduto Completamente fottuto Su questo Non si discute Non c'è futuro Per un dottore In giornalismo Che dirige Il settimanale Di un penitenziario Di stato Molto meglio Andarsene a tutta velocità Lontano da questo Stato atavico Eh Ma prima Di nuovo Almento Tell A incassare Un assegnino Da 50 dollari Poi su in camera E ordinare Due panini A prosciutto E formaggio Mezzo litro di latte E una pinta di caffè E una boccia Di bacardi a neco Il room Sarà assolutamente Necessario Per svoltare La nottata Ripulire questi appunti Questo diario Di vergogne Far gridare Il registratore Tutta la notte A tutto volume Comprensione Non per me Non c'è nessuna pietà Per un freak criminale A Las Vegas Questo posto È come l'esercito Prevale l'etica Dello squalo Mangiarsi I feriti In una società Chiusa Nella quale Tutti sono colpevoli L'unico vero crimine È farsi prendere In un mondo di ladri L'unico peccato mortale È la stupidità È una sensazione magica Sedere in un hotel di Las Vegas Alle 4 del mattino Chino su un taccuino È un mangiacassette In una suite Da 75 dollari al giorno È uno strepitoso Conto di extra Accumulato in 48 ore Di totale follia Sapendo che Appena sarà l'alba Taglierai la corda Senza pagare Un cazzo di niente Zompando Attraverso la lobby E facendoti portare La tua decappottabile rossa Dal garage E restando lì Ad aspettarla Con una valigia Zeppa di marijuana E armi da fuoco Illegali Facendo il vago Scorrendo la prima edizione Mattutina Di Las Vegas Sun Era il passo finale Qualche ora prima Avevo ficcato Tutti i pompelmi E gli altri bagagli Nella macchina Ora Era solo questione Di tagliare la corda Sì Comportamento Estremamente vago Occhi selvaggi Nascosti Da questi occhiali Da sole A specchio vietnamiti Ad aspettare che lo squalo Arrivasse su Dov'è? Ho dato a quel cazzo Di parcheggiatore La bellezza dei 5 dollari Un investimento primario Di questi tempi Resta calmo Continua a leggere il giornale Il pezzo principale Urlava un titolone blu Lungo tutta la sommità Della pagina Tre Di nuovo arrestati Per la morte Di una bella ragazza La causa della morte Della bella Diane Humphrey Da 9 anni Il cui corpo Era stato trovato Dentro a un frigorifero La settimana prima Era stato ufficialmente Individuata In overdose di eroina Secondo la perizia Dell'ufficio di medicina legale Della contea di Clark Poliziotti Della squadra Omicidi Che sono andati Ad arrestare i sospetti Hanno detto Che uno di essi Una ragazza 24enne Ha tentato di lanciarsi Attraverso l'oblò Della propria roulotte Prima di essere immobilizzata Da pubblici ufficiali Hanno detto Che era apparentemente Isterica E che gridava Viva Non mi avrete mai Ma gli agenti Sono riusciti Ad ammanettare La donna Che non sembrava ferita Soldati morti Per droga Washington Un rapporto Della sottocommissione Parlamentare Riferisce che Lo scorso anno La droga Ha ucciso 160 soldati americani 40 dei quali In Vietnam La droga È ritenuta Dice All'origine di altri 56 decessi di militari Nei comandi Dell'Asia e del Pacifico Il problema dell'eroina In Vietnam Dice Sta aumentando In misura preoccupante Soprattutto a causa Dei laboratori Di raffinazione Presenti in Laos Tailandia E a Hong Kong La soppressione Della droga In Vietnam È quasi completamente Inefficace Afferma il rapporto Parte A causa Dell'inefficienza Della locale Forza di polizia E in parte Perché alcuni ignoti Ufficiali Corrotti Sono coinvolti Nel traffico Di stupefacenti A sinistra Di questa torva Notizia C'era una foto Centrale A quattro colonne In cui dei poliziotti Di Washington D.C. Lottavano con giovani Dimostranti pacifici Che hanno organizzato Un sit-in E ostruito L'ingresso Al centro Di reclutamento Di leva E vicino alla foto C'era un grande Titolo nero Racconti Di torture Davanti a commissione Di inchiesta Washington I moni spontanei Hanno riferito Ieri A una delegazione Informale Del congresso Che durante Il loro servizio Militare In qualità Di responsabili Degli interrogatori Hanno sistematicamente Fatto uso Di cavi elettrici A bassa tensione E di espulsioni Di elicotteri In volo Per torturare E uccidere Prigionieri Vietnamici Lo specialista Di inchieste militari Ha detto Che l'uccisione A colpito di pistola Della sua interprete Cinese Era stata giustificata Da un superiore Con le parole Dopotutto Era solo Un muso giallo Tendendo Che la vittima Era un orientale Subito sotto Quell'articolo Un titolo Diceva Cinque feriti Vicino a un condominio A New York Causati Da un cecchino Che ha fatto fuoco Dal tetto Di un edificio Senza alcuna Ragione apparente Questo pezzo Stava sopra Un altro titolo Che recitava Farmacista Arrestato Durante Un'inchiesta Come risultato Spiegava L'articolo Di un'inchiesta Interna Di una catena Di farmacie Di Las Vegas Che evidenziava L'ammanco Di oltre Centomila Pillole Considerate Droghe Pericolose Leggere Quella prima pagina Mi fece sentire Un po' meglio In quell'efferato Contesto I miei reati Risultavano Scialbi E insignificanti Era un cittadino Relativamente Rispettabile Delinquente Plurimo Forse Ma di certo Non pericoloso E quando Il giudice supremo Mi muoverà Le sue accuse Questo dovrà Pur contare Qualcosa O no Passai alla pagina Sportiva E mi imbattei In un breve pezzo Su Muhammad Ali Il suo caso Era davanti Alla corte suprema Per l'appello Definitivo Si era beccato Cinque anni Per essersi Rifiutato Di uccidere I musi gialli Io non ho nulla Contro questi Vietcong Aveva dichiarato Cinque anni Capitolo 10 Interviene La Western Union Un avvertimento Dal signor Him Nuovo incarico Dalla redazione Sportiva E selvaggio Invito Della polizia Don tratto Mi sentii Di nuovo Colpevole Lo squalo Dov'era? Mise via Il giornale E cominciai A camminare Perdendo Il controllo Sentivo Tutti i movimenti Sfuggirmi E poi Vidi la macchina Piombare giù Da una rampa Dal garage Lì vicino Liberazione Afferrai la borsa Di pelle E andai incontro Alle mie ruote Signor Duke La voce Arrivava da dietro Signor Duke La stavamo cercando Quasi svenni Sul marciapiede Ogni cellula Del mio corpo E del mio cervello Collassò No Pensai Deve essere Un'allucinazione Non c'è nessuno Qua dietro Non mi ha chiamato Nessuno È un'illusione Paranoica Una psicosi Da anfetamine Continua a camminare Verso la macchina Continua a sorridere Signor Duke Aspetti Beh Perché no In prigione Sono stati scritti Molti libri Bellissimi E non è che io Sia un estraneo Totale Su a Carston City Il direttore Mi riconoscerà Idem Il boss Dei detenuti Una volta Li ho intervistati Per il New York Times Insieme a molti Altri detenuti Secondini Poliziotti Addetti assortiti Che poi Via posta Si sono mostrati Molto seccati Vedendo che L'articolo Non usciva Perché Chiedevano Volevano che Le loro storie Venissero raccontate E fu dura Spiegare In un ambiente Simile Che quanto Mi avevano raccontato Era finito Nel cestino O al massimo In qualche cartellina Morta Perché i paragrafi Principali Che avevo scritto Non soddisfacevano Il caporedattore Lontano 5.000 km Un nervoso Parassita Seduto dietro A una scrivania Di formica grigia Nelle viscere Di una burocrazia Giornalistica Che nessun detenuto Del Nevada Avrebbe mai potuto capire E che l'articolo Alla fine Era marcito Sull'albero Per così dire Perché io Mi ero rifiutato Di riscrivere I paragrafi contestati Per ragioni mie Nulla di ciò Avrebbe avuto Molto senso Durante l'ora d'aria Ma che cazzo Perché preoccuparsi Dei dettagli Mi voltai Per affrontare Il mio aguzzino Un impiegato Piccolo e giovane Con un gran sorriso Sulla faccia E una busta gialla In mano La stavo chiamando Su in camera Disse E poi L'ho vista qui fuori A noi Troppo stanco Per fare resistenza Ormai lo squalo Era al mio fianco Ma non vedevo Come gettarci Dentro la borsa Era finita Mi avevano L'impiegato Continuava a sorridere È arrivato Questo telegramma Per lei Disse Ma in realtà Non è per lei È per un certo Signor Thompson Presso Raul Duke Le dice qualcosa Ero stordito Era troppo Per poterlo assorbire Tutto in una volta Dalla libertà Al carcere E poi Di nuovo Alla libertà Tutto in trenta secondi Barcollai all'indietro E mi appoggiai Alla macchina La piega Della cappotta Di tela Sotto le mani Tremanti L'impiegato Che sorrideva sempre Mi stava porgendo Il telegramma A noi Quasi incapace Di parlare Sì Dissi alla fine Mi dice qualcosa Presi la busta E la aprì Messaggio espresso Urgente Hunter S. Thompson C.O. Raul Duke Soundproof suite 1850 Mint Hotel Las Vegas Chiamami immediatamente Ripeto immediatamente Non partire Abbiamo un nuovo incarico Inizio domani Ancora Las Vegas Stop Conferenza nazionale Procuratori distrettuali Ti invita Seminario Quattro giorni Su sostanze Psicotrope Et Droghe pericolose Dune Hotel Stop Chiamato Rolling Stone Vogliono 50.000 parole Onorario Imponente Rimborso Spese Totale Inclusi Tutti i campioncini Stop Abbiamo Prenotazione Prenotazione Hotel Flamingo Et Cadillac Bianca Decapottabile Stop Tutto sistemato Chiama immediatamente Per dettagli Urgenza Ripeto Urgenza Stop Dottor Dottor Gonzo Santa Merda Mormorai Non può essere Vero Intende dire Che non era per lei Chiese l'impiegato Improvvisamente Nervoso Ho cercato Questo signor Thompson Sul registro Non c'è Ma ho pensato Facesse parte Della vostra squadra Così è Dissi Velocemente Non si preoccupi Gliela darò io Cacciai la borsa Sul sedile Dello squalo Desideroso Solo di filare Prima che scadesse La sospensione Della mia esecuzione Ma l'impiegato Era curioso Che ne è Del dottor Gonzo Chiese Lo fissai Dandogli Un lungo assaggio Delle mie lenti A specchio Sta benone Dissi Ma Un'indole Viziosa Il dottore Gestisce Le nostre finanze È responsabile Delle nostre Sistemazioni Ci volai al posto Di guida E mi preparai A partire L'impiegato Si sporse Sulla macchina Quello Che ci ha Disorientato Disse È stata La firma Del dottor Gonzo Su questo telegramma Da Los Angeles A noi Risulta Che si trovi Qui In albergo Crollò Le spalle E poi Questo telegramma Indirizzato A un cliente Che non figura Insomma Il ritardo È stato Inevitabile Spero che capisca A noi Ancora una volta Impaziente Di andare Lei ha fatto La cosa giusta Dissi Mai cercare Di capire Il messaggio Di un giornalista Più della metà Delle volte Usiamo Dei codici Specialmente Col dottor Gonzo Sorrise di nuovo Ma stavolta Appareva un po' Più strano Mi dica una cosa Fece Quando Pensa Che si sveglierà Il dottore Mi irrigidì Al volante Sveglierà Cosa intende Sembrava A disagio Beh Il direttore Il signor Him Gradirebbe Incontrarlo Ora Il suo ghigno Era Incontrovertibilmente Malevolo Niente di particolare Il signor Him Incontra sempre I clienti Con i conti Più alti Un contatto Personale Una chiacchierata E una stretta di mano Lei capisce Naturalmente Risposi Ma se fossi in lei Lascerei in pace Il dottore Finché non avrà Fatto colazione È un uomo Piuttosto brusco L'impiegato Annui con circospezione Ma Sarà disponibile Magari più tardi Mi resi conto Di dove voleva Andare a parare Senta Dissi Quel telegramma Era completamente Cifrato In realtà Era D. Thompson Non per lui La Western Union Deve avere invertito I nomi Sollevai il telegramma Ben sapendo Che lui L'aveva già letto Questo In realtà È un messaggio Urgente Per il dottor Gonzo Su in camera Che dice Che Thompson Arriverà Da Los Angeles Con un nuovo Incarico Un nuovo Ordine di lavoro Lo spinsi fuori Dalla macchina A dopo Cinguettai Devo andare sul tracciato Lui indietreggiò E io innestai La marcia Non c'è fretta Mi gridò dietro La corsa È finita Non per me Sparai Lanciandogli Un cenno amichevole Pranziamo insieme Gridò Mentre mi mettevo Sulla strada Contaci Strillai E mi infilai Nel traffico Dopo qualche isolato Incontromano Su Main Street Feci inversione E puntai a sud Verso LA Ma a velocità Molto moderata Mantienti freddo E rallenta Pensai Pensa solo A scivolare fuori Da questa città Ciò di cui avevo bisogno Era un posto sicuro In cui fermarmi Non visto A riflettere Su quell'incredibile Telegramma Del mio avvocato Non scherzava Di questo avevo La certezza C'era un'assoluta Giustificata Urgenza In quel messaggio E il tono Era inequivocabile Ma io Non ero Nell'umore E nelle condizioni Di passare Un'altra settimana A Las Vegas Non ora Avevo spinto Al limite La mia fortuna In questa città E ora Le faine Si stavano Avvicinando Davvero Le potevo Annusare Nell'aria Bestie Disgustose Sì Era inequivocabilmente Tempo di partire I margini Si erano ridotti A zero Ora Cabotando lungo Il Las Vegas Boulevard A 40 all'ora Volevo solo un posto Per fermarmi A formalizzare La decisione Era già presa Naturalmente Ma avevo bisogno Di una birra o due Per chiudere la faccenda E sedare A quell'ultima Terminazione Nervosa Ribelle Che continuava A lanciare Vibrazioni negative Avrei dovuto Almeno Prenderlo In considerazione Perché un barlume Di motivo Per restare C'era Più o meno Era pericoloso Stupido E demenziale Sono tutti gli aspetti Eppure Non si poteva evitare La puzza di contorto Umorismo Che alleggiava Sull'idea Di un giornalista Gonzo Perso in un'avventura Tossica Potenzialmente letale Che veniva Invitato a seguire La conferenza nazionale Dei procuratori Su sostanze psicotrope E droghe pericolose E c'era anche Un certo folle richiamo Nella prospettiva Di combinare Quel popò Di pasticcio In un hotel Di Las Vegas E poi Invece di trasformarsi In un fuggiasco Perso sull'autostrada Per LA Attraversare Semplicemente La città Cambiare la Chevrolet Rossa Con una Cadillac Bianca E presentarsi In un altro Hotel di Las Vegas Con le credenziali In regola Per mescolarsi A un migliaio Di sbirri Provenienti Da ogni distretto D'America Intenti Ad arrangiarsi L'uno Con l'altro Sul problema Della droga Era una pericolosa Pazzia Ma anche Quel genere Di cosa Per la quale Un vero amatore Del lavoro Al limite Avrebbe saputo Trovare una Buona ragione D'essere Qual era Tanto per cominciare L'ultimo posto In cui la polizia Di Las Vegas Sarebbe andata A cercare Un truffatore Drogato Appena fuggito Da un hotel Del centro Certo Nel bel mezzo Di una conferenza Nazionale Dei procuratori Distrettuali In un elegante Hotel sullo strip O Al Caesar Palace Mentre arriva Per lo spettacolo Di gara Di Tom Jones In una sfavillante Cadillac Coupé Deville Bianca O a un cocktail party Per agenti della narcotici Con le loro signore Certo Quale posto migliore Per nascondersi Per certa gente Ma non per me E di certo Non per il mio avvocato Persona assai Vistosa Separati Avremmo anche potuto Passarla liscia Ma insieme No Ci avremmo lasciato Le penne Troppi agenti chimici Aggressivi In questo mix La tentazione Di lasciarsi andare Al panico forsennato Sarebbe stata Troppo forte E questo Naturalmente Ci avrebbe finito Non avrebbero avuto Nessuna pietà Infiltrarsi Tra gli infiltrati Equivaleva ad accettare Il destino Di tutte le spie Come sempre Se voi O altri membri Della vostra organizzazione Verrete catturati Dal nemico Il segretario Negherà Ogni relazione No Era troppo Il confine Tra follia E masochismo Era già abbastanza Confuso Era arrivato Il momento Di farsi da parte Ritirarsi Sì Inchinarsi Fare marcia indietro E rinnegare Se stessi Per così dire Perché no In ogni lavoro Arrivava il momento O di smettere O di perdere O di incassare Le vincite A seconda dei casi Guidavo piano Cercando il posto adatto Per sedermi davanti A una bella birra mattutina E rimettere insieme Le idee Per progettare Questa ritirata Contro la natura Capitolo 11 Oh mama Can this really be the end? Su e giù per Vegas Di nuovo in paranoia Anfetaminica? Martedì mattina Ore 9 Ora Seduto al Wild Bill's Cafe Nei soborghi di Las Vegas Vedo tutto Con estrema chiarezza C'è una sola strada Per LA La Interstate 15 Un nastro dritto Privo di alternative Una piatta Sparata A tutta velocità Attraverso Baker Barslow e Beardou E poi Sulla Hollywood Freeway Dritto filato Nel frenetico oblio Talvezza Oscurità Solo un altro freak Nel regno dei freak Ma nel frattempo Nelle prossime 5-6 ore Sarai stato la cosa Più vistosa Su quella strada Maledetta dal diavolo L'unico squalo Decapottabile Rossofiammante Tra Brut e Tijuana A tagliare questo deserto Con un burino Mentecatto Mezzo nudo al volante È meglio che metta La camicia Capulco verde e porpora O che non metta Proprio nulla Non c'è modo Di nascondersi Su questo mostro Non sarà Una corsa allegra Nemmeno il dio del sole Lo vuole vedere Se n'è andato dietro A una nuvola Per la prima volta In tre giorni Niente sole Il cielo è grigio E sgradevole Esattamente Mentre mi infilavo Nel parcheggio Seminascosto Sul retro del Wild Bill Ho sentito Un rombo Sopra la testa E ho guardato in alto Un gran DC8 Color grigio Fumo Che decollava Circa 50 metri Sopra l'autostrada C'era la serda A bordo O l'inviato di live Si erano procurati Tutte le foto Di cui avevano bisogno Tutti i fatti Avevano adempiuto Ai propri doveri Io Non sapevo nemmeno Chi avesse vinto la corsa Forse nessuno Per quel che ne sapevo Io Tutto lo spettacolo Era abortito In un terribile fracasso Un'orgia di violenza Senza senso Avviata da teppisti ubriachi Che rifiutavano Di rispettare i regolamenti Volevo riempire questo vuoto Nelle mie conoscenze Alla prima opportunità Rimediare il Los Angeles Time E cercare nello sport L'articolo sulla Mint 400 A appropriarmi di tutti i dettagli Scrivere anch'io Anche durante la fuga Nelle grinfie della paura vera Sapevo Che su quell'aereo C'era la serta Che se ne ritornava A New York La notte precedente Mi aveva detto Che intendeva Prendere il primo volo Eccolo che se ne va E io Invece sono qui Senza avvocato Travaccato Su uno sgabello Di plastica rossa Nella cantina Del Wild Bill A succhiare nervosamente Una Budweiser In un bar Appena aperto A grande mattutina Richiesta di magnaccia E maniaci del flipper Con un enorme Squalo rosso Parcheggiato fuori Dalla porta Talmente zeppo Di reati Che anche solo guardarlo Mi mette paura Ma non posso Abbandonarlo Quel rotto in culo L'unica speranza È di coprire In qualche modo Il 480 km Di deserto Tra qui E Sanctuary Ma Cristo Sono stanco E spaventato E strafatto Questa civiltà Mi ha abbattuto Cosa cazzo Sto facendo qui Non è nemmeno La storia Su cui avrei dovuto Lavorare Il mio agente Mi aveva messo In guardia Tutti i segnali Erano negativi Specialmente Quel nano malefico Col telefono rosa All'Apollo Lounge Avrei dovuto Restare là Nient'altro Che questo Oh Mama Can't this really Be the end Nah Chi ha messo Quella canzone Ho davvero Appena sentito Quella cazzo Di musica Nel jukebox Alle 9.19 Di questa Sudicia Grigia Mattinata Alla cantina Del Wild Bill Nah È solo nel mio cervello L'eco prolungata Di una penosa Alba di Toronto Molto tempo fa Fuori di testa E in un altro mondo Ma non molto diverso Poi Aiuto Per quante altre notti E mattine fatali Può ancora andare avanti Questa merda Fino a quando Corpo e cervello Potranno tollerare Una paranoia Così nefasta Questo di grignare i denti Questo colare sudore Questo pulsare Di sangue Nelle tempie Piccole vene blu E impazzite Dietro le orecchie 60 o 70 ore Senza dormire E questo Invece È proprio Il jukebox Sì Senza dubbio E perché no Una canzone Molto famosa Boom Paranoia Lancinante Che razza Di sorcio Bastardo Psicopatico Ha scelto Proprio Questa canzone Ora In questo momento Qualcuno Mi ha seguito Fin qui La barista Mi conosce Può forse Vedermi Dietro questi Occhiali A specchio Tutti i baristi Sono dei traditori Ma questa È un'arcigna Cicciona Di mezza età Che porta Un pareo E un grembiure Da iron boy Probabilmente È la donna Di wild bill Cristo Tremende vampata Di paranoia Follia Paura E disgusto Vibrazioni Insopportabili In questo posto Fuori Via E all'improvviso Mi viene in mente In un ultimo Lampo di folle Per spicacia Prima del buio totale Che il mio orario Ufficiale di partenza Dall'hotel È mezzogiorno Il che Mi dà almeno Due ore di guida Veloce Per uscire Legalmente Da questo fottuto Stato Prima di diventare Un latitante Fantastica fortuna Quando verrà Dato l'allarme Io starò correndo A tutta forza Da qualche parte Tra Needles E la Death Valley A sfondare La scocca Con l'acceleratore Scuotendo il pugno Contro Ephraim Zimbalist Jr Impicchiata su di me A bordo del suo Elicottero Screaming Eagle Dell'FBI Puoi correre Ma non puoi Nasconderti Vai a fare in culo Ephraim Queste belle frasi Sono a doppio taglio Per quanto Ne potete sapere Tu e la gente Del Mint Io sono ancora Su nella 1850 Legalmente E spiritualmente Se non in carne E ossa Con un bel Non disturbare Appeso fuori Dalla porta Per mia Personale Tranquillità Le cameriere Non entreranno Nella stanza Finchè sulla maniglia Ci sarà Quella scritta Se ne era assicurato Il mio avvocato Mentre rientrava Le 600 stecche Di sapone Neutrogena Che io devo Ancora consegnare A Malibu Che cosa ne sarà Della FBI Di questo grande Squalo rosso Pieno di campioncini Di sapone Neutrogena Tutta roba Completamente legale Poi Quel sapone Le cameriere Ce lo avevano dato Lo avrebbero Giurato in aula O no Ma certo che no Queste maledette Cameriere Traditrici Avrebbero giurato Di essere state Minacciate Da due pazzoidi Armati fino ai denti Che le hanno terrorizzate Con una Vincent Black Shadow Finchè non hanno Consegnato tutto il sapone Cristo strisciante Di un dio C'è un prete In questa taverna Mi voglio confessare Sono un peccatore Del cazzo Veniale Mortale Carnale Maggiore E minore Chiamami come ti pare Oh signore Io sono colpevole Ma fammi Quest'ultimo favore Dammi altre Cinque ore di tempo Prima di far calare La tua scure Lasciami abbandonare Questa maledetta macchina E questo orribile Deserto Che non è poi Un gran chiedere Signore Perché l'incredibile Verità Alla fine È che io Non sono colpevole Tutto quel che ho fatto È stato prendere Sul serio I tuoi borbottini E hai visto Dove sono finito I miei primitivi Istinti cristiani Hanno fatto di me Un criminale Mentre strisciavo In quel casino Alle sei del mattino Con una borsata Di pompelmi E t-shirt Della mid 400 Ricordo di essermi detto E ripetuto All'infinito Tu sei innocente È solo un espediente Necessario Per evitare Scene disgustose Ma dopo tutto Io non ho preso Alcun accordo Vincolante Il mio è un debito Istituzionale Niente di personale Tutto questo maledetto incubo È colpa di quella Sciagurata Rivista di merda Tutto questo casino L'ho combinato Qualche imbecille Su a New York È stata una sua idea Signore Non mia E adesso guardami Mezzo morto di paura Che guido a 180 all'ora Attraverso la Death Valley In una macchina Che io non ho mai Nemmeno desiderato Guardami Bastardo Questa è opera tua Farai bene A prenderti cura di me Signore Perché se non lo farai Finirai per avermi Nelle tue mani Capitolo 12 Velocità infernale Combattimento Con la California Highway Patrol Mano a mano Sulla Highway 61 Martedì Mezzogiorno e mezzo Baker California Preso nella Ballantyne Ale Ora Ubriaco Fradicio E nervoso Conosco questa sensazione Tre o quattro giorni Di sbornia Droghe Sole Niente sonno Bruciando tutte le riserve Di adrenalina Un'altezza vertiginosa E vibrante Che significa Che lo schianto Sta per arrivare Ma quando Quanto durerà ancora Questa tensione Fa parte Dell'altezza Le probabilità Di collasso fisico E mentale Sono molto alte Ora Ma di collasso Non se ne parla Nemmeno Come soluzione O anche come alternativa In subordine È inaccettabile Infatti Questo è il momento Della verità La sottile E fatale Linea di confine Tra controllo E disastro Che marca Anche la differenza Tra restarsene liberi E magici Per la strada E passare le mattine D'estate Dei prossimi 5 anni A giocare a basket Nel cortile Di Carson City Nessuna comprensione Per il diavolo Ricordalo Se compri il biglietto Devi farti il viaggio E se di tanto in tanto Si fa un po' più dura Di quello che avevi in mente Beh Puoi sempre forzare la mano E rubricarla Come un'espansione Di coscienza coatta Sintonizzati bene Sballa Lasciati sopraffare È tutto Nella Bibbia di Kesei La faccia estrema Della realtà Ma basta Con questi sbrodolii Nemmeno Kesei Può aiutarmi Dove sono ora Ho appena avuto Due esperienze emotive Molto brutte Una Con la California Highway Patrol E l'altra Con un autostoppista Fantasma Che potrebbe essere Oppure no Quello che ho pensato io E ora In bilico Sul limite Di uno sgradevole Episodio psicotico Sono accucciato Con il mio registratore In un beer bar Che in realtà È il retro Di un immenso Magazzino di ferramenta Arratiri di ogni tipo E finimenti E sacchi di concime Ammucchiati Chiedendomi Come sia potuto accadere Circa Otto chilometri fa Ho avuto uno scontro Con la California Highway Patrol Non mi sono fermato Ne ho accostato a destra Niente di ordinario Io guido sempre bene Un tantino veloce forse Ma sempre con consumata abilità E un naturale senso della strada Che perfino i poliziotti Mi riconoscono Non esiste poliziotto Che non abbia un debole Per una sbandata Controllata ad alta velocità Ben eseguita tutto intorno A quei raccordi autostradali A quadrifoglio Poche persone Conoscono l'aspetto psicologico Dell'avere a che fare Con un poliziotto d'autostrada Il tuo abituale autocontrocio Va immediatamente in tilt Al solo vedere La luce rossa lampeggiante E subito ti spinge Sul lato destro della strada A chiedere scusa A implorare pietà Sbagliato Eccita il disprezzo Nel cuore del poliziotto La cosa da fare Quando stai filando A 160 E all'improvviso Trovi sulla tua rotta Il lampeggiante rosso Della CHP Quello che devi fare È accelerare Mai accostare Al primo strillo di sirena Pigia il pedale E invita il bastardo A inseguirti A più di 180 Fino alla prossima uscita Lui ti inseguirà Ma non saprà Come interpretare La tua freccia accesa Che indica Che stai per girare A destra La freccia Serve per fargli sapere Che stai cercando Un posto adatto Per fermarti a parlare Continua a segnalare E augurarti Di trovare presto Una di quelle ripide Rampe di uscita A forma di cappio Con la scritta Velocità massima 45 km all'ora E il trucco A questo punto Consiste nel lasciare L'autostrada E portare il bastardo Sulla rampa Non meno di 160 all'ora Darà sui freni Più o meno Contemporaneamente a te Ma ci metterà Un momento A rendersi conto D'essere sul punto Di fare una completa Inversione di marcia A quella velocità Mentre tu Per quello Sarai pronto Concentrato sulla forza Centrifuga E sul gioco Di piede Tacco punta E nel peggiore Dei casi Quando lui Ti raggiungerà In cima alla rampa Tu ti sarai Già completamente Fermato sul lato Della strada E te ne starai In piedi Accanto alla macchina All'inizio Lui non sarà Molto ragionevole Ma non importa Lascia che si calmi Vorrà avere La prima parola Tu lasciagliela Avrà il cervello Sotto sopra Potrà cominciare A sbraitare O addirittura Tirerà fuori La pistola Lascialo fare Continua a sorridere Il punto È mostrargli Che tu Hai mantenuto Il controllo Di te stesso E della macchina Mentre lui Lo ha perso Su tutto È d'aiuto Avere nel portafoglio Un distintivo Stampa Avidimato Della polizia Quando lui Si sarà accalmato Abbastanza Da chiederti I documenti Io ne avevo uno Ma avevo anche Una lattina Di Budweiser In mano Fino a quel momento Non me ne ero Neanche accorto Mi ero sentito Totalmente padrone Della situazione Ma quando ho guardato giù E mi sono visto Quella specie Di piccola bomba rossa E argento Nella mano Ho capito Che ero fottuto Eccesso di velocità È una cosa Ma guida In stato di ubriachezza È tutta un'altra Il poliziotto Deve averlo afferrato Che avevo gettato Al vento L'intera mia performance Dimenticandomi Di quella lattina Di birra I suoi lineamenti Si sono distesi E ha sorriso Lo stesso Ho fatto io Perché entrambi Capivamo In quel momento Che il mio numero D'arte varia Alla Thunder Road Era stato Completamente sprecato Ci eravamo Entrambi Spaventati A morte Per nulla Perché quella lattina Di birra Nella mano Faceva passare In secondo piano Qualsiasi discussione A proposito Della mia velocità Con la mano sinistra Ha preso Il mio portafoglio Aperto E poi Ha teso la destra Verso la lattina Me ne dai un po' Mi ha chiesto E perché no? L'ha presa Poi l'ha sollevata A metà strada Tra di noi E ha rovesciato Tutta la birra Sulla strada Ho sorriso Ormai indifferente Tanto stava diventando calda Ho detto Proprio dietro di me Sul sedile posteriore Dello squalo C'erano almeno Dieci lattine Di Budweiser calda E circa una dozzina Di pompelmi Mi ero Completamente scordato Di loro Ma adesso Erano troppo evidenti Entrambi Per essere ignorati La mia infrazione Era così Grossolana E schiacciante Che ogni spiegazione Sarebbe stata Inutile Il poliziotto Lo capiva Ti rendi conto? Ha detto Che è reato Guidare Sì Ho detto Lo so Sono colpevole Lo capisco Sapevo che era reato E l'ho fatto lo stesso Ho scrollato le spalle Perché discutere? Sono un fottuto criminale Questo è uno strano Atteggiamento Ha fatto lui L'ho fissato Notando per la prima volta Che avevo a che fare Con un giovanotto sportivo Dagli occhi lucenti Sulla trentina Che sembrava amare Il proprio lavoro Sai Ha detto Penso che dovresti Farti un sonnellino Ha annuito C'è un'aria di sosta Più avanti Perché non ti ci fermi A dormire? Ho capito al volo Cosa intendeva dire Ma per qualche Insanna ragione Ho scosso il capo Un sonnellino Non serve Ho risposto Sono stato sveglio Troppo tempo Tre o quattro notti Non lo ricordo Nemmeno più Se mi metto a dormire ora Per venti ore Sono morto Buon Dio Ho pensato Chi avevo detto? Questo bastardo Stava cercando Di essere umano Avrebbe potuto Portarmi dritto In galera E invece Mi stava proponendo Di farmi un sonnellino Del cazzo Per l'amor di Dio Sì D'accordo con lui Sì agente Naturalmente Mi fermerò In quest'area di sosta E non so dirle Quanto le sono grato Per questa opportunità Che mi ha voluto dare E invece no Eccomi a insistere Che se mi avesse Lasciato andare Avrei ripreso a bomba La mia cavalcata Per LA Il che Era la verità Certo Ma perché dirlo? Perché provocarlo? Questo Non è il momento Per calare le carte Questa è la Dead Valley Date una svegliata Certo Una svegliata Guarda Ho detto Sono stato su A Las Vegas A seguire La Mint 400 Ho indicato Il cartellino Del parcheggio VIP attaccato Sul parabrezza Incredibile Tutte quelle moto E Diombaghi Che sferragliano Nel deserto Per due giorni filati L'hai mai vista? Lui ha sorriso Scuotendo la testa In una sorta Di malinconica comprensione Lo vedevo Che pensava Ero pericoloso Era pronto Lui Per la lunga Insana scena Che avrebbe avuto luogo Se avesse deciso Di arrestarmi Quante ore Di straordinario Avrebbe dovuto farsi Circolando nel tribunale In attesa Di testimoniare Contro di me E che razza Di super avvocato Avrei tirato in ballo Perché se lo lavorasse All'interrogatorio Io lo sapevo Ma lui? Ok Ha detto Ecco come sta la faccenda Quello che va nel mio verbale Ora come ora È che ti ho beccato Ad andare troppo forte E che ti ho raccomandato Un questo avvertimento scritto Me lo ha dato Di non spingerti Oltre la prossima area di sosta Tua destinazione stabilita D'accordo? Dove hai in mente Di schiacciarti Un bel sonnellino Ha riappeso Il libretto dei verbali Alla cintura Sono stato chiaro Mi ha chiesto Mentre si voltava Per andarsene Ho scrollato le spalle Quanto manca a Baker? Pensavo di fermarmi là A mangiare Non è nella mia giurisdizione Ha risposto I confini cittadini Sono a 3.5 km Oltre l'area di sosta Ce la farai fino a là? Qui Ha ghignato ostentatamente Posso provarci Ho fatto È un bel pezzo Che vorrei andare a Baker Ne ho sentito parlare parecchio Ottimo pesce Uno come te Dovrebbe prendere il granchio di terra Prova al Majestic Diner Ho scosso la testa E sono rientrato in macchina Sentendomi violentato Il maiale mi si era fatto Su tutti i fronti E ora Stava per andare a ridersela Al confine occidentale Della città Ad aspettare di intercettarmi Nel mio tentativo di fuga Verso LA Sono ritornato Sull'autostrada E ho superato l'area di sosta Fino allo svincolo Dove dove dovevo svoltare A destra per Baker Mentre mi avvicinavo Alla diramazione Ho visto Cristo santo È lui L'autostoppista Lo stesso che avevamo Preso su e terrorizzato Mentre andavamo a Las Vegas I nostri occhi Si sono incrociati Quando ho rallentato Per fare la curva Sono stato tentato Di fargli un cenno Ma quando l'ho visto Abbassare il pollice Ho pensato No Non è il momento Dio solo sa Che cosa ha raccontato Di noi quel ragazzo Quando è riuscito A raggiungere la città Accelerazione Levarsi di torno Alla svelta Come potevo sapere Se mi aveva riconosciuto O no Certo la macchina Era difficile Da dimenticare E perché mai Altrimenti Lui avrebbe dovuto Indietreggiare Dal ciglio della strada D'un tratto Avevo due nemici Personali In quella città Dimenticata da Dio Il poliziotto Della CHP Mi avrebbe acchiappato Di sicuro Se avessi cercato Di proseguire Per LA E questo maledetto Ragazzino Autostoppista Straccione Mi avrebbe fatto Tampinare Come una bestia Se non mi fossi fermato Santo cielo Sam Eccolo E' lui Quel tipo di cui Ha parlato il ragazzo E' tornato In entrambi i casi Era orribile E se questi prodi Predatori Dell'interno Avessero messo insieme Le loro storie E lo avrebbero fatto Di certo Era inevitabile In una città Così piccola Il conto Per me Sarebbe stato Molto salato Sarei stato Fortunato Se avessi lasciato Vivo la città Una palla Di pece E piume Trascinata Sul piumino Della prigione Dagli indigeni Furibondi Eccoci arrivati La crisi Ho attraversato In fretta La città E ho trovato Una cabina Del telefono Nei soborghi Settentrionali Tra un distributore Sinclair E Sì Il Majestic Diner Ho piazzato Una telefonata D'emergenza A carico Del destinatario Al mio avvocato A Malibu Ha risposto Subito Mi hanno fregato Ho gridato Sono intrappolato In un fottuto Crocicchio In mezzo al deserto Chiamato Baker Non ho molto tempo I rotti in culo Si stanno avvicinando Chi? Ha chiesto lui Sembri un tantino Paranoico Brutto bastardo Ho strillato Prima Sono stato beccato Dalla CHP E poi sono stato Individuato Da quel moccioso Ho bisogno Di un avvocato Immediatamente Cosa ci fai A Baker? Non hai ricevuto Il mio telegramma Cosa? Affanculo i telegrammi Sono nei guai Dovresti essere A Vegas Ha insistito lui Abbiamo una suite Al Flamingo Stavo giusto Per andare All'aeroporto Sono crollato Giù nella cabina Era troppo Era troppo Orribile Eccomi che chiamo Il mio avvocato In un momento Di crisi Terrificante Il coglione Strafatto di droga Un maledetto Vegetale Bastardo infame Ho ruggito Ti spaccherò Ti spaccherò Il culo Tutta quella merda Nella macchina È tua Lo capisci questo? Quando avrò finito Di testimoniare Quaggiù Verrai irradiato Dall'albo Brutta carogna Senza cervello Ha reagito Ti ho mandato Un telegramma Devi seguire La conferenza Nazionale Dei procuratori Distrettuali Ho prenotato Tutto Affittato Una cadillac Bianca Decappottabile È tutto sistemato Cosa cazzo Stai facendo Laggiù In mezzo A quel fottuto Deserto All'improvviso Mi sono ricordato Sì Il telegramma Tutto era Molto chiaro Mi sono calmato Vedevo Tutta la faccenda In un lampo Non importa Ho detto Era solo uno scherzo In realtà Sono seduto Vicino alla piscina Del flamingo Parlo da un telefono Portatile Sai Un nano Me l'ha portato Da dentro il casino Ho credito totale Riesci a capire? Stavo respirando Pesantemente Mi sentivo un pazzo Sudavo Sul telefono Non avvicinarti A questo posto Ho gridato I forestieri Non sono benvenuti Qui Ho riattaccato E sono corso Alla macchina Bene Ho pensato Ecco come va Il mondo Tutti i flussi Di energia Dipendono dai capricci Della grande calamita Che stupido Ero stato a sfidarla Lei sapeva Aveva sempre saputo Era stata lei A intrappolarmi A Baker Mi ero allontanato Troppo Così lei mi ha acciuffato Chiudendomi tutte le vie di fuga Tormentandomi prima Con la CHP E poi con questo sudicio Autostoppista fantasma Facendomi piombare Nella paura E nella confusione Mai attraversare La grande calamita L'ho capito In quel momento E con la comprensione È arrivato Un senso di sollievo Quasi terminale Sì Sarai tornato a Vegas Liberarsi del ragazzo E disorientare la CHP Diriggendosi di nuovo a Est Anziché a Ovest Di nuovo a Vegas A firmare l'accredito Per la conferenza Su droghe E sostanze psicotrope Io E mille maiali Perché no? Muoversi in mezzo a loro Con disinvoltura Registrarsi al flamingo E ottenere immediatamente La caddy bianca Farlo E farlo bene Ricordati di Orazio Alger Ho guardato Di là della strada E ho visto Una grande insegna rossa Che diceva Birra Splendido Ho lasciato lo squalo Alla cabina del telefono E barcolando Ho attraversato L'autostrada Fino al magazzino Di ferramenta Un ebreo È spuntato Da dietro Una pile di rocchetti E mi ha chiesto Cosa volevo Ballantine Ale Ho detto Scommessa Azzardata Molto mistica Su una marca Sconosciuta Tra Newark E San Francisco Me l'ha servita Ghiacciata Mi sono disteso Un po' Di colpo Tutto andava bene Finalmente Potevo rifiatare Il barista Mi si è avvicinato Sorridendo Dove sei diretto Giovane Las Vegas Lui ha sorriso ancora Grande città Vegas E tu Ci troverai la fortuna Sei il tipo Lo so Ho risposto Sono scorpione Triplo Non è sembrato Compiaciuto È una bella Combinazione Ha detto Non puoi perdere Ho riso Non preoccuparti In realtà Sono il procuratore Distrettuale Della contea Di Ignoto Solo un altro Buon americano Come te Il suo sorriso È scomparso Avrà capito Non potevo Esserne sicuro Ma importava poco Comunque Stavo per tornare A Las Vegas Non avevo scelta Capitolo 1 Parte seconda Circa 30 km est Di Baker Mi fermai a controllare La borsa delle droghe Il sole era alto E mi sentivo in vena Di uccidere Qualunque cosa Magari un bel lucertolone Bucherellarla per bene Quella bestiaccia di merda Tirai fuori dal bagagliaio La 357 Magnum Del mio avvocato E feci girare il tamburo Era stata carica Per tutto il tempo Lunghe Schifose Suppostine Da 12 grammi Con una bella linea Fluida E dipinte di oro Azteco Sulla punta Detti un paio Di colpi di clacson Sperando di attirare Un'iguana Muovetevi Stronze Erano laggiù Lo sapevo In quel dannato Mare di cactus Acquattate Che respiravano Appena E ognuna di loro Piccole Bastarde Fetenti Era carica Di veleno Tre rapide esplosioni Mi fecero perdere L'equilibrio Tre scoppi assordanti Con rinculo Provenienti Dalla 357 Magnum Nella mano destra Cristo Sparare al nulla Senza ragione Ah Bella stronzata Lanciai la pistola Sul sedile davanti Dello squalo E fissai l'autostrada Nemmeno una macchina La strada Era deserta Per 4 o 5 km In entrambe le direzioni Questa si chiama Fortuna Meglio non essere sorpresi In simili circostanze A sparare selvaggiamente Su un cactus Da una macchina Piena a zeppa di droghe E specialmente Non adesso In fuga Dalla Highway Patrol Sarebbero sorte Domande imbarazzanti Beh Signor Duke Lei capisce Naturalmente Che è vietato Scaricare armi Da fuoco Di qualsiasi tipo Dal ciglio Di un'arteria federale Come? Anche per legittima difesa? Questa maledetta pistola Ha il grilletto sensibile Agente La verità È che io Intendevo sparare Un colpo solo Giusto per spaventare Quelle piccole Bastarde Un'occhiataccia E poi Parlando molto lentamente Mi sta Dicendo Signor Duke Che è stato Aggredito Qui? Eh No Non esattamente Aggredito Agente Ma seriamente Minacciato Sì Mi ero fermato A pisciare E nel momento In cui sono sceso Dalla macchina Questi sudici Sacchi di veleno Mi hanno circondato Veloci come fulmini Avrebbe retto La storia? Eh Sarei stato tratto In arresto E poi Come da procedura Avrebbero perquisito La macchina E a quel punto Si sarebbe scatenato Il vero casino Non avrebbero mai creduto Che tutte quelle droghe Mi servivano per lavoro Né che In realtà Ero un giornalista Professionista In viaggio per Las Vegas Per seguire La conferenza nazionale Dei procuratori distrettuali Su sostanze psicotrope E droghe pericolose Sono solo dei campioni Agente Ho preso Tutta questa roba A un vagabondo Della chiesa Neoamericana Giù a Barstow Ha cominciato A comportarsi In modo buffo E gli ho dato Una lezioncina Questa se la sarebbero bevuta? Nah Mi avrebbero rinchiuso In qualche galera In culo alla luna E mi avrebbero spezzato Le reni Con grossi randelli Facendomi pisciare sangue Per il resto Dei miei giorni Fortunatamente Nessuno mi disturbò Mentre faceva Un rapido inventario Dentro la borsa La provvista Era diventata Un vero bordello Di roba Tutta mescolata E mezzo schiacciata Molte pillole di mescalina Si erano disintegrate In polvere marrone Rossastra Ma ne trovai 35 o 40 Ancora intatte Le rosse Le aveva fatte fuori Tutte il mio avvocato Ma c'era ancora Un bel po' di speed Niente più erba Vuota la bottiglietta Di coca Un tampone di acido Un grazioso Mucchietto marrone Di asci scioppiato E sei Popper sciolti Poca roba Per le cose serie Ma un accurato Razionamento Della mescalina Ci avrebbe Probabilmente permesso Di portare in fondo I quattro giorni Della conferenza antidroga Nella periferia Di Vegas Mi fermai In una farmacia Di quartiere E comprai Due litri Di tequila gold Due bocce Di civas regal E mezzo litro Di etere Fui tentato Di chiedere Anche qualche fiala Di popper Già che c'ero La mia angina pectoris Era entrata in azione Ma il farmacista Aveva gli occhi Di battista Isterico E meschino Gli spiegai Che l'etere Mi serviva Per togliermi I cerotti Dalle gambe Ma lui aveva Già battuto Il prezzo E incartato La merce Non gliene importava Un cazzo Del perché lo prendevo Mi domandai Cosa avrebbe detto Se gli avessi chiesto 22 dollari Di romilar E una tannica Di protossido Di azoto Probabilmente Me li avrebbe venduti Perché no Libera impresa Dare ai clienti Ciò di cui hanno bisogno Specialmente A questo ragazzotto Sudato Che parlava nervosamente Con le gambe Coperte di cerotti E quella tosse tremenda Oltre all'angina pectoris E quei terrificanti Accessi Aneuristici Ogni volta Che prendeva il sole Intendo dire Che il ragazzo Era messo male Agente Come diavolo Facevo a sapere Che si sarebbe Fiondato in macchina Cominciando immediatamente A strafarsi Di queste sostanze Eh certo Come facevo a saperlo Intugiai un istante Davanti allo scaffale Delle riviste E poi Mi detti una mossa E tornai in macchina In tutta fretta L'idea di farsi Di gas esilerante Nel mezzo di una conferenza Di procuratori antidroga Aveva un fascino Assolutamente perverso Ma non il primo giorno Pensai Servalo per dopo Non era il caso Di farsi arrestare E internare Prima ancora Che la conferenza Cominciasse Fregai una rivista Da una rastrelliera Che c'era nel parcheggio Ma la buttai via Subito dopo aver letto L'articolo in prima pagina Esito incerto Dell'operazione Dopo asportazione Degli occhi Baltimora UPE Medici Hanno dichiarato Venerdì Di non sapere Se l'operazione chirurgica Potrà restituire La vista A un giovane Che si era Asportato gli occhi In carcere Sotto l'effetto Di una overdose Di droga Charles Inns Junior 25 anni È stato sottoposto All'operazione Giovedì sera Al Maryland General Hospital Ma potrebbero passare Settimane Prima che i medici Siano in grado Di pronunciarsi Sull'esito Un bollettino Rilasciato dall'ospedale Riferisce che Innes Prima dell'operazione Non aveva percezione Della luce In entrambi gli occhi E che le possibilità Di recuperarla Sono estremamente scarse Innes Figlio di un esponente Repubblicano del Massachusetts Era stato trovato Giovedì Nella sua cella Da un secondino Che ha riferito Che si era strappato I bulbi oculari Innes era stato arrestato Mercoledì notte Mentre vagava nudo Per il quartiere Dove abita Esaminato Al Mercy Hospital Era poi stato Tradotto in cella La polizia E un amico di Innes Hanno dichiarato Che aveva assunto Una forte dose Di sedativo Per animali Secondo la polizia La droga Era PCP Un prodotto Della Park Davis Che dal 1963 Non viene più venduto Per utilizzo Sugli uomini Tuttavia Un portavoce Della Parker Davis Non ha escluso Che la sostanza Possa essere reperita Al mercato nero Preso da solo Ha dichiarato il portavoce Il PCP Produce effetti Che durano al massimo 12-14 ore Ma non sono noti Gli effetti Del PCP Combinato con Un allucinogeno Come l'LSD Innes aveva lamentato Con un vicino Il giorno dopo Aver assunto La sostanza Che gli occhi Gli davano fastidio E che non poteva leggere La polizia Ha detto che Durante la notte Del mercoledì Innes sembrava In preda A una cupa depressione E che era Talmente insensibile Al dolore Che quando si è cavato Gli occhi Non ha nemmeno gridato Capitolo 2 Parte 2 Altro giorno Altra decapottabile E altro hotel Pieno di sbirri Il primo ordine di servizio Era sbarazzarsi Dello squallo rosso Era fin troppo ovvio Troppa gente Avrebbe potuto Riconoscerlo Specialmente La polizia Di Vegas Ben che Per quanto ne sapevano Loro Doveva già trovarsi In LA l'ultima volta Che era stato avvistato Mentre filava A tutta velocità Per la Death Valley Sull'Interstate 15 Fermato E ammonito Ufficialmente A Baker Dalla CHP Poi improvvisamente Svanito L'ultimo posto Dove l'avrebbero cercato Pensai Era il parcheggio Dell'autonoleggio Dell'aeroporto Dovevo andarci comunque A prendere il mio avvocato Che arrivava da LA Nel tardo pomeriggio Guidai con molta prudenza Sull'autostrada Tenendo a freno La mia naturale Inclinazione Per le accelerate brucianti E gli improvvisi Cambi di corsia Cercando Di non farmi notare E quando arrivai Al parcheggio Piazzai lo squalo Tra due vecchi Autobus militari In un'area Di pubblico servizio Distante più di mezzo Chilometro dal terminal Molto alti Gli autobus Rendergli la vita Più dura possibile Agli stronzi Una passeggiatina Non ha mai fatto male A nessuno Quando arrivai Al terminal Grondavo di sudore Niente di anormale Comunque Io tendo a sudare Molto nei climi caldi Ho i vestiti Zuppi Dall'alba Al tramonto All'inizio Mi preoccupavo Ma quando andai Da un dottore E descrissi La mia quotidiana Assunzione Di alcol Droghe E beleni E beleni vari Quello Mi consigliò Di ritornare Da lui Quando avessi Smesso Di sudare Allora sì Che sarebbe stato Pericoloso Mi disse Un segno Che il marchigegno Disperatamente Sovraccarico Del mio corpo Zampillante Si era rotto Senza rimedio Ho molta fiducia Nei processi naturali Mi disse Ma nel tuo caso Beh Non conosco Nessun precedente Dobbiamo solo Aspettare E vedere E poi Lavorare Su ciò Che sarà ribasto Passai un paio D'ore nel bar A bere Bloody Mary Per via Del contenuto Nutrettivo Del succo Di pomodoro Tenendo d'occhio I voli In arrivo Da LA Nelle ultime 20 ore Avevo mangiato Solo pompelmi E la mia testa Aveva rotto Gli ormeggi Meglio Che ti riguardi Un po' Pensai C'è un limite A ciò Che il corpo Umano Può sopportare Non puoi Permetterti Di crollare Cominciando a Sanguinare Dagli orecchi A Las Vegas I feriti Vengono Eliminati Mi concentrai Su questo E rimasi Buono Per un po' Anche quando Mi ritrovai Ad accusare I sintomi Di un'anorragia Terminale Ma passò Notai Che la cameriera Cominciava A innervosirsi Così mi sforzai Di alzarmi E rigidamente Me ne andai Al bar Nessun segno Del mio avvocato Andai Allo sportello Dell'autonoleggio VIP Dove permutai Lo squalo rosso In una cadillac Bianca Decappottabile Questa maledetta Chevrolet Mi ha fatto passare Un sacco di guai Dissi Mi pareva di essere Un coglione Specie alle stazioni Di servizio Quando mi toccava Scendere Per aprire A mano La cappotta Beh Naturalmente Fece l'uomo Dietro al bancone Quello che fa Per lei Penso sia Una bella Mercedes 600 Town Cruiser Special Con aria Condizionata È disponibile Conservatoio Di riserva Se vuole Siamo in grado Di forniriela Ho per caso L'aria Di un nazista Del cazzo Protestai Voglio una vera Macchina americana O niente Fecero Immediatamente Venire la coupé Deville Bianca Completamente Automatica Ci si poteva Sedere sul sedile Di pelle rossa E fare letteralmente Schizzar su Ogni centimetro Di quel gingillo Spingendo il bottone Giusto Era davvero Strepitosa Dieci testoni Di aggeggi Ed effetti speciali Costosissimi I finestrini Posteriori Saltavano su Con un tocco Come rane In uno stagno Minato Il tettino Di tela bianca Filava su e giù Come un otto volante Il cruscotto Era pieno Di luci esoteriche E quadranti E contatori Che non sarei mai Arrivato a capire Ma nella mia mente Non c'erano dubbi Sul fatto Che si trattasse Di una macchina Superiore La Caddy Non avrebbe avuto Partenze a razzo Come lo squalo rosso Ma una volta Cominciato a rullare Intorno ai 130 Era puro E semplice Inferno di velluto Tutto quel carico Elegante E tappezzato Che sferzava L'aria del deserto Doveva essere Come sfrecciare Nella notte Su una vecchia California Zephyr Condussi in porto La transazione Servendomi di una carta Di credito Che più tardi Avrei saputo Potuto essere stata No solo Solo una normale Verifica di routine Niente di urgente Lunga pausa Dall'altra parte Poi Merda santissima Come? Mi scusi Sì 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 Abbiamo quel numero Si trova nella fascia Rossa di emergenza Chiami la polizia E non lo lasci Allontanare di un passo Altra lunga pausa Beh Vede Quel numero Nella nostra lista rossa Non c'era E Il numero Il numero 875 045 616 B È appena uscito Dal nostro parcheggio Su una Cadillac Decapottabile No Sì È andato Integralmente Assicurato Dove? Mi pare Che abbia detto San Luis Sì C'è scritto Sulla carta Raul Duke Mezzo sinistro E battitore Di San Luis Brown Cinque giorni E 25 dollari Al giorno Più 15 centesimi Al chilometro La carta è risultata valida Perciò Naturalmente Non abbiamo potuto Fare altro che Ed è vero L'agenzia di autonoleggio Non aveva Pigli legali Per rompermi le palle Dato che la mia Carta di credito Era tecnicamente Valida E infatti Durante i successivi Quattro giorni Guidai quella macchina Per tutta Las Vegas Passando e ripassando Davanti all'agenzia centrale Di autonoleggio VIP In Paradise Boulevard E non fui mai Infastedito Dalla minima Scortesia È uno dei marchi Dell'ospitalità Di Vegas L'unica regola Ferria Da rispettare È non metterlo In culo Agli indigeni Ma tolto quello Se ne sbattono Neanche le sanno Le cose Se domattina Charlie Manson Chiedesse una stanza Al Sahara Nessuno Gli romperebbe I coglioni A patto che Allungasse Mance generose Dopo aver ritirato La macchina Andai direttamente In albergo Di nuovo Nessun segno Del mio avvocato E perciò Decisi di fare Il check in Per conto mio Non fosse altro Che per levarmi Dalla strada Ed evitare Il collasso In pubblico Lasciai la balena In un'area Di parcheggio VIP E ruzzolai Semi-incoscientemente Nella lobby Con solo Una piccola Borsa in pelle Una cartella Fatta a mano Su ordinazione Da un mio amico Artigiano di Boulder La nostra stanza Era prenotata Al Flamingo Nel centro Nevralgico Dello strip Proprio di fronte Al Caesar Palace E ai Dunes Sede Della conferenza Antidroga Il grosso Dei conferenzieri Stava al Dunes Ma quelli Che si erano Snobisticamente Iscritti All'ultimo momento Erano stati Sistemati Al Flamingo Il posto Pululava Di poliziotti Lo vidi In un baleno Molti stavano Semplicemente Lì E cercavano Di fare I vaghi Tutti vestiti Esattamente Uguali Nei loro Abiti sportivi Stile Vegas Presi ai saldi Magliette Da golf Arnie Palmer Bermuda Scacchi E bianche Gambe affusolate E in plumi Che scendevano Fino ai sandali Da spiaggia Con la suola Di gomma Era uno scenario Terrificante Da attraversare Una specie Di super Imboscata Se non avessi saputo Della conferenza Il mio cervello Avrebbe svalvolato Immediatamente Si aveva L'impressione Che qualcuno Stesse per essere Abbattuto A pistolettate Nel corso Di un fittissimo Scontro a fuoco Magari L'intera Famiglia Manson Il mio arrivo Fu intempestivo La maggior parte Dei procuratori Distrettuali E delle altre Razze di sbirri Era già arrivata Ed erano loro A popolare La lobby Fissando arcignamente Tutti i nuovi venuti Quello che sembrava L'agguato finale Era solo un paio Di centinaia di poliziotti Che girellavano Senza sapere cosa fare Non si notavano Nemmeno L'uno con l'altro Guardai la lobby Fino al banco E poi mi misi in coda L'uomo davanti a me Era un poliziotto Capo di una qualche Cittadina del Michigan La moglie Stile signora Agnew Gli stava Un metro Alla destra Mentre lui discuteva Con l'impiegato Del banco Guardi giovanotto Le ho detto Che qui ho una cartolina Con su scritto Che ho una prenotazione In questo hotel Diavolo Sono venuto Per la conferenza Dei procuratori La stanza L'ho già pagata Sono desolato Signore Lei è della lista Dei ritardatari La sua prenotazione È stata trasferita Al Al Moonlight Hotel Che si trova In Paradise Boulevard E mi creda È un posto Molto confortevole Ha soli 16 isolati Da qui Con la sua piscina È Brutto Finocchietto Chiama subito Il direttore Sono stufo Di ascoltare Queste stronzate Comparve il direttore E si offrì Di chiamargli Un taxi Ovviamente Si trattava Del secondo O forse addirittura Del terzo atto Di un crudele Drama Iniziato Un molto tempo Prima che arrivassi io La moglie Del poliziotto Capo Piangeva Il branco Di amici Che lui Aveva radunato Intorno a sé Era troppo Imbarazzato Per spalleggiarlo Soprattutto ora In questa scenata al banco Con questo piccolo poliziotto Incazzato Che sparava Gli ultimi colpi Ormai tutti avevano capito Che aveva perso Stava andando Contro le regole E la gente Che per lavoro Doveva farle rispettare Diceva Tutto esaurito Dopo dieci minuti In coda Dietro quel fastidioso Stronzetto Con i suoi amici Cominciai ad avvertire I segni Di un travaso di bile Dove lo trovava Il coraggio Questo poliziotto Proprio lui Di discutere Con chi che sia In termini di diritto E ragione Troppe volte Mi ci ero trovato io Nella stessa situazione Alle prese Con quelle ottuse Testine di cazzo E lo stesso Percepivo Valeva per l'impiegato Aveva l'aria di uno Che si era beccato Parecchie inculate Nella vita Da un novero Discretamente rappresentativo Di poliziotti Meschini E fanatici Delle regole Perciò ora stava lì Solo ripagando Con la stessa moneta Non ha importanza Chi ha ragione E chi ha torto Signore O chi ha pagato La sua stanza O chi no Ciò che conta In questo momento È che per la prima volta Nella mia vita Posso fottermi un maiale Perciò vado a fare Il culo a gente Sono io in servizio qui Le dico che una stanza Per lei Non ce l'abbiamo Mi stavo godendo Quel melodioso Battibecco Ma a un certo punto Mi sentii stordito Nervosissimo E l'impazienza Ebbe la meglio Sul divertimento Perciò Girai intorno al maiale E mi rivolsi Direttamente All'impiegato Dica Feci Detesto Interrompere la gente Ma A una prenotazione Mi chiedevo Se Magari Non potesse farmi Scivolare dentro Sorrisi Lasciandogli capire Che avevo apprezzato La sua velenosa Prepotenza Con la comitiva Di poliziotti Che rimanevano lì Psicologicamente Sopraffatti E mi fissavano Come fosse Una specie Di pantegana Che si arrampicava Lentamente Sul banco In effetti Non ero messo Molto bene Avevo dei vecchi Levis Scarpe da ginnastica All star Chuck Taylor E la mia camicia A capulco Da 10 pesos Si era già da un pezzo Sdrucidata Sulle cuciture E feci bene E che abbi pure Qui per qualsiasi cosa A noi E sorrisi Guardando di sguincio Lo stupore Dei poliziotti Accanto a me Erano inebetiti Eccoli Che dovevano Attingere Fino all'ultima Stilla di autorità Di cui disponevano Per reclamare Una stanza Che avevano Già pagato E di colpo Tutto il loro sforzo Viene spazzato via Da un lurido Scoppiato Che pare appena Uscito Da una baraccopoli Per vagabondi Del Michigan settentrionale E che si presenta Con una manciata Di carte di credito Mio Dio Cosa sta succedendo In questo mondo? Capitolo 3 Parte 2 Selvaggia Lucy Denti come palle Da baseball Occhi come gelatina Incandescente Consegnai la mia borsa Al ragazzo Che scattò via E gli dissi Di portare Una bottiglia Di wild turkey Due divacardi A nejo E una scorta Di ghiaccio Per la notte La nostra stanza Si trovava In una delle ali Più lontane Del flamingo Più che un albergo Il posto È una specie Di immenso Playboy club Pieno di debiti Nel mezzo del deserto Qualcosa come Nove ali separate Con camminamenti E piscine Comunicanti Un ampio complesso Tagliato da un labirinto Di rampe E viali carrabili Ci misi Circa 20 minuti Per arrivare A piedi Dal banco Alla remota ala Nella quale Eravamo stati sistemati La mia idea Era di entrare Nella stanza Ricevere la consegna Del bagaglio Con le droghe E poi fumarmi L'ultimo cannone Di singapore grigio E aspettare L'arrivo Del mio avvocato Guardando Walter Croknight Avevo bisogno Di questo stacco Di questo momento Di pace E di riposo Prima di affrontare La conferenza antidroga Sarebbe stata Una cosa Alquanto diversa Dalla Mint 400 Quella era stata Una faccenda di osservazione Ma questa Avrebbe necessitato Partecipazione E in una posizione Molto particolare Alla Mint 400 Avevamo a che fare Con una folla Sostanzialmente simpatica E se anche il nostro comportamento Era greve E oltraggioso Beh Era solo questione Di quanto Ma stavolta La nostra stessa presenza Sarebbe stata Un oltraggio Avremmo assistito Alla conferenza Sotto mentite spoglie E avremmo avuto A che fare Fin dall'inizio Con persone convenute lì Col dichiarato Proposito Di mettere in galera Gente come noi Eravamo La minaccia Tossici Nemmeno tanto dissimulati Ma anzi Assai evidenti E nella piena Flagranza di un'azione Che era nostra intenzione Spingere all'estremo Per tutto il tempo Non per provocare Alcuna conclusiva Tesi sociologica E nemmeno Per spregio Era principalmente Una questione Di stile di vita Un senso di vicolo E addirittura Di dovere Se i maiali Si riunivano A Las Vegas Per una conferenza Antidroga Di alto livello Sentivamo necessario Che anche la cultura Della droga Fosse rappresentata In più Ero fuori di testa Da così tanto tempo Ormai Che una cosa del genere Finiva per sembrarmi Perfettamente logica Considerate le circostanze Mi sentivo del tutto In sintonia Con il mio karma O per lo meno Così fu Fino al momento In cui arrivai Alla grande porta grigia Che dava accesso Alla mini suite 1150 Nell'ala lontana Ficcai la chiave Con forza Nella serratura E aprì la porta Pensando Ah Finalmente a casa Ma la porta Colpì qualcosa Che subito Riconobbi Essere un corpo umano Una ragazza Una ragazza E' un po' 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 della ragazza bulldog questa è lucy rise distrattamente sai come lucy in the sky with diamonds feci un cenno a lucy che mi stava occhiaggiando con una perfidia totale ero decisamente un nemico per lei una minacciosa intrusione sulla sua scena e appariva chiaro da come si aggirava per la stanza rapida e tirata in punta di piedi che mi stava studiando era pronta per qualcosa di violento non c'era molto da equivocare anche il mio avvocato se ne accorse lucy scattò lucy stai calma maledizione ricorda cos'è successo all'aeroporto cerchiamo di evitare che si ripeta ok le sorrise nervosamente lucy aveva l'aria di una bestia appena lanciata nell'arena per un combattimento all'ultimo sangue lucy è il mio cliente è signor duke il famoso giornalista è lui che paga per questa suite lucy è dei nostri lei non aprì bocca si vedeva che non era nel pieno controllo di sé spalle grosse per una donna e un mento alla oscar bonavena i sedetti sul letto e senza dare nell'occhio misi mano alla bomboletta di mace dentro alla borsa e quando sentì il pollice contro il pulsante dell'erogatore fui tentato di tirarla fuori di scatto e spruzzargliela contro per principio avendo io disperatamente bisogno di pace riposo e asilo l'ultima cosa che volevo era un combattimento terminale nella mia stanza d'albergo con una specie di mostro ormonale strafatto di droga il mio avvocato parve capirlo sapeva perché la mia mano era scivolata nella borsa no gridò non qui poi ci toccherà evacuare la stanza lo ignorai era accotto si vedeva e lusi pure i suoi occhi erano fogli e febbricitanti mi guardava come fossi qualcosa che andava ridotto all'impotenza perché la vita potesse tornare a qualunque stato che lei considerasse normale il mio avvocato le si avvicinò pigramente e le mise le braccia intorno alle spalle il signor duke è un amico le disse con dolcezza lui ama gli artisti facciamogli vedere i tuoi quadri per la prima volta feci caso al fatto che la camera era piena di dipinti forse 40 o 50 ritratti alcuni a olio altri a carboncino tutti più o meno delle stesse dimensioni dello stesso viso erano appoggiati su ogni superficie piatta il viso era vagamente familiare ma non riuscivo a riconoscerlo era una ragazza dalla bocca larga con un gran naso e occhi estremamente luccicanti un viso diabolicamente sensuale il tipo di lavori imbarazzanti ed esageratamente drammatici che di solito si trova nelle camerette delle giovani studentesse d'arte che hanno preso la fittonata di disegnare i cavalli luci fa ritratti di barbara streisand spiegò il mio avvocato dipinge su nel montana si voltò verso di lei come come si chiama la tua città lei lo fissò poi guardò a me poi di nuovo il mio avvocato poi finalmente disse calispell su al nord li ho disegnati davanti alla tv il mio avvocato annui energicamente fantastico disse ha fatto tutta questa strada solo per dare a barbara i suoi ritratti stanotte andremo insieme all'hotel americana per incontrarla in camerino lussi sorrise timidamente ora in lei non c'era più nessuna ostilità mollai la bomboletta e mi alzai in piedi naturalmente avevamo un caso piuttosto grave tra le mani non ero preparato per questo trovare il mio avvocato in acido e asserragliato in una specie di corteggiamento preternaturale beh dissi credo che ormai avranno portato qui la macchina andiamo a prendere la roba dal bagagliaio assolutamente approvò il mio avvocato andiamo a prendere la roba sorrise a lussi torniamo subito non rispondere al telefono si suona lei sorrise e col dito fece il segno dei jesus freaks dio vi benedica disse mio avvocato si infila un paio di pantaloni a zampa di elefante e una camicia nera lucida quindi ci precipitamo fuori dalla stanza vidi che aveva problemi a orizzontarsi ma non feci niente per risolverglieli beh dissi qual è il tuo piano piano stavamo aspettando l'ascensore lucy dissi scosse la testa cercando di mettere a fuoco la faccenda merda disse alla fine l'ho incontrata in aereo mentre ero in acido scrollò le spalle sai quelle capsuline blu cristo è una hippie mistica è scappata di casa qualcosa come cinque volte in sei mesi è terribile le ho dato la capsula prima di rendermi conto oh merda non aveva mai toccato nemmeno l'alcol prima bene dissi forse può funzionare possiamo mantenerla carica e offrire il suo culo alla conferenza antidroga mi fissò è perfetta dissi questi sbirri questi sbirri daranno 50 bigliettoni per corcarla di botte e poi farsela in gruppo possiamo sistemarla in un motel fuori mano appendere immagini di gesù cristo per tutta la stanza scatenarle contro i maiali cazzo una ragazza robusta la spangerà il suo viso si contrasse in una smorfia eravamo in adesso scendevamo nelle lobby cristo santo mormorò sapevo che eri malato ma non mi sarei mai aspettato che dicessi una cosa simile sembrava sbalordito risi è pure economia questa ragazza e manna dal cielo lo fissai con un vero sorriso alla bogart a tutti i denti merda siamo quasi a terra e all'improvviso ecco che rimorchi una pazza tutta muscoli che può farci tirar su mille dollari al giorno gridò smettila di dire queste cose la porta dell'ascensore si aprì e ci dirigemmo verso il parcheggio secondo me può farsene anche quattro alla volta dissi cristo se la manteniamo bella piena di acido può valere anche duemila dollari al giorno forse tramila brutto bastardo farfugliò dovrei dovrei staccarti quella testa di cazzo mi guardava in tralice per proteggersi gli occhi del sole individuai la balena bianca a una quindicina di metri dalla porta eccola là feci non male per un magnaccia lui mandò un gemito il suo viso rifletteva il conflitto che io sapevo in corso nel suo cervello sotto gli sporadici assalti dell'acido tremende ondate di dolorosa intensità seguite dalla confusione più totale quando aprì il bagagliaio della balena per prendere le valigie si incazzò cosa diavolo stai facendo strillò questa non è la macchina di lusi lo so risposi è la mia e questo è il mio bagaglio col cazzo urlò solo perché io sono un maledettissimo avvocato non vuol dire che puoi andartene in giro a rubare sotto i miei occhi indietreggiò che cos'è che non funziona in te al processo non vinceremo mai in questa maniera dopo molte difficoltà tornammo in camera e cercammo di avere un colloquio serio con lusi mi pareva di essere un nazista ma bisognava farlo non era adatta a noi non in quella precaria situazione era già un problema se fosse stata quello che sembrava una ragazzetta svitata in preda agli spasmi di una brutta esperienza allucinogena ma ciò che mi preoccupava molto di più era la forte probabilità che nel giro di poche ore potesse ritornare abbastanza lucida da piombare in un violento furore religioso al confuso ricordo di essere stata rimorchiata e seduta all'aeroporto internazionale di los angeles da un crudele samoano che l'aveva rimpilzata di alcol e lsd poi trascinata in una camera d'albergo di vegas e lì selvaggiamente penetrata in ogni orefizio col proprio palpitante membro non circoinciso aveva la terrificante visione di lucy che irrompeva nel camerino di barbara streisand all'americana e le spiattellava tutta la sua brutale avventura per noi sarebbe stata la fine ci avrebbero rintracciato e probabilmente castrato entrambi prima ancora di fissare spiegai tutto quanto il mio avvocato che ora era in lacrima il pensiero di doversi separare da lucy lei era ancora strepitosamente fatta e io sapevo che l'unica soluzione era portarla il più lontano possibile dal flamingo prima che si riprendesse quel tanto da ricordare dov'era stata e cosa le era successo lucy mentre noi due discutevamo se ne stava lunga distesa in terrazza a buttare giù uno schizzo a carboncino di barbara streisand a memoria stavolta era una versione frontale con i denti come palle da baseball e occhie come gelatina incandescente la profonda intensità di quel ritratto mi inquietò questa ragazza era una mina vagante dio solo sa cosa avrebbe potuto fare di tutta quell'energia se non avesse avuto il blocco da disegno e cosa avrebbe potuto fare quando fosse tornata abbastanza lucida da poter leggere il vegas visitor cosa che io avevo fatto scoprendo che per le successive tre settimane all'americana non era in programma nessuna barbara streisand alla fine anche il mio avvocato convenne con me che lucy se ne doveva andare le possibilità di una condanna sulla base della legge man con conseguente radiazione dall'albo professionale e totale perdita di ogni mezzo di sussistenza giocò un ruolo chiave nella sua decisione sarebbe stato un durissimo processo federale specie per un samoano abnorme dinnanzi a una tipica giuria di bianchi medio borghesi della california meridionale possono anche considerarlo sequestro di persona dissi dritto alla camera gas come chessman e anche se ti riuscissi di scansarla ti rispedirebbero nel nevada per stupro e sodomia consensuale no gridò ho solo avuto pietà di quella ragazza volevo solo aiutarla sorrisi è quello che ha detto anche fatti art buckle e sai cosa gli hanno fatto chi lascia stare dissi immaginati soltanto mentre cerchi di spiegare a una giuria che intende di aiutare questa povera ragazza dandole dell'lsd e poi portandotela a vegas per uno dei tuoi speciali retroservizi a carne nuda scosse tristemente la testa hai ragione probabilmente mi brucerebbero su un cazzo di rogo morte per fuoco direttamente lì sul banco degli imputati merda ecco cosa succede di questi tempi quando si cerca di aiutare il prossimo comincemmo lucy a scendere fino alla macchina dicendole che era il momento di andare a incontrare barbara non ci furono problemi a farle portare i disegni ma non riusciva a capire perché il mio avvocato si ostinasse a farle portare anche la valigia non vorrei metterla in imbarazzo protestava penserà che mi voglio mi installare da lei o cosa no non lo penserà ribattei ma questo fu tutto ciò che mi riuscì di obiettare mi sentivo come martin borman che sarebbe stato di questa povera disgraziata quando l'avremmo mollata carcere tratta delle bianche cosa avrebbe fatto il dottor darwin in questa situazione sopravvivenza dei più idonei qual era la parola giusta aveva mai preso in considerazione darwin il concetto di idoneità temporanea come la temporanea incapacità di intendere e volere aveva lasciato spazio nelle sue teorie per una cosa come l'lsd tutto questo era pura accademia naturalmente lusi era una minaccia potenzialmente letale sulle nostre teste non c'era assolutamente nient'altro da fare che lasciarla andare via alla deriva sperando che la sua memoria si fosse fottuta alcune vittime dell'acido specie i mongoloidi nervosi hanno una sorta di ebete capacità di ricordare strani dettagli e null'altro era tecnicamente possibile che lusi passasse altri due giorni nella più totale amnesia e poi ne uscisse con l'unico lucidissimo ricordo del nostro numero di stanza al flamingo ci pensavo ma l'unica alternativa era portarla in mezzo deserto e lasciare i suoi resti in pasto ai lucertoloni e a questo non ero disposto sembrava un tantino pesante in confronto a ciò che cercavamo di proteggere e cioè il mio avvocato perché tutto si riduceva a questo così il problema era trovare una soluzione intermediaria e orientare lusi in una direzione che non le avrebbe fuso il cervello provocando disastrose frustate retroattive soldi ne aveva il mio avvocato se ne era sincerato almeno 200 dollari disse e possiamo sempre avvertire la polizia del montana su dove vive lei e consegnarla a loro ma io ero riluttante di peggio che mollarla di brutto a las vegas c'era soltanto consegnarla alle autorità e comunque era del tutto fuori discussione non adesso ma che razza di maledetto mostro sei dissi prima rapisci una ragazza poi la violenti e ora vuoi farla rinchiudere in galera scrollò le spalle mi viene in mente ora disse che lei non ha testimoni qualunque cosa possa dire di noi è giuridicamente priva di valore di noi mi guardò fisso si vedeva che la testa gli si stava annebbiando l'acido era quasi svanito ciò significava che anche lusi stava probabilmente tornando a terra era tempo di tagliare la cima lusi ci aspettava in macchina ascoltando la radio con un sorriso da scoppiata noi due eravamo una decina di metri più in là chiunque ci avesse visto da lontano avrebbe pensato che stavamo avendo qualche sporco definitivo chiarimento a proposito di chi avesse diritti su di lei era la scena standard era la scena standard per un parcheggio di las vegas alla fine decidemmo di prenotarle una stanza all'americana il mio avvocato andò lentamente fino alla macchina con un pretesto le carpì il cognome quindi io corsi dentro e chiamai l'albergo dicendo di essere lo zio e di volere che fosse trattata molto bene nel momento che era un artista e che poteva sembrare un tantino ipertesa l'impiegato mi assicurò che le avrebbero usato ogni cortesia poi andammo all'aeroporto dicendo che dovevamo cambiare la balena bianca con una mercedes 600 e il mio avvocato la pilotò nella lobby con tutto l'armamentario era ancora sconvolta e farfugliante quando se la portò via sgommai e mi fermai ad aspettarlo dietro l'angolo dieci minuti dopo eccolo che si trascinava fino alla macchina e salta su decolla piano fa l'importante è non dare nell'occhio quando fumo su las vegas boulevard mi spiegò che aveva dato 10 dollari a uno di quei procacciatori di taxi che ci sono all'aeroporto perché portasse la sua affidanzata sbronza fino all'americana dove aveva una camera prenotata gli ho detto di assicurarsi che ci entri per davvero e pensi che ci entrerà a noi il tizio ha detto che avrebbe pagato la corsa in taxi con gli altri 5 dollari che gli ho dato e avrebbe detto al tassista di aver cura di lei gli ho detto che avevo degli affari da sbrigare ma che sarei stato in albergo tra un'ora e se la ragazza non sarà nella stanza tornerò lì a strappargli i polmoni ottimo commentai in questa città non si può andare tanto per il sottile ghignò in qualità di tuo avvocato ti consiglio di dirmi dove hai messo quella cazzo di mescalina mi fermai la valigetta era nel bagagliaio lui andò a prendere due pastiglie e ne ingollammo una per uno il sole se ne stava andando giù dietro alla boscaglia delle colline a nord ovest della città la radio gracchiava una bella canzone di chris christopherson torniamo in città filando nel crepuscolo caldo rilassati sui sedili di pelle rossa della nostra coupé de ville bianca elettrica magari possiamo prendercela comoda stanotte dissi mentre sfrecciavamo davanti al tropicana giusto rispose troviamoci un buon ristorante di pesce e mangiamoci del bel salmone fresco una vera libidine il salmone fresco ne convenni ma prima torniamo in albergo e sistemiamoci a modo magari ci facciamo una nuotatina e un po di rum a noi sporgendosi all'indietro a fissare il cielo la notte scendeva lentamente capitolo 4 parte 2 non c'è asilo per i degenerati considerazioni su una junkie omicida attraversamo il parcheggio del flamingo e continuamo per quel labirinto fino alla nostra ala nessun problema con il parcheggio nessun problema con l'ascensore e quando ci entrammo la suite era immersa nel silenzio in penombra e pacificamente elegante con grandi pareti scorrevoli che si aprivano sul prato e la piscina l'unica cosa che si muoveva nella stanza era la spia dei messaggi che lampeggiava sul telefono forse al servizio in camera dissi avevo ordinato bomba e ghiaccio devono essere venuti mentre eravamo via il mio avvocato scrollò le spalle ne abbiamo già a strafottere disse ma possiamo anche prenderne dell'altra sì cazzo di che ce la mandino su alzai la cornetta e composi il numero della portineria c'è un messaggio? chiesi la lucetta lampeggiava l'impiegato parve esitare rumore di fogli scartabellati ah sì disse alla fine signor duke sì ci sono due messaggi uno dice benvenuto a las vegas da parte dell'associazione nazionale dei procuratori distrettuali magnifico dissi e l'altro continuò dice chiamare lucy all'hotel americana la stanza 1600 che cosa? mi feci ripetere il messaggio non c'erano errori santa merda mormorai prego fece l'impiegato riattaccai il mio avvocato stava facendo lo sputabudella di nuovo nel bagno uscii sul terrazzo e mi misi a guardare la piscina una sacca a forma di rene che luccicava fuori dalla nostra suite mi sentivo come otello ero in città da poche ore in fondo ed ecco che il terreno per una tragedia classica era già preparato l'eroe era perduto aveva già piantato il seme della propria disfatta ma chi era l'eroe di questo dramma schifoso? stornai lo sguardo dalla piscina e affrontai il mio avvocato emergeva dal bagno pulendosi la bocca con un asciugamano i suoi occhi erano lucidi e tersi questa maledetta mescalina brontolò perché cazzo non la fanno un po' meno pura? magari tagliata con del rolladi o qualcosa del genere otello faceva uso di drammamina dissi a noi raggiunse il telecomando e si mise l'asciugamano al collo sì ho sentito parlare di rimedi del genere il tuo fatty herbacol usava olio di oliva ha chiamato lucidi dissi come? si incurvò visibilmente come un animale che si becca una pallottola mi hanno passato il messaggio dalla portineria è all'americana stanza 1600 e vuole che la richiamiamo mi fissò e proprio in quel momento squillò il telefono risposi non serviva a nulla cercare di nascondersi ci aveva trovato era abbastanza pronto? era di nuovo il portiere signor Duke? sì salve signor Duke sono desolato ma poco fa è caduta la linea ho pensato di richiamare perché mi sono chiesto cosa? sentivo avvicinarsi qualcosa quel cazzone stava per rovesciarmela addosso cosa gli aveva detto quella puttana? cercai di mantenermi calmo stiamo guardando un maledetto notiziario alla tv gridai perché cazzo mi disturbate? silenzio cosa vuole? dov'è quel cazzo di ghiaccio che ho ordinato? e i liquori? qua c'è una guerra amico gente che viene ammazzata abbazzata? quasi sospirò la parola in Vietnam strillai lì nella televisione del cazzo oh sì sì fece lui è una cosa terribile quando finirà? mi dica una cosa risposi con calma che cosa vuole? oh certo disse tornando di colpo al suo solito tono da portiere dell'albergo ho pensato che avrei dovuto dirle poiché so che lei è qui per la conferenza della polizia che la donda che ha lasciato il messaggio per lei sembrava alquanto disturbata esitò ma io non dissi nulla ho pensato che fosse meglio farglielo sapere disse infine cosa le ha raccontato? nulla nulla di nulla signor Duke ho solo preso il messaggio fece una pausa ma non era molto facile a parlare con quella donda era beh estremamente nervosa credo stesse piangendo piangendo? il mio cervello si bloccò non riuscivo più a pensare la droga stava avendo il sopravvento perché stava piangendo? beh non lo ha detto signor Duke ma visto che conosco la natura del suo lavoro ho pensato lo so tagliai corto guardi la prego di essere gentile con quella ragazza se dovesse chiamare ancora è un nostro caso pilota la stiamo seguendo con molta attenzione sentivo la testa che si schiariva le parole mi venivano facili naturalmente è del tutto innocua non ci saranno problemi quella donna è sotto trattamento di Laudano per un esperimento controllato ma credo che avremo bisogno della sua collaborazione finché la conferenza non sarà terminata beh certo fece lui siamo sempre felici di collaborare con la polizia a condizione che non ci siano problemi per noi intendo non si preoccupi dissi lei è coperto si limiti a trattare quella povera donna come tratterebbe qualunque altro essere umano in difficoltà come di colpo parve valbettare ah si certo capisco quello che intende dire si e i responsabili ribarrete voi naturalmente dissi e ora devo tornare al mio notiziario grazie mormorò a lui faccia mandare il ghiaccio aggiunsi e buttai giù il mio avvocato sorrideva mansuetamente davanti al televisore bell'affare disse ora ci tratteranno come due maledetti leprosi a noi riempendomi fino all'orlo un bicchierone di civa sregal sono tre ore che in tv non c'è un notiziario disse con aria assente quel povero scemo penserà che siamo collegati con un canale speciale per poliziotti dovreste richiamarlo e chiedergli di mandarci su un convertitore da 3000 watt insieme al ghiaccio digli che il nostro si è appena fulminato ti sei già dimenticato di Lucy dissi ti sta cercando rise non è esatto sta cercando te me sì è andata in fissa con te su serio l'unica maniera di levarmela di torno all'aeroporto è stata dirle che mi stavi portando nel deserto per discutere che volevi che mi levassi dai piedi per averla tutta per te scrollò le spalle merda dovevo pur dirle qualcosa gli ho detto di andare all'americana e di aspettare quello dei due che sarebbe arrivato rise di nuovo deve aver pensato che hai vinto tu quel messaggio non era per me giusto annoi non aveva alcun senso ma sapevo che era così tipico ragionamento da drogato i ritmi erano brutalmente chiari e per lui estremamente sensati era sprofondato su una sedia concentrato su una missione impossibile rimasi un po' a pensare poi mi alzai e cominciai a infilare roba nella valigia cosa stai facendo lascia perdere dissi le cerniera si inceppò ma la chiusi a forza poi mi infilai le scarpe aspetta un momento fece lui cristo non te ne stai mica andando annui hai maledettamente ragione me ne vado ma non preoccuparti uscendo mi fremmerò dal portiere ti tratteranno bene si alzò di scatto rovesciando il bicchiere ok dannazione facciamo sul serio dov'è la mia 357 scrollai le spalle ignorandolo del tutto mentre stipavo nella sacca le bottiglie di Chivas Regal la venduta a Baker dissi ti devo 35 dollari cristo di un dio gridò l'avevo pagata la bellezza di 190 verdoni sorrisi guarda che me l'hai detto come hai rimediato quella pistola dissi non ricordi rimase interdetto fingendo di pensare oh sì disse alla fine sì quel junkie di pasadina poi sbottò di nuovo e allora mi è costata mille dollari quella testa di cazzo ci ha fatto fuori una spacciatore rischiava l'ergastolo merda tre settimane di udienze e tutto quello che ho avuto in cambio è stata una sei colpi del cazzo perché sei cretino ti avevo detto di non lavorare a credito per i drogati specialmente quando sono colpevoli ti è andata bene che non ti abbia pagato con una pallottola nello stomaco si incurvò ma era mio cugino e la giuria l'ha giudicato innocente stronzate dissi quanti ne avrà già fatti fuori quel bastardo drogato da quando lo conosciamo sei otto quel piccolo malefico rotto in culo è così colpevole che probabilmente potrei ammazzarlo io stesso per puro principio ha fatto fuori lui quello spaccia così come ha fatto fuori quella ragazza l'holiday inn e quell'altro tizio avventura mi guardò freddamente stai molto attento amico questa è calunnia aggravata scoppiai a ridere ammucchiando i bagagli ai piedi del letto mentre mi sedevo a finire il mio whisky intendevo andare per davvero non che ne avessi molta voglia ma pensavo che nulla di ciò che potevo eventualmente cavare da quel lavoro valesse il rischio di rimanere impelagato con quella Lucy meravigliosa persona senza dubbio semmai fosse riuscita a tornare in sé molto sensibile come una riserva segreta di karma raffinatissimo nascosta sotto quella scorza da pitbull un grande talento con un bel istinto proprio una ragazzotta tosta che sfortunatamente però è andata via di testa prima di avere compiuto il diciottesimo anno di età nulla di personale contro di lei ma sapevo che era capacissima in simili circostanze di spedirci a gabbio tutti e due per almeno vent'anni con la forza di una qualche raccapricciante testimonianza che probabilmente noi avremmo sentito per la prima volta il giorno del processo sì signore quei due uomini seduti laggiù sono quelli che mi hanno dato l'LSD e che mi hanno portato in albergo e là cosa hanno fatto Lucy? beh signore non ricordo molto bene ah sì? beh forse questo estratto proveniente dai verbali della procura distruttuale ti rinfrescherà la memoria Lucy è la dichiarazione che hai reso all'agente Squain dopo essere stata trovata mentre vagavi nuda nel deserto nel pressi di Lake Mead non sono sicura di quello che mi hanno fatto ma ricordo che è stato orribile uno dei due mi ha preso all'aeroporto di Los Angeles e lo stesso che mi ha dato la pillola e l'altro ci ha raggiunto in albergo sudava molto e parlava così veloce che non riuscivo a capire cosa voleva no signore non ricordo esattamente cosa mi ha fatto a quel punto perché ero ancora sotto l'effetto della droga sì signore l'LSD che mi avevano dato e credo di essere stata tutta nuda per un bel po' forse per tutto il tempo che mi hanno tenuta là mi pare che fosse sera perché ricordo che c'era il telegiornale in tv sì signore Walter Crocknight ricordo la sua faccia mentre succedeva tutto no per questo non ero pronto nessuna giuria avrebbe mai messo in discussione la sua testimonianza specialmente quando fosse emersa tra i singhiozzi di una nebbia di lacrime di osceni flashback e il fatto che non ricordasse precisamente cosa le era stato fatto avrebbe reso impossibile negare la giuria avrebbe saputo cosa le avevano fatto probabilmente avevano letto di gente come noi nei descabili da 2 dollari e 95 fino in fondo e a fior di pelle e conosciuto la nostra tempra nei filmetti porno da 5 dollari ovviamente noi non potevamo correre il rischio di testimoniare in nostra difesa non dopo che quelli avevano ripulito il bagagliaio della balena e vorrei sottolineare vostro onore che le nostre prove di accusa dalla lettera A alla Y sono a disposizione della giuria sì questo incredibile campionario di sostanze illegali e di stupefacenti in possesso degli imputati al momento del loro fermo e della laboriosa cattura posta in essere da non meno di 9 agenti 6 dei quali sono ancora ricoverati in ospedale e inoltre la prova d'accusa Z la testimonianza giurata di tre professionisti della squadra narcotici selezionati personalmente dal presidente della conferenza nazionale dei procuratori distrittuali che è stato messo in serio imbarazzo dal tentativo degli imputati di infiltrarsi nell'annuale convegno per disgregarlo e inquinarlo questi esperti hanno dichiarato che la droga in possesso degli imputati al momento dell'arresto era sufficiente a uccidere un intero plotone dei marines degli stati uniti d'america e signori uso la parola uccidere con il dovuto rispetto della paura e del disgusto che sono sicuro essa provoca in ognuno di voi quando pensate che questi degenerati stupratori hanno utilizzato una simile pletora di sostanze stupefacenti per distruggere completamente la mente e il morale di un adolescente originariamente innocente questa giovane giovinetta rovinata e degradata che ora siede davanti a voi rosa dalla vergogna si hanno fatto ingerire a questa ragazza tanta di quella droga da sconvolgere orribilmente il cervello al punto che ella non riesce più nemmeno a ricordare i disgustosi dettagli dell'orgia alla quale è stata sottomessa e così ridotta essi l'hanno usata signore e signori della giuria per i loro inconfessabili propositi capitolo 5 parte 2 una terribile esperienza con droghe estremamente pericolose non c'era modo di sfangarla mi alzai e radunai il bagaglio sentivo che era importante lasciare immediatamente la città alla fine il mio avvocato parve afferrarlo aspetta urlò non puoi lasciarmi da solo in questo covo di serpenti questa stanza è a nome mio scrollai le spalle ok maledizione disse andando verso il telefono guarda la chiamo te la leverò dalle palle a noi in fondo hai ragione è un problema è un problema mio scossi la testa no siamo arrivati troppo in là come avvocato non varresti proprio un cazzo ribatte rilassati lascia fare a me compose il numero dell'americana e chiese della stanza 1600 ciao Lucy fece sì sono io ho avuto il messaggio cosa no cazzo gli ho dato una tale lezione che non se la dimenticherà più come no morto no ma non romperà più per un pezzo sì l'ho lasciato là l'ho pestato per bene poi ho spezzato tutti i denti Cristo pensai che orrore fare a botte con uno in acido ma è proprio questo il problema stava dicendo il mio avvocato devo andarmene subito da qui il bastardo ha incassato un assegno giù alla reception e ha dato te come garanzia perciò finiranno per cercarci tutti e due sì lo so ma non si deve giudicare un libro dalla copertina Lucy certe persone sono congenitamente marce ad ogni modo l'ultima cosa che devi fare è richiamare questo albergo rintraccerebbero il tuo apparecchio e ti spedirebbero subito dietro le sbarre no mi trasferisco direttamente al tropicana ti chiamerò da là per darti il numero di stanza sì forse un paio d'ore non devo dare nell'occhio o mi prenderanno penso che userò un altro nome ti farò sapere qual è sì certo certo appena avrò una camera sì cosa naturalmente andremo al circus a vedere il numero dell'orso polare sì ti farà impazzire mentre parlava si passava nervosamente la cornetta da un orecchio all'altro no no ascolta io devo filare è probabile che stiano controllando il telefono sì lo so lo so è stato tremendo ma ora è tutto finito oh oh mio dio stanno sfondando la porta ahhh scagliò il telefono in terra e cominciò a strillare no lasciatemi sono innocente è stato Duke lo giuro lo giuro su Dio tirò l'apparecchio contro il muro e poi si chinò verso la cornetta e ricominciò a gridare no non so dove sia sarà tornato nel Montana non non la prenderete più ormai se n'è andata scalciò di nuovo il ricevitore poi lo raccolse e lo tenne a una trentina di centimetri dalla bocca emettendo un lungo gemito vibrante no no questo no non potete farlo gridò poi riattaccò di schianto la cornetta bene disse tranquillamente ecco fatto a quest'ora si starà già infilando giù per l'inceneritore sorrise sì credo proprio che non sentiremo più parlare di Lucy mi lasciai cadere sul letto il suo numero mi aveva stordito per un attimo avevo pensato che avesse sbroccato definitivamente che credesse veramente di essere aggredito da nemici invisibili la stanza era tornata nel silenzio lui si era rimesso sulla sedia a guardare Mission Impossible armeggiando stancamente con la pipa da hashish ma era vuota dov'è quell'oppio domandò gli tirai la valigetta vacci piano farfugliai non è rimasto molto ridacchiò in qualità di tuo avvocato disse ti consiglio di non preoccuparti accennò col capo verso il bagno dai un'occhiata a quella bottiglietta marrone nel mio beauty case cos'è adreno cromo rispose non te ne servirà molto giusto un assaggino presi la bottiglietta e ci infilai dentro la cappoccia di un fiammifero quello è sufficiente disse lui in confronto a questa roba la mescalina pura sembra un gingerino vai completamente via di cervello se ne prendi troppo leccai l'estremità del cerino dove l'hai preso domandai questo non si può comprare non ha importanza rispose è assolutamente puro scossi tristemente la testa cristo che razzo di mostro ti sei preso come cliente stavolta c'è un solo modo per procurarsela questa roba a noi le ghiandole di adrenalina di un corpo umano vivente dissi se ne prendi da un cadavere non funziona lo so replicò ma il cliente non aveva un soldo è uno di quei fanatici satanisti mi ha offerto del sangue umano dicendo che mi avrebbe inalzato più di ogni altra cosa avessi preso in vita mia rise ho pensato che stesse scherzando così gli ho detto che avevo urgenza di un'oncia di adreno cromo puro o magari anche una ghiandola fresca di adrenalina da masticare sentivo già l'effetto di quella roba la prima vampata sembrava una combinazione di mescalina e metanfetamina potrei farmi una nuotata pensai sì stava dicendo il mio avvocato avevano beccato questo tizio per molestie sessuali ai bambini ma lui giurava di non aver fatto nulla perché mai dovrei scoparmi dai bambini diceva sono troppo piccoli scrollò le spalle cristo cosa potevo dirgli anche un fottuto lupo mannaro ha diritto all'assistenza legale non ho osato dirgli di no avrebbe potuto afferrare un tagliacarte e cavarmi la ghiandola pineale e perché mai dissi avrebbe potuto ingaggiare Melvin Belli per un affare come quello mossi il capo riuscivo a malapena a parlare sentivo il corpo come se fosse appena stato infilato in una presa da 220 volt merda dovremmo procurarci un po' di quella roba riuscì a bisbigliare mangiare un'altra manciata e guardare cosa succede che roba estratto di ghiandole pineali mi fissò ma certo disse buona idea un soffio di quella merda ti trasformerebbe in un abominio di fottuta enciclopedia medica gente la testa ti si gonfierebbe come un cocomero probabilmente cresceresti di 50 kg in due ore artigli verruche sanguinolente e poi vedresti 5 o 6 enormi tette piene d'aria gonfiarsi sulla schiena scosse il capo enfaticamente gente io sono pronto a provare praticamente tutto ma mai e poi mai toccherei una ghiandola pineale lo scorso natale uno mi ha dato un'intera pianta di stramonio solo le radici dovevano pesare un chilo ce n'era abbastanza per un anno ma io mi sono mangiato tutto quanto in nemmeno 20 minuti mi protendevo verso di lui seguendo intensamente le sue parole la più lieve esitazione mi faceva venire voglia di afferrarlo alla gora e obbligarlo a parlare più in fretta giusto dissi stramonio e cosa è successo fortunatamente l'ho vomitata quasi tutta subito dopo disse lui ma anche così sono rimasto cieco per tre giorni cristo non potevo più nemmeno camminare tutto il corpo mi era diventato di cera ero ridotto in uno stato tale che dovettero riportarmi a ranch in carriola mi hanno detto che cercavo di parlare ma sembravo un prigione fantastico dissi ma lo sentivo a fatica ero così tirato che le mie mani artigliavano incontrollabilmente il copriletto cercando di strapparmelo di sotto mentre lui parlava i talloni erano conficcati nel materasso con tutte e due le ginocchia bloccate sentivo le palle degli occhi gonfiarsi sul punto di schizzarmi fuori dalle orbite finisci la tua storia del cazzo gridai cosa è successo cosa c'entra da ogni ghiandole indietreggiò tenendomi bene d'occhio mentre si muoveva rasente al muro forse vuoi un altro po' di bomba disse nervosamente cristo questa roba ti arriva dritta in cima non è vero tentai di sorridere beh non è che sia peggio di no questo è peggio era dura muovere le mascelle la lingua sembrava magnesio bollente no niente di cui preoccuparsi sibilai magari tu se potessi se potessi buttarmi in piscina o roba del genere maledizione fece lui ne hai preso troppo sei lì per scoppiare cristo guarda la faccia non mi potevo muovere paralisi totale ogni muscolo del mio corpo era contratto non potevo neanche muovere gli occhi né tantomeno girare la testa o parlare non durerà molto mi disse la prima scarica è la peggiore basta resistere a quello se ti butto giù in piscina adesso vai giù a piombo come un macigno del cazzo morte ero sicuro nemmeno i polmoni sembravano funzionare più avevo bisogno della respirazione artificiale ma non potevo muovere la bocca per dirlo stavo morendo seduto lì sul letto incapace di muovermi beh almeno non c'era dolore probabilmente mi spegnerò tra qualche secondo dopodiché nulla conterà più il mio avvocato si era rimesso a guardare la televisione la faccia di Nixon riempiva lo schermo ma il suo discorso era perdutamente alterato l'unica parola che riuscivo ad afferrare era sacrificio di continuo senza sosta sacrificio 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 mi sentivo respirare affannosamente il mio avvocato sembrò accorgersene rilassati mi disse continuando a darmi le spalle senza nemmeno guardarmi non cercare di fare resistenza o ti si formeranno le bolle nel cervello colpi colpi apoplettici aneurismi una fiammata e muori la sua mano scattò per cambiare canale era passata la mezzanotte quando fui di nuovo in grado di muovermi e parlare ma la droga non mi aveva ancora lasciato il voltaggio era semplicemente sceso da 220 a 110 era un relitto nervoso e balbettante che si agitava nella stanza come un animale selvaggio sudando incapace di concentrarmi su qualunque pensiero per più di due o tre secondi alla volta il mio avvocato buttò giù il telefono dopo aver fatto parecchie chiamate c'è solo un posto dove si mangia salmone fresco mi disse e la domenica è chiuso naturalmente schioccai questi dannatici fanatici di gesù si stanno moltiplicando come ratti lui mi guardò incuriosito che ne dici del process chiesi non hanno un posto per mangiare lì magari degli affettati o simili con qualche tavoletto sul retro a Londra hanno un fantastico menù ci ho mangiato una volta incredibile cerca di tornare in te mi disse lui il process non devi nemmeno nominarlo in questa città hai ragione chiama chiama l'ispettore Blur lui lui di roba da mangiare se ne intende credo che abbia credo che abbia una lista o qualcosa del genere meglio chiamare il servizio in camera disse lui con 20 dollari possiamo prenderci il crab looney e un litro di moscatello dei fratelli cristiani ah dissi dobbiamo uscire di qui ho bisogno d'aria perché perché non ce ne andiamo in macchina a Reno a mangiarci una gigantesca insalata di tonno cazzo non ci si metterebbe tanto sono solo 660 chilometri e tutti senza traffico là nel deserto scordatelo quello è territorio militare sperimenti con le bombe gas nervino non ce la faremo mai ci ritrovamo in un locale chiamato The Big Flip in piano centro io presi una New York Steak per un dollare 88 il mio avvocato ordinò il coyote Bash Basket per 2,09 dopodichè buttammo giù una brocca di acquosissimo caffè Golden West e osservammo 4 bulli ubriachi tipo cowboy prendere a calci di brutto una checca vicino al flipper l'azione non si ferma mai in questa città disse il mio avvocato mentre ci trascinavamo in macchina un uomo con le conoscenze giuste può procurarsi tutto l'adrenocromo fresco che vuole se resta da queste parti per un po' né con Benny ma non ero ancora pronto al momento non dormivo da qualcosa come 80 ore e quel terrificante duello con la droga mi aveva lasciato completamente esausto l'indomani avremmo dovuto fare sul serio la conferenza cominciava a mezzogiorno e ancora non sapevamo bene come affrontarla così tornammo in albergo e guardammo un film horror inglese nel programma della notte capitolo 6 parte 2 a capofitto negli affari giornata d'apertura della conferenza antidroga vi do il benvenuto da parte dei procuratori di questa contea eravamo seduti dietro a una folla di circa 1500 persone nella sala da ballo principale dell'hotel Dunes lassù in cima alla stanza visibile a malapena il direttore esecutivo dell'associazione nazionale di procuratori distrettuali un simil uomo d'affari di successo repubblicano di mezza età tutto azzimato di nome Patrick Healy apriva i lavori del terzo convegno nazionale su sostanze psicotrope e droghe pericolose le sue parole ci raggiungevano tramite un grosso autoparlante a bassa fedeltà montato su un cavalletto nel nostro angolo ne vedevano degli altri che emergevano dalla folla nella sala forse una dozzina tutti orientati verso il fondo così che non contava dove si era seduti e nemmeno cercare di nascondersi si guardava tutto il tempo il muso di un autoparlante questo produceva un effetto strano la gente in ogni sezione della sala era portata a fissare verso la cassa acustica più vicina anziché guardare verso la lontana figura di chiunque stesse parlando là in fondo dal podio questa disposizione da 1935 degli autoparlanti spersonalizzava completamente l'ambiente c'era un che di sinistro e autoritario in tutto ciò chiunque avesse sistemato quell'impianto di amplificazione doveva essere diventato tecnico ausiliario dell'ufficio dello sceriffo dopo essersi licenziato da un drive-in di Muscogee Oklahoma dove non potevano permettersi un singolo amplificatore per ogni macchina e si affidavano a una decina di giganteschi autoparlanti a tromba montati su pali del telefono nel parcheggio più o meno un anno prima ero stato al festival rock di Sky River nelle campagne dello stato di Washington dove una dozzina di fattoni del fronte di liberazione di Seattle avevano messo su un impianto che trasportava ogni più minuscolo suono della chitarra acustica ma anche i colpi di tosse o il rumore degli stivali che calpestavano il palco fino a una folla di lisergisti mezzo sordi accalcati alla boscaglia a 800 metri di distanza ma a quanto pareva i migliori tecnici a disposizione della convention dei procuratori di Las Vegas non erano stati in grado di fare altrettanto il loro impianto pareva quello che avrebbe potuto rimediare Ulysses S. Grant per rivolgersi alle truppe durante l'assedio di Vicksburg le voci crepitavano con confusa ipertonica urgenza e lo scarto era sufficiente a mantenere le parole sempre sconcertantemente fuori sincrono con i gesti dell'oratore dobbiamo porre fine alla cultura della droga in questo paese in questo paese questi echi giungevano fino al fondo della sala in ondate molto confuse il mozzicone di spinello viene chiamato Roach perché assomiglia a uno scarrafaggio ma cosa cazzo sta dicendo questa gente sussurrò il mio avvocato bisogna essere fatti come dei fegatelli per pensare che una canna assomiglia a uno scarrafaggio scrollai le spalle era chiaro che eravamo finiti in una specie di adunata preistorica la voce di un esperto di droga di nome Blomquist gracchiò dalla cassa più vicina e di questi flashback il paziente non sa mai nulla pensa che sia tutto finito e per sei mesi torna più o meno a posto finché accidenti a loro gli effetti lo riassalgono di nuovo ma sì accidenti a questo diabolico lsd il dottor E.R Blomquist era il pezzo forte della mattinata una delle star della conferenza autore di un tascabile intitolato Marijuana che secondo il risvoltino della copertina dice le cose come stanno e anche l'inventore della teoria Roach scarafaggio sempre stando al risvolto è un professore associato alla clinica chirurgica anestesiologia presso l'università di Southern California School of Medicine e anche un'autorità riconosciuta in merito agli abusi di droghe pericolose il dottor Blomquist ha preso parte a dibattiti su canali televisivi nazionali ha svolto servizi di consulenza per numerosi uffici governativi ed è stato membro del comitato della dipendenza da alcol e narcotici in senno alla commissione di salute mentale dell'associazione medica americana la sua sapienza è ampiamente pubblicata e divulgata dice l'editore è senza dubbio uno dei duri di quel circuito di accademici di second ordine che fanno pagare dai 500 e 1000 dollari per andare a parlare a un auditorio di poliziotti il libro del dottor Blomquist è il classico compendio di stronzate di stato a pagina 49 spiega i quattro stadi dell'essere nella società della cannabis ossia cool inviolabile groovy passionista hip aggiornato e square ignaro in ordine discendente raramente lo square diventa cool se non mai dice Blomquist egli non è in cioè non afferra la situazione ma se si sforza di farsene un'idea sale al grado di hip e se riesce a convincersi di accettare quello che ha capito diventa groovy dopodiché con molta fortuna e perseveranza può elevarsi al rango di cool Blomquist scrive come uno che una volta ha attaccato briga con Tim Leary nella sala da cocktail e alla fine ha pagato tutte le bevute e deve essere stato proprio uno come Leary a dirgli a faccia seria che nel mondo della droga gli occhiali da sole sono chiamati paraerba questo è il genere di micidiali discorsi che di solito venivano distribuiti sotto forma di bollettini ciclostilati negli armadietti dei dipartimenti di polizia e certo riconosci i drogati che ti circondano ne va della tua vita potresti non essere in grado di vedergli gli occhi per via dei paraerba ma avrà le nocche bianchissime a causa della tensione interna e i pantaloni incrostati di liquido seminale per via del suo costante masturbarsi quando non riesce a trovare una vittima da stuprare bar collerà e balbetterà sei interrogato non mostrerà nessun rispetto per il tuo distintivo il drogato non ha paura di nulla può attaccarti senza nessun motivo con ogni arma che ha a portata di mano come le tue fai attenzione qualsiasi agente che arresti un sospetto consumatore di marijuana deve utilizzare immediatamente tutte le forze a disposizione un solo attimo di anticipo su cui di solito salva nove di noi buona fortuna il capo è certo la fortuna è molto importante specialmente a las vegas era lampante che questa conferenza antidroga non era ciò che avevamo immaginato era veramente troppo open troppo mescolata almeno un terzo dell'uditorio pareva semplicemente essersi fermato strada facendo per godersi lo spettacolo mentre andava a vedere la rivincita Ali Fraser al vegas convention center dall'altro capo della città o magari un incontro di beneficenza per vecchi spacciatori di eroina tra un linson e il maresciallo Kai la sala era completamente irta di barbe baffi e abiti alla moda la conferenza aveva ovviamente richiamato un contingente di agenti della narcotici in incognito e altri tipi indefinibili un sostituto procuratore distrettuale di Chicago indorsava un completo di maglia marrone acceso senza maniche la sua signora era la star del casino di Dunes spolgorava per i locali come Grace Silk a una rimpatriata degli allievi del Finch College erano una coppietta classica due swingers accaniti solo perché sei un poliziotto di questi tempi non significa che tu possa essere in e quella conferenza aveva tratto anche dei veri pavoni ma la mia stessa uniforme scarpe stile FBI da 40 dollari e gioca sportiva di Madras alla Pat Boone era abbastanza giusta per uno dei mass media perché per ogni ipi urbano c'erano più o meno 20 truci suddisti bianchi che potevano passare per vice allenatori di football dello stato del Mississippi erano loro che innervosivano il mio avvocato come la maggior parte dei californiani gli faceva senso vedere in carne e ossa questa gente dell'entroterra ecco a voi la crema degli sbirri d'America e Cristo si comportavano e parlavano come una manica di suino cultori ubriachi cercai di consolarlo in fondo sono brave persone gli dissi una volta che le hai conosciute sorrise conoscerle vuoi scherzare merda io questa gente la conosco fino nel mio fottuto sangue non nominare questa parola qui dissi li potresti eccitare a noi hai ragione ho visto questi bastardi in easy rider ma non credevo che fossero reali non così reali a centinaia il mio avvocato indossava un gessato blu a doppio petto un articolo molto più di classe del mio ma lo rendeva estremamente nervoso perché essere vestito bene in questo contesto significava essere molto probabilmente agenti in incognito e il mio avvocato vive a contatto di persone molto suscettibili su questo argomento è un fottutissimo incubo continuava a mormorare ecco che mi infiltro in una maledetta conferenza di maiali ma mi gioco le palle che qualche spacciatore bombarolo della città finirà per riconoscermi e mettere in giro la voce che me la faccio con un migliaio di sbirri portavano tutto il cartellino di riconoscimento con scritto il nome sopra ce li avevano dati al momento del deposito di 100 dollari per l'accredito il mio diceva che ero un investigatore speciale di LA il che era vero in un certo senso capitolo 7 parte 2 se non sai vieni a imparare se sai vieni a insegnare motto sull'invito alla convenzione nazionale dei procuratori distrettuali Las Vegas 25 29 aprile 1971 la prima sessione gli interventi d'apertura durò quasi tutto il pomeriggio ce ne restammo pazientemente seduti per le prime due ore sebbene fosse chiaro fin dall'inizio che non avremmo imparato un bel nulla e che avremmo dovuto essere dei mentecatti per cercare di insegnare qualcosa era abbastanza facile stare seduti là con la testa piena di mescalina e ascoltare ora dopo ora tutte quelle ciance irrilevanti non comportava alcun rischio quei poveri bastardi non distinguevano la mescalina dai maccheroni ho il sospetto che avremmo potuto farlo anche in acido eccetto che per via di qualcuno del pubblico in quell'assembramento c'erano facce e corpi che in acido sarebbero risultati assolutamente insopportabili la vista di un capo poliziotto di 150 chili proveniente da Waco, Texas che slinguazzava sfacciatamente i 130 di sua moglie o qualunque cosa fosse la donna che si era portato oppresso quando furono spente le luci per proiettare un filmato era appena sopportabile sotto mescalina droga sensuale di superficie che esagera la realtà anziché alterarla ma con la testa piena di acido la vista di due esseri strepitosamente obesi che pomiciano di brutto mentre attorno a loro mille poliziotti guardano un filmato sui pericoli della marijuana non sarebbe stata emotivamente tollerabile il cervello l'avrebbe respinta il midollo avrebbe tentato di rendersi impenetrabile ai segnali provenienti dai lobby frontali e nel frattempo il mesencefalo avrebbe disperatamente cercato di dare una diversa interpretazione della scena per ripassarla al midollo col rischio di ingenerare una reazione fisica come effetti l'acido è una droga abbastanza complessa mentre la mescalina è assai semplice e diretta ma dinanzi a una scena simile la differenza era pura accademia non c'erano praticamente stimoli per nulla a quella conferenza se non per un massivo consumo di tranquillanti rosse erba e bomba giacché l'intero programma pareva studiato da gente affetta da stupore narcolettico fin dal 1964 ecco qua più di mille poliziotti di alto grado che si dicevano l'un l'altro bisogna farla finita con la cultura della droga senza avere la minima idea da dove cominciare non avrebbero nemmeno saputo individuare il loro obiettivo del cazzo voci di corridoio dicevano che forse c'era dietro la mafia o forse i Beatles a un certo punto uno domandò a Blomquist se pensava che lo strono comportamento di Margaret Mead potesse derivare da una segreta dipendenza dalla marijuana non lo so non lo so rispose Blomquist ma se fumasse erba alla sua età ma se sarebbero dei trip davvero infernali davvero infernali a questa osservazione l'uditorio ruggì di risate il mio avvocato si sporse verso di me per sussurrarmi che se ne andava mi trovi giù al camerino disse conosco molti cazzo di modi migliori di buttare il tempo di stare ad ascoltare queste stronzate si alzò buttando giù il posacenere dal bracciolo della sedia e si tuffò nel corridoio che portava all'uscita i posti non erano sistemati in modo da sopportare movimenti bruschi la gente cercò di aprirgli un passaggio ma non c'era un cazzo di spazio per muoversi ehi stai attento gli gridò qualcuno mentre lui si faceva strada brutalmente vaffanculo ringhiò a sedere là davanti strillò qualcun altro ma ormai lui era quasi alla porta devo uscire gridò non ce la faccio più e vai sarà una liberazione disse una voce lui si fermò guardandosi intorno poi sembrò pensarci meglio e continuò quando arrivò all'uscita l'intera zona posteriore della sala era in subbuglio perfino Bloomquist sul palco sembrò percepire un lontano tumulto smise di parlare e scruta nervosamente in direzione del rumore probabilmente pensò che fosse scoppiata una rissa magari un conflitto razziale qualcosa di incontrollabile mi alzai in piedi e mi lanciai anch'io verso la porta sembrava il momento migliore per filare mi scusi mi sento male dissi alle prime gambe che calpestai quelle si fecero indietro e io ripetei scusi sto per sentirmi male mi scusi mi scusi sto male chiedo scusa sì mi sento male mi sento male la volta il passaggio si aprì molto facilmente non una parola di protesta delle mani mi aiutarono addirittura avevano paura che stessi per vomitare e nessuno lo voleva perlomeno non su di loro raggiunsi la porta in circa 55 secondi il mio avvocato era da basso al bar e parlava con un poliziotto sui 40 anni dall'area sportiva il cui cartellino di riconoscimento diceva che era procuratore distrettuale di un qualche posto in Georgia io sono un tipo da whisky stava dicendo non abbiamo molti problemi con la droga giù dove sto io li avrete disse il mio avvocato una di queste notti ti sveglierai e troverai un tossico che si sta portando via la tua camera da letto ah disse l'uomo dalla Georgia non giù dalle mie parti li raggiunsi e ordinai un bicchiere di rum con ghiaccio ecco un altro di questi famosi ragazzi californiani disse il tuo amico qui mi stava parlando dei drogati sono dappertutto dissi non si salva più nessuno è sicuro come l'inferno soprattutto al sud loro amano il caldo lavorano in coppia disse il mio avvocato a volte in bande salgono fin dentro la tua camera da letto e ti si siedono sul petto impugnando grandi coltelli da caccia a noi solennemente e possono anche sedersi sul petto di tua moglie e puntarle la lama dritta alla gula Cristo di un dio onnipotente disse il sudista cosa diavolo sta succedendo in questo paese non lo crederesti mai disse il mio avvocato Los Angeles è completamente fuori controllo prima c'era la droga ora c'è la magia nera magia nera cazzo non è possibile leggi i giornali dissi amico uno non sa cosa sono i guai finché non ha davanti un branco di questi tossici fanatici dei sacrifici umani no fece lui questa è fantascienza non dove operiamo noi disse il mio avvocato cazzo solo a Malibu questi dannati adoratori di satana uccidono sette otto persone al giorno ci interruppe per bere un sorso e quello che vogliono è il sangue riprese prendono direttamente la gente per strada cosa si occorre sa a noi sì cazzo proprio l'altro giorno abbiamo avuto il caso di una ragazza presa a forza fuori da un McDonald's era una cameriera più o meno sedici anni e davanti a un mucchio di testimoni per giunta e che è successo disse il nostro amico cosa le hanno fatto sembrava molto scosso da ciò che stava sentendo fatto disse il mio avvocato Cristo amico le hanno staccato la testa direttamente lì nel parcheggio poi le hanno fatto qualsiasi tipo di buco e le hanno succhiato il sangue Dio onnipotente esclamò l'uomo della Georgia e nessuno ha fatto nulla cosa potevano fare disse io il tipo che le ha staccato la testa era alto due metri e pesava centotrenta chili portava due Luger e gli altri due M16S erano tutti ex militari sa quello grosso era stato maggiore dei Marines disse il mio avvocato sappiamo dove sta ma non possiamo nemmeno avvicinarci alla casa no gridò il nostro amico un maggiore no voleva la ghiandola pineale dissi è con quella che è diventato così grosso quando ha lasciato l'esercito era un piccoletto oh mio dio disse il nostro uomo è orribile e succede tutti i giorni disse il mio avvocato spesso tocca famiglie intere di notte molti non si svegliano nemmeno finché non sentono la testa che se ne va e a quel punto ovviamente è tardi il barista si era fermato ad ascoltare lo avevo tenuto d'occhio la sua espressione non era tranquilla altri tre room dissi pieni di ghiaccio e magari anche una manciata di pezzettini di cedro annui ma si vedeva che non c'era con la testa stava fissando i nostri nomi scritti sui cartellini siete con la conferenza della polizia che c'è su disse alla fine certo amico disse il georgiano con un gran sorriso il barista scosse la testa tristemente mi pareva disse non ho mai sentito di questo genere di conversazioni prima cristo santo come fate a sopportare un lavoro del genere il mio avvocato gli sorrise ci piace disse è fantastico il barista si tirò indietro la sua faccia era una maschera di ripugnanza che cosa c'è di male feci cazzo qualcuno lo deve pur fare mi fissò per un attimo e poi distorse gli occhi sbrigati con le bevute disse il mio avvocato abbiamo sete rise e quando il barista gli lanciò uno sguardo roteò gli occhi solo due rum fece a me fammi un Bloody Mary il barista sembrò inrigidirsi ma il nostro amico georgiano non se ne accorse la sua testa era altrove cazzo mi dà veramente fastidio sentire cose come queste disse piano perché tutto ciò che accade in california finisce per riguardare anche noi presto o tardi più che altro ho atlanta ma questo quando quei maledetti bastardi erano pacifici ora dovevamo limitarci a sorvegliarli non si spostavano granché scrollò le spalle ma ora Cristo non si salva più nessuno possono spuntare ovunque hai proprio ragione disse il mio avvocato lo abbiamo imparato noi in california ti ricordi dove è saltato fuori Manson nel bel mezzo della Death Valley e aveva un intero esercito di maniaci sessuali laggiù noi abbiamo messo le mani solo su alcuni la maggior parte è svanita scappati via per le dune di sabbia come lucertoloni e tutti completamente nudi a parte le armi si faranno vivi da qualche parte molto presto feci e speriamo di essere pronti per affrontarli il giorgiano picchiò il pugno sul tavolo ma non possiamo chiuderci in casa e vivere come dei reclusi esclamò non sappiamo nemmeno chi sono come fai a riconoscerli non fai rispose il mio avvocato l'unico modo è prendere il toro per le corna con questa feccia che vuoi dire lo sai benissimo cosa voglio dire disse il mio avvocato lo abbiamo fatto in passato e possiamo ben rifarlo adesso maledizione staccargli di netto quelle teste del cazzo spiegai una per una è questo che stiamo facendo in california cosa? certamente disse il mio avvocato è venuto top secret ma tutti quelli che contano sono con noi dal primo all'ultimo dio non credevo fosse così dura laggiù ragazzi fece il nostro amico lo teniamo sotto silenzio dissi non è esattamente l'argomento di cui parlare di sopra per esempio con la stampa fra i piedi il nostro uomo era d'accordo no cazzo fece non se ne verrebbe mai a capo i doberman non parlano dissi io come dici? certe volte è più facile slacciare i guinzagli disse il mio avvocato lotterebbero come diavoli se si cercasse di staccargli la testa senza i cani dio onnipotente lo lasciamo lì al bar a tintinnare il ghiaccio nel bicchiere serio serio era indeciso se dire tutto alla moglie o no non capirebbe mai mormorò sapete come sono le donne a noi il mio avvocato se n'era già andato scambettando per un labirinto di slot machine in direzione del portone salutai il nostro amico e gli consigliai di non dire a nessuno di cosa avevamo parlato capitolo 8 back door beauty e finalmente un po' di veri sgarelli sullo strip intorno a mezzanotte il mio avvocato volle del caffè aveva vomitato con una certa regolarità per tutto il tempo passato a girare in macchina su e giù per lo strip e la fiancata destra della balena era brutalmente striata di vino eravamo fermi a un semaforo di fronte al silver sleeper vicino a una grande ford blu con targa dell'oklahoma due coppie sui uniformi all'interno probabilmente sbirri di masco g che approfittavano della conferenza antidroga per regalare alle mogli una visitina a las vegas avevano l'aria di avere già abbattuto i tavoli di blackjack del caesar palace per almeno 33 dollari e di essere diretti al circus circus per fare un po' di baldoria ma d'improvviso si trovavano fianco a fianco con una cadillac decapotabile bianca striata di vomito e un samuano di un quintale e mezzo con una t-shirt di rete da pesca gialla che strillava ehi là gente volete comprare un po' di eroina nessuna risposta nessun segno di riconoscimento dovevano essere stati istruiti su questo tipo di incontri ehi visi pallidi urlò il mio avvocato maledizione sto parlando sul serio voglio vendervi un po' di purissima roba del cazzo si stava spenzolando fuori dalla macchina molto vicino a loro ma di nuovo non rispose nessuno lanciai un'occhiata e vidi quattro americani di mezza età la faccia gelata dallo shock che fissavano dritto davanti a sé eravamo sulla corsia centrale una brusca svolta a sinistra non era possibile al verde avremmo dovuto proseguire dritto e poi scappare e poi scappare all'incrocio successivo aspettavo nervoso dando colpetti di acceleratore il mio avvocato stava perdendo il controllo eroina buon mercato stava urlando è quello che ci vuole non diventerete dei tossicodipendenti maledizione so cosa vi offro colpì la fiancata della macchina per richiamare l'attenzione ma quelli non volevano saperne voi gente non avete mai parlato con un reduce prima d'ora disse il mio avvocato sono appena tornato dal Vietnam roba gente roba purissima ad un tratto venne il verde e la Ford partì a razzo pigiai sull'acceleratore e le rimasi incollato al fianco per un paio di centinaio di metri guardando i poliziotti riflessi nello specchio mentre il mio avvocato continuava a gridare contro bere scopare roba sangue eroina stupro a buon mercato comunismo ficcatevelo bene in quelle vostre palle degli occhi degli occhi del cazzo brutti brutti bastardi luridi fermatevi fermatevi vi ammazzo dio vi maledica bastardi sembrava sul punto di schizzare fuori dal finestrino fin dentro la nostra macchina pazzo di rabbia fortuna che la Ford era una due porte non poteva uscire stavamo arrivando al semaforo successivo e la Ford stava ancora cercando di spostarsi verso sinistra andavamo a tutta sbirciai alle mie spalle e vidi che avevamo lasciato molto indietro il resto del traffico era un grosso varco sulla destra così inchiodai di brutto sparando il mio avvocato contro il cruscotto in un attimo la Ford schizzò davanti tagliai secco la corsia e piombai in una traversa una curva a 90 gradi sulla destra attraverso tre corsie di traffico ma funzionò lasciamo la Ford nel mezzo dell'incrocio a sgommare nel pieno di una curva a sinistra con un po' di fortuna il conducente sarebbe stato arrestato per guida pericolosa il mio avvocato stava ancora ridendo quando ripresi una marcia tranquilla affari spenti in un polveroso groviglio di strade secondarie dietro al Desert Inn Cristo disse quegli okis ci stavano incazzando il tipo sussedile di dietro cercava di azzannarmi merda aveva la bava alla bocca annuisse veramente avrei dovuto spruzzarli contro un po' del tuo gas lacrimogeno al cazzone un criminale psicopatico in totale depressione con questi non sai mai quando stanno davvero per scoppiare pilotai la balena in una conversione che avrebbe dovuto portarci fuori dal Dedalo ma invece di sbandare la bastarda quasi cappottò santa merda protestò al mio avvocato accendi quei cazzo di fari era abbarbicato al montante del parabrezza e di colpo ecco che faceva di nuovo lo sputa budella sbrodolando roba su tutta la fiancata evitai di rallentare finché fui sicuro che nessuno ci stesse seguendo tantomeno quella Ford quella gente era decisamente pericolosa almeno fin tanto che non si fosse calmata un po' sarebbero andati a denunciare alla polizia il loro brutto incontro probabilmente no era successo tutto troppo in fretta e senza testimoni e c'erano buone possibilità che non venissero creduti comunque l'idea di due spacciatori di eroina che se ne andavano su e giù per lo strip su una cadillac bianca decapotabile a molestare forestieri al semaforo era assurda prima pace nemmeno Sonny Lindstone ha mai dato di fuori fino a quel punto altra svolta secca e di nuovo ci mancò un pelo che capottassimo la coupé de ville non è la vettura ideale per zigzagare ad alta velocità nella scacchiera dei quartieri residenziali la manovra risultava molto fiacca diversamente dallo squalo rosso che in circostanze che richiedevano rapidi cambi di direzione con massima aderenza aveva risposto assai bene la balena invece di uscire via al momento critico aveva la tendenza a piantarsi il che spiegava la sgradevole sensazione del ci siamo ora ci si ribalta sulle prime pensai che fosse solo perché le gomme erano un po' sgonfie così mi infilai nel distributore Texaco vicino al Flamingo e me le feci pompare tutte e quattro fino a tre atmosfere e mezzo cosa che allarmò non poco il benzinaio finché non gli spiegai che le mie erano gomme sperimentali ma nemmeno tre atmosfere e mezzo risolsero il problema delle curve a 90 gradi perciò dopo un po' tornai e gli disse che volevo pomparle a 5 quello scosse la testa nervosamente non io disse forgendomi il tubo del compressore venga le gomme sono sue lo faccia lei che c'è che non va domandai pensi che non sopportino 5 atmosfere annui scansandosi bene mentre mi chinavo sull'anteriore sinistro proprio così disse queste vanno a 2 atmosfere davanti e a 2 e 25 dietro cazzo e a 3 e mezzo è pericoloso ma 5 è davvero folle scoppieranno scossi la testa e continuai a gonfiarle e l'ho già detto feci questi pneumatici sono stati progettati al laboratorio sun dots e sono speciali potrei pomparli fino a 7 atmosfere per l'amor di dio gemette lui che non le venga in mente di farlo qui non oggi ribattei voglio prima sperimentare in curva a 5 soghignò non riuscirà nemmeno a cominciarla la curva signore lo vedremo dissi spostandomi con il tubo alle ruote posteriori in realtà ero nervoso le due davanti erano tirate come pelli di tamburo quando ci avevo picchiato sopra con il becco del compressore mi erano sembrate di tech ma che cazzo vogliono pensai e anche se scoppiano non è roba di tutti i giorni poter condurre esperimenti estremi su una cadillac vergine e sui suoi 4 pneumatici da 80 dollari nuovi di trinca per quel che ne sapevo io dopo avrebbe potuto curvare come una lotus helen e in caso contrario potevo sempre tornare all'autonologio VIP e chiedere un'altra macchina magari minacciando pure un'azione legale per il fatto che 4 gomme su 4 mi erano scoppiate d'improvviso mentre guidavo in mezzo al traffico chiedere una eldorado la prossima volta con 4 michelin xs e accreditare tutto sulla carta sul conto dei sun Lewis Brown quando finì di pompare la balena con la pressione dei pneumatici alterata aveva un aspetto eccellente la carreggiata era un tantino rubida riuscivo a sentire ogni più minuscolo sassolino sull'autostrada come se fossi sui pattini a rotelle in una cava di ghiaia ma la macchina cominciò a curvare in un modo molto elegante come se fosse una motocicletta a tutto fuoco sotto una pioggia fitta una scivolatina e zang sotto sopra a frullare nel passaggio con la testa fra le mani circa mezz'ora dopo la nostra schermaglia con gli okis entrammo in una tavola calda notturna sull'autostrada per Tonopah nei soborghi di un fetido ghetto di tossici chiamato North Las Vegas che in realtà è fuori dai confini di Vegas vera e propria North Vegas è il posto dove ci si ritrova dopo essersi fatti fottere una volta di troppo sullo strip e in centro non si è più ben graditi nemmeno nei posti scrausi intorno al casino center è la risposta del Nevada a San Luis Est quattro catapecchie e un cimitero l'ultima fermata prima dell'esilio permanente a Eli o Winnemuka North Vegas è il posto dove finiscono le puttane intorno ai 40 quando i membri del clan decidono che per loro non è più tempo di lavorare con i grandi giocatori o i magnaccia con una cattiva reputazione da sense o quelli che a Vegas vengono ancora chiamati debosciati che può significare praticamente tutto tra ubriacone e tossico ma che in termini di accettabilità in affari significa che sia chiuso con tutti i posti giusti i grandi alberghi e i casi no pagano profumatamente quel po' di muscoli necessari ad assicurarsi che i clienti di riguardo non abbiano noie dagli indesiderati nemmeno momentanei in posti come il Caesar Palace la sicurezza è super curata e strettissima probabilmente un terzo delle persone presenti in ogni momento è composto da bari e scovabari gli ubriaconi e i borsaioli conosciuti vengono sistemati all'istante spintonati fino al parcheggio da energumini stile servizi segreti e beneficiati di rapida impersonale lettura di costi di un buon lavoro di ricostruzione ortodontica e delle difficoltà di sbarcare il lunario con tutte e due le braccia spezzate la crema di Vegas è forse la società più chiusa a ovest della Sicilia e non fa differenza per quanto riguarda lo stile di vita del luogo se il capoce è Lucky Luciano o Howard Hughes in un sistema in cui Tom Jones si becca 75.000 dollari a settimana per due spettacoli a notte al Caesars Palace la vigilanza è indispensabile e nessuno si preoccupa di chi firma gli assegni una miniera d'oro come Las Vegas i suoi soldati se li alleva da sé come a qualsiasi altra miniera d'oro i bicipiti a Nolo tendono ad accumularsi rapidamente attorno ai pozzi di quattrini potere e i soldi veri a Vegas sono sinonimo di potere per proteggerli perciò una volta che si finisce sulla lista nera dello strip per qualsiasi ragione si può solo lasciare la città o andare a leccarsi le ferite nel limbo squalido di North Vegas insieme ai ladruncoli ai truffatori ai drogati all'ultimo stadio e a tutti gli altri perdenti North Vegas per esempio è il posto dove si finisce se ci si deve rifornire di eroina prima di mezzanotte e non si conosce nessuno mentre se si è in cerca di cocaina e si è pronti con i soldi bene in vista e la parola d'ordine giusta si può benissimo restare sullo strip e avvicinare a un qualsiasi margano con le opportune relazioni e solo per muoversi gli farà sganciare subito un bigliettone ma basta ci siamo capiti non eravamo in linea con gli usi del luogo non c'è modo di trovarsi a Vegas su una Cadillac bianca imbottita di droghe e niente con cui accompagnarle opportunamente lo stile filmore non ha mai attacchito qui gente come Frank Sinatra e Dean Martin a Vegas sono ancora considerati estremisti il giornale underground di qui il Las Vegas Free Press è un prudentissimo eco del people's world o forse del National Guardian passare una settimana a Las Vegas è come farsi rinchiudere in una macchina del tempo è una regressione agli anni 50 il che è pienamente comprensibile una volta vista la gente che ci viene i grandi consumatori di posti come Denver o Dallas insieme ai convegni del National Health Club ingresso vietato ai negri e al raduno dei pastori volontari del vero West si tratta di gente che va letteralmente ai pazzi alla vista di una vecchia spogliarellista che si leva i pantaloni e si mette a sculettare giù per la rampa sulla musica di una dozzina di fattoni e cinquantenni che ci danno dentro con September Song in versione rock erano più o meno le tre del mattino quando ci infilamo nel parcheggio della tavola calda di North Vegas io mi misi a cercare una copia del Los Angeles Times per avere qualche informazione del mondo esterno ma una rapida occhiata alla rastrelliera dei giornali mi fece comprendere l'assurdità di una simile pretesa in culo ai giornali disse il mio avvocato quello che ci serve è un caffè ero d'accordo ma rubai lo stesso una copia del Vegas Sun era l'edizione del giorno prima ma non aveva importanza l'idea di entrare in una tavola calda senza un giornale in mano mi innervosiva c'erano pur sempre le pagine sportive di farsi nei risultati di baseball e nelle indiscrezioni del football part start picchiato dai teppisti in una bettola di Chicago i Bakers cercano di scambiarlo la Matt lascia i Jets per fare il governatore dell'Alabama e un profetico pezzo a pagina 46 su una fenomenale promessa di nome Harrison Fire proveniente dall'università di Grambling 100 yard in 9 netti peso forma 150 kg senza ancora aver finito di svilupparsi questo Fire è una speranza diceva l'allenatore ieri prima dell'allenamento ha distrutto un autobus della Greyhound a mani nude e l'altra notte ha fatto fuori un vagone della metropolitana è fatto apposta per la tv a colori io non sono uno di quelli che scommettono sui favoriti ma mi sa proprio che dovremmo fargli strada e certo c'è sempre posto alla tv per gli energumeni che possono ridurre il prossimo a gelatina in 9 secondi netti ma non molti di loro erano radunati al North Star Caffè Lounge quella notte avevamo tutto il locale per noi il che dimostrava che eravamo davvero fortunati perché avevamo preso altre due pastiglie di mescalina prima di entrare e gli effetti cominciavano a manifestarsi il mio avvocato non vomitava più e non stava nemmeno male ordinò il caffè con l'autorità di un uomo abituato da sempre a essere servito in fretta la cameriera aveva l'aria di essere una ex mignotta piuttosto vecchia che alla fine aveva trovato il suo posto nella società era decisamente la padrona lì e ci guardò con ovvia disapprovazione quando ci sistemammo sui nostri sgabelli io non ci badavo granché il North Star Caffè Lounge sembrava un rifugio abbastanza tranquillo per le nostre tempeste ci sono posti nei quali si entra in quel tipo di situazione e si capisce subito che sarà dura non è questione di dettagli quel che si sa è che mentre ci si avvicina alla porta d'ingresso nel cervello cominciano a ronzare brutali vibrazioni qualcosa di orrendo sta per succedere e ci riguarderà ma nell'atmosfera del North Star non c'era nulla che facesse drizzare le orecchie la cameriera era passivamente ostile ma a questo io ero abituato era un grandonnone non grassa ma grossa in ogni senso con lunghe braccia nerborute e la mascella da risaiolo una versione sfatta di Jane Russell una gran testa di capelli neri viso sfregiato di rossetto e una quinta misura di zinne che doveva essere stata spettacolosa una ventina di anni prima quando lei avrebbe potuto essere un'ottima mamma per il capitolo di Verdù di Hells Angel ma ora era strizzata in un gigantesco reggipetto elastico rosa che traspariva come un bendaggio dal sottile raio in bianco della divisa forse era sposata con qualcuno ma non ero in vena di fare congetture tutto ciò che volevo da lei quella notte era una tazza di caffè nero e un hamburger da 29 centesimi con cipolle e sottaceti niente seccature niente chiacchiere solo un posto dove riposarmi e radunare alle forze non avevo nemmeno fame il mio avvocato non aveva giornali né niente su cui concentrare la propria attenzione così la fissò sulla cameriera per noia lei stava prendendo le ordinazioni come un robot quando lui perforò con la sua scorza la sua richiesta di due bicchieri di acqua ghiacciata con ghiaccio il mio avvocato si beve il suo unico lungo sorso e poi ne chiese un altro la cameriera sembrava attesa vaffanculo pensai stavo leggendo i fumetti circa dieci minuti dopo quando ci portò gli hamburger vedi che il mio avvocato le allungava un tovagliolo con scritto qualcosa lo fece con grande sinvoltura senza espressioni particolari sul viso ma sapevo grazie alle vibrazioni che la nostra pace stava per essere spazzata via cosa era gli domandai scrollò le spalle sorridendo vagamente alla cameriera che se ne stava tre metri qui là all'estremità del bancone dandoci le spalle mentre esaminava il tovagliolo alla fine si girò e si mise a fissarci quindi venne avanti irrisolutamente e tirò il tovagliolo addosso al mio avvocato che cos'è questo schioccò un tovagliolo rispose il mio avvocato ci fu un istante di osceno silenzio poi lei cominciò a strillare non darle a me quelle porcherie so cosa significa cosa credi maledetto bastardo trippone d'un pappa il mio avvocato prese il tovagliolo guardò quello che aveva scritto e poi lo ributtò sul bancone è il nome di un cavallo che ho avuto disse calmo cosa c'è che non va brutto figlio di puttana tiro su merda appalata in questo posto ma stai pur certo che non mi lascia insultare da un magnaccia portoricano pagate il conto e andatevene all'inferno altrimenti chiamo la polizia Cristo pensai che stava succedendo tenevo d'occhio le mani della donna sperando che non afferrasse nulla di affilato o di pesante presi il tovagliolo e lessi ciò che quel bastardo ci aveva scritto sopra inaccurate lettere rosse back door beauty il punto interrogativo era enfatizzato la donna continuava a gridare dragate il conte andatevene all'inferno altrimenti chiamo la polizia cavai di tasca il portafogli ma il mio avvocato era già scattato in piedi senza togliere gli occhi di dosso alla donna poi infila una mano sotto la camicia non in tasca e la tirò fuori di colpo con il gamber minimagnum una tremenda lama argentata che parve dire subito qualcosa alla nostra cameriera raggelò gli occhi selvaggiamente fissi sulla lama il mio avvocato sempre continuando a guardarla indietreggiò per un paio di metri che lo separavano dal telefono a gettoni e sollevò il ricevitore tagliò il filo di netto poi rimise a posto il ricevitore e tornò a sedere la cameriera non si mosse di un millimetro io ero stordito alla sorpresa e non sapevo se dovevo scappare o scoppiare a ridere quanto viene quel meringato al limone chiese il mio avvocato la sua voce era vaga come se fosse appena entrato nel locale e fosse indeciso su cosa ordinare 35 centesimi si bilò la donna aveva gli occhi tinki di paura ma il cervello sembrava resistere a un regime base di sopravvivenza il mio avvocato rise intendo dire tutto intero fece lei gemette il mio avvocato mise una banconota sul bancone facciamo 5 dollari ok disse lei annui ancora raggelata e osservò il mio avvocato che girava intorno al bancone e prendeva il dolce dall'espositore mi preparai a filare la cameriera era visibilmente sotto shock la vista della lama sfoderata nel cuore della discussione doveva averle fatto tornare in mente dei brutti ricordi la vitrea espressione dei suoi occhi diceva che la sua gola era già stata tagliata una volta era ancora paralizzata quando ce ne andammo a Grazie a tutti. 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 Cinque per un dollaro. Non mi ispira per niente. Preferisco un posto dove te ne danno uno solo a 50 centesimi. No! Questa potrebbe essere l'ultima occasione per farsi un taco. Ho bisogno di un caffè. Cinque taco per un dollaro è come dire cinque hamburger per un dollaro. Io non giudico i tacos dal prezzo. Pensi di contrattare? Potrei. Hanno anche hamburger a 29 centesimi. È un posto economico, ecco tutto. Andiamo a contrattare. Salve! Cosa posso fare per voi? Avete tacos qui. Sono tacos messicani o semplici tacos normali? Voglio dire, ci mettete dentro chili e roba simile. Ci mettiamo formaggio e lattuga, più le salse. Ma sopra, non dentro. Voglio dire, e garantite che sono autentici tacos messicani. Non saprei. Ehi, Lou! I nostri sono autentici tacos messicani. Che? Autentici tacos messicani. Sono tacos? Non ho idea di quanto siano messicani. Cazzo! Vorrei solo essere sicuro di avere per quello che pago. Perché sono cinque per un dollaro, no? Ne prenderò cinque. Tacoburger? Che roba è? È un hamburger con un taco nel mezzo. Invece che dentro una crepe. Tacos una tartina. Scommetto che i vostri tacos sono solo hamburger dentro a una crepe, anziché dentro a un panino. Non lo so. Lavori qui da poco, eh? Ho cominciato oggi. Mi pareva. Non ti avevo mai visto prima. Vai a scuola da queste parti? No, non vado a scuola. Oh! E perché mai? Sei malata! Lascia perdere. Siamo venuti per i tacos. In qualità di tuo avvocato, ti consiglio di prendere un chili burger. È un hamburger con del chili sopra. È troppo pesante per me. Allora, ti consiglio il taco burger. Prova quello. La carne c'è già nel taco. Ne prenderò uno. E subito del caffè. Così lo bevo mentre aspetto. Nient'altro? Solo un taco burger? Beh, intanto lo provo. Poi magari ne prendo un altro. I tuoi occhi sono verdi o azzurri? Prego. Azzurri o verdi? Cambiano. Come le lucertole. Come i gatti. Oh, già. Le lucertole cambiano colore della pelle. Volete qualcosa da bere? Birra. Anche se ne abbiamo parecchie in macchina. Tonnellate. I sedili di dietro sono pieni di birra. Non mi piace mischiare le noci di cocco con la birra e gli hamburger. Bene. Facciamo a pezzi quei bastardi in mezzo all'autostrada. Boulder City è da queste parti, no? Boulevard City. Volete zucchero? Sì. Siamo a Boulder City, eh? O molto, molto vicino. C'è scritto là. Il cardello dice Boulevard City, ok. Voi non siete da Nevada. Mai stati qui prima d'ora. Ce ne andiamo in giro. Continuate dritto per questa strada. Nessun movimento a Boulder City? Non lo chiedo a me. Io non... Gioco d'azzardo? Non so. È solo una cittadina. Dov'è il casino? Non lo so. Senti un po', ma di dove sei? New York. Ed è il primo giorno che sei qui. No, è già un po' che sono qui. E dove vai? Di bello da queste parti. Mettiamo che vuoi farti una nuotatina, cose del genere. Nel mio condominio. Indirizzo? Si va fino a... Ah, ma la piscina è chiusa ora. Lascia che ti spieghi. Vediamo se sono capace di rendere l'idea in breve. Noi stiamo cercando il sogno americano e ci hanno detto che rimane qui, da queste parti. Lo stiamo cercando qui perché qui ci hanno mandato da San Francisco a cercarlo. Ecco perché ci hanno dato quella Cadillac. Pensano che, se lo troviamo, potremmo ri... chiudercelo dentro. Ehi Lou, sai mica dove rimane il sogno americano? Sta chiedendo alla cuoca se sa dov'è il sogno americano. Cinque tacos e un taco burger. Dov'è il sogno americano? E che roba è? Beh, non lo sappiamo. Siamo solo stati mandati fin qua da San Francisco a cercarlo. Da una rivista. Per scriverne. Oh, intendete un posto? Un posto chiamato sogno americano. Non sarà il vecchio club degli psichiatri? Mi sa di sì. Il vecchio club degli psichiatri. Il vecchio club degli psichiatri, sì, è su Paradise Boulevard. Dite un po'. State mica prendendo in giro voi due? Oh no, lo giuro! Guarda là fuori. Ti sembriamo tipi da possedere una macchina simile. Che sia davvero il vecchio club degli psichiatri? Era una discoteca, una volta. Magari è quello. È tra Paradise Boulevard e cosa? Il vecchio club degli psichiatri. Era di Ross Allen. È ancora lui che se ne occupa? E che ne so. A noi hanno detto solamente. Andate a trovare il sogno americano. Prendetevi questa Cadillac bianca e andate a cercarlo. È dalle parti di Las Vegas. Allora deve essere il vecchio... È una cosa un po' stupida. Ma sapete, ci pagano. Lo dovete fotografare? No, no. Niente foto. O vi hanno mandato a una caccia al tesoro? È una specie di caccia al tesoro senza tesoro, più o meno. Ma per quanto riguarda noi, siamo serissimi. Deve essere il proprio il vecchio club degli psichiatri. Ma la sola gente che bazzica quel posto è una combricola di spacciatori, trafficanti, impasticati e roba simile. Forse è quello. È un locale diurno o notturno? Oh, cocco. Non si ferma mai. Ma non è un casino. Che tipo di posto è? È in Paradise. Il vecchio club degli psichiatri in Paradise Boulevard. Si chiama così? Il vecchio club degli psichiatri? Non si chiamava così. Poi l'hanno comprato. Ma non ho mai saputo che ora si chiamasse, come dite voi, il sogno americano. È qualcosa come... Che ha a che fare con... È un posto psichiatrico dove bazzicano tutti i drogati. Un posto psichiatrico, eh? Vuoi dire un manicomio? No, cocco. Un posto dove vanno i trafficanti e gli spacciatori di droga. Dove ci vanno i ragazzini fumati e tutto. Ma non si chiama, come avete detto voi. Sogno americano. Hai una idea di come si chiami? O di dove rimanga, più o meno? All'incrocio tra Paradise e Eastern. Ma Paradise e Eastern sono parallele? Sì, ma mi ricordo che si lascia a Eastern Boulevard e che si deve prendere Paradise. Ho capito. Ma poi bisogna prendere a destra, intorno al Flamingo. Laggiù, in fondo. Credo che vi abbiano ripilato a me. Ma noi stiamo al Flamingo! Penso che il posto di cui state parlando, da come lo descrivete, potrebbe essere proprio il Flamingo! Non è un posto per turisti, sa? A posta hanno mandato anche me. Lo scrittore è lui. Io sono la guardia del corpo. Perché è probabile che ci sarà da... Sono degli schizzati. Quei ragazzi sono completamente schizzati. Non è un problema. Hanno una loro legge, là. Violenza 24 ore su 24. E questo che intendete dire? Esattamente. Ora, qui c'è il Flamingo. Oh, non posso mostrarvelo così. Meglio, se ve lo dico a modo mio. Allora, qui davanti, al primo distributore, trovate Tropicana Avenue. Prendete a destra. Tropicana a destra. Al primo distributore, Tropicana Avenue, prendete a destra e andate dritto così. Tropicana a destra, poi a destra in Paradise. E troverete un palazzone nero, tutto dipinto di nero, molto sinistro. Tropicana a destra, Paradise a destra, palazzone nero. E c'è un insegna sul fianco del palazzo, che dice Club degli Psichiatri. Ma lo stanno ristrutturando. Beh, è abbastanza vicino. Se c'è qualcos'altro che posso fare per voi, Cocchi, non so se è proprio quello, ma mi sa di sì. Credo che siete sulla strada giusta, ragazzi. Sì, questa è la migliore indicazione che abbiamo avuto in due giorni passati a chiedere in giro. Posso fare anche un paio di telefonate e ve la trovo di sicuro. Davvero? Garantito. Chiamo Allen e chiedo a lui. Ehi, lo apprezzeremmo molto. Per prendere Tropicana Avenue, non dovete girare al primo distributore. A secondo. C'è un mega cartello qua in fondo alla strada, dice Tropicana Avenue. Prendete a destra e quando incrociate Paradise Boulevard, di nuovo a destra. Ok. Palazzone nero, Paradise a destra. Droga e violenza 24 ore su 24. Guardate, qui c'è Tropicana Avenue e questa è la Boulevard Highway, che va giù dritta così via 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 via. Beh, allora è un bel pezzo in là. E a un certo punto Paradise si divide in due. Ecco, all'incirca qui. Questa è la Boulevard Highway e questa è Tropicana. Beh, non questa. Il barman di là è un po' spinellato, pure lui. Anche questa è un'indicazione. Non rimpiangerete di esservi fermati qua, ragazzi. Solo se lo troviamo. Solo se salterà fuori il pezzo e verrà pubblicato. Perché non tornate dentro? E ve ne state seduti ancora un po'? Stiamo cercando di prendere più sole possibile. Sta andando a fare una telefonata per trovarcelo. Ok, ok. Torniamo dentro. Capitolo 10, parte 2 Lavoraccio all'aeroporto Sgradevole flashback peruviano No, è troppo tardi. Non ci provare. Il mio avvocato partì all'alba. Per poco non mancammo il suo volo per LA perché io non riuscivo a trovare l'aeroporto. Era a meno di mezz'ora dall'albergo e questo ero sicuro. Perciò lasciamo il flamingo alle 7 e mezzo esatte. Ma per qualche ragione lasciamo la svolta al semaforo di fronte al Tropicana. Continuiamo dritto sull'autostrada che corre parallela alla pista principale dell'aeroporto ma dalla parte opposta rispetto al terminal. Non c'è modo lecito di tagliare per raggiungerlo. Maledizione! Siamo perduti! Stava gridando il mio avvocato. Cosa cazzo ci facciamo su questa strada dimenticata da Dio? L'aeroporto è là! Indicò istericamente verso la tundra. Non preoccuparti! Dissi. Non ho mai perso un aereo in vita mia! Sorrisi mentre riaffiorava un ricordo. Solo una volta in Peru! Aggiunsi. Avevo praticamente già lasciato il paese fatto dogana e tutto ma me ne tornai al bar a chiacchierare con un boliviano trafficante di cocaina. E tutta un tratto sentii i motori di quel 707 che si accendevano. Mi precipitai verso l'uscita nel tentativo di salire a bordo se non che la porta era subito dietro ai motori e avevano già levato la scaletta. Merda! Quei reattori mi avrebbero fritto come pancetta. Ma avevo completamente perso la testa. Volevo salire a bordo a tutti i costi. I poliziotti dell'aeroporto mi videro arrivare e si radunarono in un capannello all'uscita. Io correvo come un bastardo dritto verso di loro. Il tipo che era con me gridava No! È troppo tardi! Non ci provare! Vidi che i poliziotti mi aspettavano e perciò rallentai come se ci avessi ripensato. Ma quando notai che loro si rilassavano feci un fulmineo cambio di passo e cercai di passare direttamente sopra i bastardi. Risi. Cristo! Era come tuffarsi di testa in un guardaroba pieno di elodermi velenosi. Quasi mi ammazzarono quei rotti in culo. Ricordo solo 5 o 6 sfolla gente che si abbassavano simultaneamente su di me e un bel po' di voci che gridavano No! No! È un suicidio! Fermate il gringo impazzito! Mi risvegliai due ore dopo in un bar del centro di Lima. Mi avevano steso in una di quelle cabine a mezzaluna imbottite di pelle. Il mio bagagliaio era monticchiato lì accanto. Nessuno lo aveva aperto. Così me ne andai a dormire e il giorno dopo presi il primo volo. Il mio avvocato ascoltava e non ascoltava. Senti! Fece. Mi piacerebbe molto sentire altre tue avventure peruviane ma non adesso. Quello che mi preme ora è attraversare questa maledetta pista. Stavamo sfrecciando a discreta velocità. Io cercavo un barco una qualunque stradina secondaria una corsia che attraversava quella pista fino al terminal. L'ultimo semaforo l'avevamo incontrato otto chilometri prima e non c'era tempo per fare inversione e ritornare fin là. C'era solo un modo per farcela. Pigiai i freni e deviai la balena nel fossato d'erba che divideva le due carreggiate dell'autostrada. Il fosso era troppo profondo per prenderlo di punta. Così lo presi di traverso. La balena quasi si ribaltò ma io la teni su di giri e così carenammo dalla sponda opposta e da lì nell'altra carreggiata. Fortunatamente non arrivava nessuno. Schizzammo fuori dal fossato col naso per aria come un idroplano poi rimbalzammo sull'autostrada e proseguimmo dritto verso i campi di cactus dall'altra parte. Ricordo che passammo attraverso una specie di stecconata e che ce la trascinammo dietro per qualche centinaio di metri. Ma nel momento in cui entrammo sulla pista vera e propria avevo recuperato il pieno controllo della situazione e rombavo a cento all'ora in seconda con tutto lo spazio assolutamente libero fino al terminal. La mia preoccupazione era di non finire sfranto come un moscone contro un DC-8 in fase di atterraggio che probabilmente non avremmo nemmeno visto finché non ci fosse piombato dritto in faccia. Mi chiesi se dalla torre di controllo potessero vederci. Probabilmente sì ma perché preoccuparsi? Tenne il piede pigiato sull'acceleratore non c'era modo di tornare indietro ormai. Il mio avvocato si reggeva al cruscotto con tutte e due le mani. Mi accorsi che nei suoi occhi c'era vera paura il tuo volto era grigiastro e percepì che non era rimasto molto contento della mia mossa. Ma stavamo andando talmente forte su quella pista poi cactus poi di nuovo pista che doveva per forza aver afferrato la situazione. Avevamo già oltrepassato quel punto in cui si può ancora discutere sulla vedutezza di una decisione. Ormai era stata presa e la nostra unica speranza era di riuscire ad arrivare dall'altra parte. Guardai il mio Accutron a forma di teschio e vidi che mancavano tre minuti e mezzo prima del decollo. Un fottio di tempo dissi raduna la tua roba ti depositerò direttamente accanto all'aereo. Vedevo il grande avio getto rosso e argento della Western un chilometro davanti a noi e ormai filavamo sull'asfalto liscio oltre l'ultima pista di atterraggio. No! gridò lui. Io non scendo! Mi metteranno in croce e daranno la colpa a me! Ridicolo! Tu digli che ti ho preso su mentre facevi l'autostop per l'aeroporto. Non mi avevi mai visto né conosciuto. Merda questa città è piena di Cadillac bianche decapotabili e ho in mente di fare tutto così in fretta che nessuno riuscirà nemmeno a vedere la targa. Ci stavamo avvicinando all'aereo. Vedevo i passeggeri che salivano ma ancora nessuno ci aveva notato. Mentre ci avvicinavamo da quell'implausibile direzione sei pronto? feci. Gemette. E va bene ma facciamo in fretta per l'amor di Dio! Stava scrutando l'area d'imbarco poi indicò là disse quel furgone fermatici dietro e io salto giù dove non mi possono vedere dopodiché filete la tutta velocità a noi avevamo tutto lo spazio che serviva nessun segno di allarme o di inseguimento mi chiesi se queste cose a Las Vegas non succedessero tutti i giorni macchine piene di ritardatari che sgommano direttamente attraverso le piste dell'aeroporto e scaricano samoani dallo sguardo animale che misteriose valigie di tela alla mano si fiondano sull'aereo all'ultimo secondo possibile immaginabile per poi rombare in cielo al sorgere del sole farà così che funziona pensai magari certe cose in questa città sono di ordinaria amministrazione piombai dietro al furgone e rallentai quel tanto da permettere al mio avvocato di saltare giù non dare retta a questi maiali urlai e ricorda per qualsiasi problema puoi sempre mandare un telegramma a chi di dovere ghignò già spiegando la mia situazione fece lui un pezzo di merda ci ha scritto sopra una poesia una volta è un buon consiglio ma solo se hai il cervello fuso mi salutò con un gesto della mano giusto dissi ripartendo avevo già individuato un passaggio nella grande barriera anti-uragani e ci puntai contro con la balena in seconda nessuno sembrava darmi la caccia non riuscivo a capire lanciai un'occhiata nello specchietto e vidi il mio avvocato che saliva tranquillamente a bordo nessun segno di buriana finché fui fuori di nuovo nel traffico mattutino di paradise road voltai in fretta in russell street a destra poi a sinistra su maryland parkway e di colpo ecco che cabotavo nel più totale anonimato lungo il campus dell'università di las vegas nessuna tensione su quei volti mi fermai a un rosso e mi persi per un momento in quel balenio di carne che attraversava la strada splendide cosce tornite minigonne rosa piccoli capezzoli ritti giubbe senza maniche lunghe vampate di capelli biondi labbra rosa occhi azzurri tutti i tratti caratteristici di una cultura pericolosamente innocente fui tentato di accostare e di grognere suppliche oscene ehi dolcezza facciamo cose turche salta su questa cadilla che acrobatica e sfrecciamo fino alla mia suite al flamingo dove ci faremo di etere comportandoci come animali selvaggi nella mia piscina privata a forma di rene certo che lo faremo pensai come no a quel punto ero già in fondo al viale e piegavo a sinistra per svoltare in flamingo road in albergo a ragionare un po' sulla situazione c'erano tutte le ragioni per credere che stavo andando incontro a dei guai e avevo preteso troppo dalla mia buona stella avevo violato ogni norma che regolava la vita di las vegas cagando il cazzo agli abitanti oltraggiando i turisti e terrorizzando il personale di servizio l'unica speranza a quel punto eri di avere talmente ecceduto con la nostra performance che nessuno che si trovasse nella posizione di emettere una sentenza potesse crederci in particolare da quando ci eravamo accreditati alla conferenza antidroga quando fai una cosa in questa città meglio se ci vai giù pesante non perdete tempo con piccole malefatte e inflazioni da quattro soldi andate dritto alla giugulare tuffatevi direttamente nel crimine la mentalità di las vegas è così grossolanamente arretrata che un crimine realmente grosso spesso non viene nemmeno individuato uno dei miei vicini ha passato di recente una settimana nella prigione di vegas per vagabondaggio a vent'anni capelli lunghi giubbotto levis zaino un drifter dichiarato un vero uomo di strada totalmente inoffensivo ti limita a girovagare per il paese in cerca di qualsiasi cosa tra quelle che noi tutti pensiamo di avere trovato negli anni 60 una specie di viaggio alla Bob Zimmerman prima maniera durante un viaggio da Chicago a LA vi venne la curiosità di vedere vegas e decise di venire a darle un'occhiata giusto di passaggio a girellare un po' per lo strip tanto per farsi un'idea senza fretta perché correre? era fermo a un angolo della strada vicino al Circus Circus a guardare la fontana multicolore quando è arrivata una pattuglia WAM dritto in galera niente telefonate niente avvocato niente capi d'accusa mi hanno infilato in macchina e mi hanno portato alla centrale mi ha detto mi hanno trascinato in uno stanzone pieno di gente e prima ancora di registrarmi mi hanno fatto togliere i vestiti ero di fronte a un bancone alto quasi due metri con un poliziotto seduto là che guardava in giù come una specie di giudice medievale la stanza era piena di gente una dozzina di arrestati il doppio di poliziotti e almeno dieci poliziotti e si doveva camminare nel mezzo dello stanzone tirare fuori tutto dalle tasche e metterlo sul bancone e poi restarsene nudi come bachi con tutti che guardavano io avevo solo una ventina di dollari e la multa per vagabondaggio era di 25 perciò mi hanno messo su una panca con quelli che dovevano finire al gabbio nessuno di loro mi ha dato pastiglio era come la riga di una dunata i due tipi vicino a me erano cappelloni gli sergisti anche loro erano stati presi per vagabondaggio ma quando hanno cominciato a svuotarsi le tasche la stanza si è pietrificata tra tutti e due avevano 130.000 dollari per lo più in biglietti di grosso taglio i poliziotti non riuscivano a crederci quei tipi continuavano a cavarsi pacchi di soldi dalle tasche e ad appoggiarli lassù su quel bancone tutti e due nudi e come ingobbiti senza aprir bocca a vedere tutti quei soldi i poliziotti sono diventati matti hanno cominciato a bisbigliare l'uno con l'altro cazzo non c'era modo per trattenere quei due per vagabondaggio qui il ragazzo si è messo a ridere mentre raccontava così così li hanno trattenuti per sospetto evasione della tassa d'ingresso ci hanno portati tutti in prigione e questi due tipi sembravano proprio fuori di testa erano spacciatori naturalmente e la roba la avevano in albergo perciò dovevano trovare il modo di uscire prima che i poliziotti scoprissero quale hanno offerto 100 bigliettoni a una delle guardie per chi andasse a chiamare il miglior avvocato della città e circa 20 minuti dopo eccotelo lì che sbraitava a proposito di habeas corpus e merdate del genere cazzo ho cercato di parlarci anch'io ma quell'uomo aveva i paraocchi gli ho detto che avrei potuto rimediare i soldi della cauzione e anche qualcosa per lui se solo mi avessero lasciato chiamare mio padre a Chicago era troppo preso a darsi da fare per quegli altri due un paio d'ore dopo è tornato insieme a una guardia e ha detto andiamo e i due erano liberi uno di loro mi ha detto mentre stavamo aspettando che quello scherzetto gli sarebbe costato 30.000 dollari e sono sicuro che è vero ma che cazzo è sempre poco in confronto a quello che gli sarebbe capitato se non fossero stati rilasciati finalmente mi hanno lasciato fare un telegramma al mio vecchio e lui mi ha spedito 125 dollari ma ci sono voluti 7-8 giorni non sono nemmeno sicuro di quanto tempo ho passato là dentro perché la cella non aveva finestre e ci davano da mangiare ogni 12 ore si perde il senso del tempo quando non si vede la luce sai c'erano 75 persone per cella degli stanzoni con una cloaca nel mezzo ci davano un pagliariccio quando entravi e tu dormivi dove volevi il tizio vicino a me era stato dentro 30 anni per aver rapinato un distributore quando alla fine sono uscito il poliziotto del bancone si è preso altri 25 dollari da quelli che mio padre mi aveva mandato oltre a quelli che dovevo pagare per la multa che potevo dirgli se li ha presi poi mi ha dato altri 75 e mi ha detto che c'era un taxi fuori per me e mi avrebbe portato all'aeroporto e quando sono entrato nel taxi l'autista mi ha detto non faremo fermate ragazzo e sarà meglio che non ti muovi finché non saremo al terminal non ho mosso un maledetto muscolo quello mi avrebbe sparato ne sono sicuro sono andato dritto all'aereo senza dire una parola a nessuno finché non sono stato fuori dal Nevada gente ecco un posto dove non tornerò mai capitolo 11 parte 2 truffa furto stupro brutale incontro con Alice del servizio biancheria rimuginavo su questa storia mentre sistemavo la balena bianca nel parcheggio del flamingo 50 dollari e una settimana di gabbio per essersene stato fermo in un angolo per semplice curiosità Cristo che incredibile punizione allora avrebbero sfoderato per me feci l'inventario dei diversi capi di accusa ma nello scheletrico linguaggio giudiziario non sembravano tanto gravi stupro? quello avremmo potuto scansarlo non l'avevo nemmeno desiderata quella maledetta ragazza nemmeno toccata con un dito truffa? furto? avrei sempre potuto offrirmi di riparare pagare per tutto dire che ero stato mandato da Sports Illustrated e tirarmi dietro gli avvocati della timing in una causa da incubo tenerli per anni in una tormenta di appelli e di ricorsi risucchiare tutte le loro risorse in posti come Junot e Hudson e poi presentare forse natamente richieste di trasferimento a Quito Gnome Aruba tenere sempre in movimento tutto il baraccone fargli girare a vuoto costringerli a entrare in conflitto con l'ufficio contabilità nota spese di Aber H. Dodge capo dell'ufficio legale ammontare 44.066 dollari virgola dodici centesimi spese straordinarie giustificativi allegati abbiamo inseguito l'imputato Raoul Duke per tutto l'emisfero occidentale e finalmente lo abbiamo localizzato in un villaggio sulla costa settentrionale di un'isola conosciuta con il nome di Culebra nei Caraibi dove il suo legale ha ottenuto il diritto di svolgere ogni successivo dibattimento nella lingua della tribù locale abbiamo spedito tre uomini alla Berlitz a questo proposito ma 19 ore prima dell'udienza preliminare l'imputato si è trasferito in Colombia installandosi in un villaggio di pescatori chiamato Guajira presso il confine con il Venezuela dove la lingua ufficiale nei processi è uno scuro dialetto conosciuto come Guajiro dopo alcuni mesi siamo stati in grado di intentare azione anche in quel luogo ma nel frattempo l'imputato si era trasferito in una località virtualmente inaccessibile lungo l'alto rio delle Amazone dove ha stretto rapporti con una tribù di cacciatori di teste chiamati Ibaros il nostro rappresentante a Manaus è stato spedito a risalire il fiume alla ricerca di un procuratore indigeno di lingua a Ibaro da ingaggiare ma la ricerca è stata funestata da gravi problemi di comunicazione vi è adesso viva preoccupazione nel nostro ufficio di Rio che la vedova del suddetto rappresentante di Manaus possa ottenere un risarcimento per noi rovinoso mediante pressioni sui tribunali locali a un livello ben più elevato di quello che qualunque giuria del nostro paese potrebbe considerare equo o anche soltanto appena assennato certo ma cosa è assennato specialmente qui nel nostro paese nella fatale era di Nixon siamo tutti impegnati in una lotta per la sopravvivenza al momento finita l'energia che pulsava negli anni 60 le sostanze stimolanti sono cadute in disgrazia è stata questa la falla fatale nel viaggio di Tim Leary ha bombardato l'America con la sua espansione di coscienza senza minimamente preoccuparsi della realtà sinistra e rapace che attendeva tutti quelli che lo avrebbero preso troppo sul serio dopo West Point e il sacerdozio l'LSD deve essergli sembrato perfettamente logico e non è di gran consolazione sapere che è finito così male perché nella sua caduta si è tirato dietro davvero troppa gente non che non se lo fossero cercato pure loro non c'è dubbio che tutti hanno avuto ciò che si meritavano tutti quei lisergisti patetici appassionati che pensavano di poter comprare pace e comprensione a tre dollari la botta ma la loro sconfitta e il loro fallimento sono anche nostri ciò che Leary si è portato dietro nella rovina è l'illusione circa un intero stile di vita che lui stesso avesse contribuito a creare una generazione di sciancati permanenti di cercatori falliti che non è mai riuscita a capire l'originaria menzogna che la cultura lisergica ha ereditato dai nostri vecchi mistici la disperata supposizione che qualcuno o perlomeno qualche forza custodisse la luce alla fine del tunnel è la stessa merda crudele e paradossalmente caritatevole che ha giudicato nei secoli il cammino della chiesa cattolica ed è anche l'etica militare la fede cieca in qualche più saggia e superiore autorità il papa il generale il primo ministro su su fino a dio uno dei momenti cruciali degli anni 60 è stato quando i beatles misero la propria sorte in mano ai maharishi come se bob dylan se ne andasse in vaticano a baciare l'anello del papa prima i guru e poi constatato che non funzionavano il ritorno di gesù e infine sotto la guida istinto primitiva di charlie manson una nuova ondata di dei da comunità stile clan come Mel Lyman duce di avatar e come si chiama che ha fondato spirit and flesh sonny barger non ha mai ben capito la portata della cosa ma non saprà mai quanto è arrivato vicino a uno strepitoso sfondamento gli angeli mandarono tutto all'aria nel 1965 sul fronte Oakland Berkeley quando agirono seguendo il suo istinto da capo detenuto patriota e attaccarono le prime linee di una marcia contro la guerra quello rappresentò uno scisma storico nella marea montante del movimento giovanile degli anni 60 fu la prima esplicita rottura tra grisis e capelloni e l'importanza di quella rottura la si può leggere nella storia del SDS che finì per autodistruggersi nessuno che fosse coinvolto in quei fatti all'epoca avrebbe potuto lontanamente prevedere il fallimento del tentativo Ginzburg-Kesey di convincere gli Hells Angels a confluire nella sinistra radicale di Berkeley la rottura finale sopraggiunse ad Altamont quattro anni dopo ma a quel punto era già stata prevista da tutti tranne che da un manipolo di scoppiati dell'industria rock e della stampa nazionale l'orgia di violenza di Altamont non fece che drammatizzare il problema la realtà dei fatti si era già determinata fu compreso che la mattina era diventata terminale e che le energie del movimento si erano già da tempo aggressivamente consumate nella lotta per l'autoconservazione ah terribile borbottio ricordo sinistri e atroci flashback che spuntano dalla nebbia di tempo che circonda Stanian Street niente consolazione per i profughi inutile guardare indietro e la domanda è come sempre e ora ero stravaccato sul letto al flamingo pericolosamente fuori fase con i miei dintorni sarebbe successo presto qualcosa di brutto ne ero certo la camera pareva la sede di un disastroso esperimento zoologico condotto con l'ausilio di whisky e gorilla lo specchio alto tre metri era rotto ma il grado si tenesse ancora miracolosamente insieme spiacevole il risultato del pomeriggio in cui il mio avvocato aveva perso la brocca con il martelletto per le noci di cocco in mano e aveva ammazzuolato lo specchio e tutte le lampadine queste ultime le avevamo sostituite con una confezione di luci rosse e blu da albero di natale ma di rimpiazzare lo specchio non c'era nessuna speranza il letto del mio avvocato somigliava a un nido di ratti andati a fuoco la metà superiore era bruciata e il resto era un informe aggregato di fili e imbottitura carbonizzata fortunatamente le donne delle pulizie non si erano nemmeno avvicinate alla stanza dopo il durissimo confronto del martedì precedente stavo dormendo quella mattina quando entrò alla cameriera avevamo scordato di appendere la scritta a non disturbare perciò quella fece irruzione nella stanza spaventando a morte il mio avvocato il quale carpone nello stanzino e nudo come un baco era intento a vomitarsi nelle scarpe convinto come era di essere in bagno e che di colpo alzati gli occhi si trovò di fronte una donna con la faccia di Mickey Runei che lo fissava incapace di parlare tremante di paura e confusione mentale impugnava quella scopa come fosse il manico di un'accetta mi ha spiegato successivamente sono schizzato fuori dallo stanzino in una specie di corsa strisciata continuando a vomitare e l'ho colpita dritta alle ginocchia è stato puro istinto pensavo che stesse per uccidermi e poi quando si è messa a strillare l'ho infilato in bocca la borsa del ghiaccio già quello strillo uno dei suoni più terrificanti che abbia mai sentito in vita mia mi svegliai di botto e vidi il mio avvocato che lottava disperatamente ai piedi del mio letto con quella che sembrava una vecchia signora la stanza risuonava di un potente rumore elettrico il televisore che si bilava a tutto volume sul solito canale inesistente riuscivo appena a sentire il mugugno strozzato della donna che si dimenava per levarsi la borsa del ghiaccio dalla bocca ma non era una lotta impari contro la poderosa massa nuda del mio avvocato che in breve riuscì a inchiodarla in un angolo dietro al televisore stringendole le mani alla gola mentre quella balbettava appenosamente no per favore la prego sono solo la cameriera non intendevo in un lampo saltai giù dal letto presi il portafogli ed estrassi il distintivo dorato di giornalista collaboratore gradito alla polizia che agitai sotto il naso di quella sventurata sei in arresto gridai no gemette lei volevo soltanto pulire il mio avvocato si tirò su respirando affannosamente deve avere usato una chiave falsa disse ero lì nello stanzino a pulire le scarpe quando l'ho vista sgattaiolare dentro e allora l'ho presa tremava anche lui mentre il vomito gli colava ancora dal mento e vedi subito che si era reso conto della gravità della situazione il nostro comportamento stavolta si era spinto ben al di là di ogni possibile perversione privata eravamo tutti e due nudi e fissavamo negli occhi una vecchia signora terrorizzata un'impiegata dell'albergo sdraiata sul pavimento della nostra suite in un accesso di terrore isterico e bisognava cavarne le gambe che ti ha mandato le domandai che ti paga nessuno sono solo la cameriera stai mentendo gridò il mio avvocato è evidente chi ti ha mandato il direttore io lavoro in questo albergo disse lei rifaccio le stanze mi voltai verso il mio avvocato questo significa che sanno quello che abbiamo peci che hanno mandato questa povera donna a rubarlo no urlò lei non ho idea di cosa state parlando balle gridò il mio avvocato ci sei dentro né più né meno quanto loro dentro cosa droga dissi non far finta di non sapere che cosa sta succedendo in questo albergo perché credi che siamo qui noi ci fissò cercando di parlare e riuscendo invece solo a balbettare lo so che siete poliziotti ma pensavo che foste qui per quell'assemblea lo giuro volevo solo fare la stanza non so niente di droga il mio avvocato sorrise avanti bambino non provare a darci a intendere che non hai mai sentito parlare del grange gourmand no strillò no giuro su dio che non ho mai sentito quel nome in vita mia il mio avvocato parve riflettere un istante poi si chinò per aiutare la vecchia signora a rialzarsi magari sta dicendo la verità fece rivolto a me forse lei non c'entra no giuro di no mugulò lei beh dissi in questo caso non dovremmo schiaffarla dentro forse ci può aiutare oh si disse la donna con passione vi aiuterò io odio la droga noi pure signora dissi potremmo ingaggiarla disse il mio avvocato la mettiamo sul libro paga degli affari grossi e vediamo cosa ci riporta ogni mese il volto della donna cambiò visibilmente espressione non sembrava più turbata dal trovarsi con due uomini nudi uno dei quali aveva appena cercato di strangolarla credi di potercela fare? le chiesi fare cosa? una telefonata al giorno fece il mio avvocato solo per dire quello che hai visto le batte la mano sulla spalla senza preoccuparti se serve o non serve quello è un problema nostro la donna soghignò e mi paghereste per questo? sì maledizione dissi ma la prima volta la prima volta che ne fai parola con chiunque ti spediamo in galera per il resto dei tuoi giorni lei a noi farò tutto quello che posso per aiutarvi ma a chi devo telefonare? non preoccuparti rispose il mio avvocato come ti chiami? Alice chiamate il servizio biancheria e chiedete di Alice verrai contattata dissi ti vorrà una settimana nel frattempo cerca di comportarti normalmente e tieni gli occhi aperti lo farai? oh sì rispose voi vi rivedrò signori? dopo questo voglio dire no disse il mio avvocato ci hanno mandato giù da Carson City sarà l'ispettore Rock a contattarti farà finta di essere un uomo politico ma non avrai difficoltà a riconoscere sembrava perplessa nervosa che c'è che non va? chiesi c'è qualcosa che non ci hai detto? oh no rispose immediatamente è che mi stavo chiedendo chi è che mi pagherà? l'ispettore Rock si occuperà di tutto dissi contanti mille dollari il nove di ogni mese oh signore esclamò lei farei qualunque cosa per una somma così tu e un mucchio di altra gente disse il mio avvocato prima resti sorpreso a sapere chi altri abbiamo in lista paga anche qui in questo albergo parve spaventarsi li conosco? probabile dissi ma sono tutti in incognito l'unico caso in cui potresti venirlo a sapere è se succede qualcosa di veramente grave e uno di loro ti deve contattare allo scoperto usando la parola d'ordine e qual è? una mano lava l'altra dissi nel momento in cui ti sento dire questo tu rispondi non ho paura di nulla così ti riconosceranno a noi ripetendo il codice diverse volte poiché volevamo sincerarci che l'avesse imparato bene ok fece il mio avvocato questo è tutto per ora probabilmente non ci vedremo fino al giorno del processo sarà bene che ci ignori del tutto finché non saremo ripartiti non preoccuparti della camera lascia asciugamani e saponette fuori dalla porta tutti i giorni a mezzanotte in punto sorrise così non correremo il rischio di altri piccoli incidenti giusto? lei si avviò verso la porta il mio avvocato l'accompagnò fuori si capisce disse gentilmente ma ormai è passato grazie al dio che protegge la brava gente lei sorrise e si chiuse la porta dietro le spalle capitolo 12 parte 2 ritorno al Circus Circus a cercare la scimmia al diavolo il sogno americano erano passate quasi 72 ore da quello strano incontro e nessuna cameriera aveva più messo piede nella stanza immagino sia stata opera di Alice l'abbiamo vista una volta mentre spingeva un carrello della biancheria attraverso il parcheggio mentre noi salivamo sulla balena ma facemmo finta di niente e lei parve capire ma non poteva durare la stanza era piena di asciugamani usati erano appesi dappertutto sul pavimento del bagno c'era uno strato di 15 centimetri composto da pezzi di sapone vomito e bucce di pompelmo il tutto mescolato a vetri rotti ogni volta che andavo a pisciare dovevo mettermi gli stivali il manto del tappeto grigio maculato era talmente fitto di semi di marijuana che tendeva al verde l'aspetto da vicolo malfamato che la suite aveva assunto era così disgustoso così incredibilmente fetido che avrei anche potuto farla franca sostenendo che si trattava di una specie di esposizione naturale portata in giro da high street per mostrare ai poliziotti delle altre parti d'america quanto i drogati potessero sprofondare nella sporcizia e nel degrado se abbandonati a se stessi e ai loro vizi ma quale drogato avrebbe sentito il bisogno di tutte quelle scorze di cocco e buce di melone la presenza di tossici avrebbe giustificato tutte quelle patatine fritte lasciate lì e quelle pozze di ketchup cristallizzate sul cassettone forse ma allora perché tutta quella bomba in giro e quelle crude foto pornografiche ritagliate da riviste tipo troie svedesi e orge nella caspa e appiccicate sopra lo specchio rotto con pennellate di senape ormai crostificatesi in patacche giallastre e tutti quei segni di violenza quelle strane lampadine rosse e blu quei cocci di vetro conficcati nell'intonaco no quelle non erano tracce lasciate da qualche ordinario junkie timorato di dio era qualcosa di troppo nel vado troppo aggressivo c'era traccia in quella stanza di eccessivo consumo di qualsiasi droga conosciuta dall'uomo civilizzato a partire dall'anno del signore 1544 poteva essere spiegato solo come un monitoraggio una specie di dimostrazione caricaturale a scopi medici messa su con grande scrupolo per mostrare cosa succede su 22 tossicodipendenti criminali ciascuno affetto da un'intossicazione diversa vengono rinchiusi nella stessa stanza e li tenuti per 5 giorni e 5 notti senza interruzione certo ma naturalmente questo non può accadere nella realtà signori abbiamo messo insieme tutto questo solo a scopo dimostrativo d'un tratto squillò il telefono peraventandomi fuori dal mio stupore fantastico lo guardai ring cristo che altro c'è ci siamo mi pare di sentire la voce stridura del direttore il signor him dirmi che stavano salendo dei poliziotti a pregarmi di non sparare attraverso la porta quando loro avrebbero cominciato a buttarla giù ring no non avrebbero chiamato prima una volta deciso di prendermi mi avrebbero probabilmente teso un agguato nell'ascensore prima uno spruzzo di mace poi un'aggressione di gruppo sarebbero arrivati senza avvertire perciò rispose era il mio amico Bruce Innes che chiamava dal Circus Circus aveva rintracciato l'uomo che voleva vendermi la scimmia che stavo cercando il prezzo era di 750 dollari ma con che razza di strozzino abbiamo a che fare dissi ieri sera ne voleva 400 dice di aver scoperto che la creatura è addomesticata fece Bruce e il notte le ha permesso di dormire nella roulotte lei ha cagato nella dutta e questo cosa c'entra dissi le scimmie sono attratte dall'acqua la prossima volta cacherà nel lavandino potresti venire a discuterne con lui disse Bruce è qui con me al bar che ho detto che quella scimmia la volevi davvero se vuoi offrire una bella casa credo che si è disposto a trattare è veramente affezionato a quella peggiatta è qui con noi anche lei seduta su un maledetto sgabello a sprodolarsi con un boccale di birra ok peci starò lì tra dieci minuti non farlo ubriacare il bastardo voglio trattare in condizioni normali quando arrivai al Circus Circus stavano caricando un vecchio su un'ambulanza davanti alla porta principale che è successo? chiesi al parcheggiatore non sono sicuro rispose dicono che gli ha preso un colpo ma io ho visto che aveva la nuca spaccata si volò sulla balena e mi allungò un talloncino vuole che le tengo da parte la bevuta? chiese sollevando dal sedile un bicchierone di tequila posso tenergliela in fresco se vuole? a noi quei tipi conoscevano bene le mie abitudini ero entrato e uscito così tante volte da quel posto con Bruce e gli altri del complesso che i parcheggiatori ormai sapevano il mio nome malgrado nessuno me lo avesse mai domandato e io non mi fossi mai presentato lì per lì supposi che facesse tutto parte del loro lavoro che avessero magari aperto il cassettino portaoggetti e trovato un quadernino col mio nome scritto sopra la vera ragione però che al momento non mi venne in mente era che avevo ancora addosso il cartellino di identificazione della conferenza antidroga ciondolava dal taschino della mia giacca da caccia multicolore ma io me ne ero dimenticato da un bel po' quelli devono aver pensato che fossi una specie di super eccentrico poliziotto in borghese o forse no magari mi trattavano bene solo perché pensavano che chiunque si mostrasse così folle da farsi passare per poliziotto andandosene in giro per vegas su una cadillac bianca decapottabile con un bicchiere di tequila in mano dovesse per forza essere tosto o magari anche pericoloso in un luogo dove nessuno con un minimo di ambizione è mai ciò che sembra non c'è gran rischio a farsi passare per un freak scatenato i sorveglianti si limiteranno a farsi cenno l'uno con l'altro mormorando commenti su questi maledetti zoticoni senza un filo di classe l'altra faccia di questa maledetta medaglia è la sindrome del cazzo e questo chi è che colpisce gente tipo i portieri e i sorveglianti convinti che chiunque si comporti da svitato ma molli belle mance debba per forza essere un pezzo grosso il che significa che va sempre accontentato o almeno trattato con gentilezza ma nulla di ciò conta granché con la testa piena di mescalina te ne vai in giro alla cieca e stop facendo tutto ciò che ha l'aria di essere giusto e che solitamente lo è Vegas è talmente piena di freak naturali gente geneticamente sballata che la droga non è un gran problema salvo che per i poliziotti e l'organizzazione dello spaccio gli psichedelici sono pressoché irrilevanti in una città dove puoi infilarti in un casino a qualsiasi ora del giorno o della notte e assistere alla crocifissione di un gorilla una fiammeggiante croce al neon improvvisamente mutante in una girandola che fa vorticare selvaggiamente la bestia sopra la folla occupata a fare le puntate trovai Bruce al bar ma della scimmia non c'era traccia dov'è? domandai sono pronto a staccare l'assegno voglio portarmi indietro quella bastarda sull'aereo ho già prenotato due posti in prima classe Raul Duke è figlio portarla in aereo sì cazzo dissi cosa potrebbero averci da ridire chi si azzarderebbe a piantare grane sugli handicap di mio figlio cronò le spalle dimenticatela la scimmia disse l'hanno arrestata ora ora ha assalito un vecchio qui al bar il verme ha cominciato a protestare col barman per il fatto che in questo posto facevano entrare gli scalzi nudi e la scimmia ha lanciato uno strillo ragion per cui il vecchio le ha tirato contro una birra e la scimmia è andata via di testa è schizzata su dallo sgabello come un saltapicchio e gli ha lasciato andare un gran morso nella collottola il barman ha chiamato l'ambulanza dopodiché sono arrivati i poliziotti hanno preso la scimmia e se la sono portati via maledizione dissi quant'è la cauzione voglio la scimmia calma fece lui è meglio se te ne stai alla larga da quella prigione non aspettano altro che l'occasione per metterti le manette scordati quella scimmia puoi farne a meno ci pensai un po' su e decisi che forse aveva ragione non aveva senso mandare tutto a puttane per amore di una scimmia che nemmeno conoscevo per quanto potevo saperne era capace di azzanare la nuca anche a me mentre cercavo di farla uscire su cauzione e ci sarebbe voluto un po' per calmarsi dopo lo shock della prigionia e io non potevo permettermi il lusso di aspettarla quando parti chiese Bruce al più presto risposi dicendolare ancora per questa città non se ne parla nemmeno ho quel che mi serve qualunque altra cosa ora può soltanto confondermi le idee parve sorpreso hai trovato il sogno americano disse in questa città feci cenno di sì siamo seduti esattamente sul nervo principale ricordi la storia che ci ha raccontato il direttore a proposito del padrone di questo posto che aveva sempre desiderato fin da piccolo di scappare via col circo Bruce ordinò altre due birre pazziò con lo sguardo dentro al casino e poi scrollò alle spalle sì ho capito cosa intendi disse ora il bastardo possiede il suo circo eppure una licenza di rubare annui hai ragione è lui il modello assolutamente assolutamente dissi è puro orazio alger fino negli atteggiamenti ho cercato di farci due chiacchiere ma una specie di lesbica dall'aria minacciosa che sosteneva di essere la sua segretaria esecutiva mi ha mandato a fare in culo ha detto che lui odia la stampa più di ogni altra cosa in questo paese lui è spyro egniu mormorò Bruce e fanno bene dissi ho cercato di spiegare a quella donna che io condivido in pieno le sue idee ma lei ha risposto che se realmente tenevo al mio benestare dovevo levarmi di culo senza nemmeno pensare di disturbare il suo capo odia sul serio tutti i giornalisti mi ha detto non vorrei che suonasse come una minaccia ma se fossi in lei fai davvero come le ho detto Bruce capì il capo lo pagava mille dollari la settimana per due esibizioni a sera alla leopard lounge e ne dava altri duemila al suo gruppo tutto quel che doveva fare era un gran baccano ogni notte non gliene fregava un cazzo di niente di che tipo di musica suonassero purché picchiassero duro con gli amplificatori sparati a palla così da sospingere la gente verso il bar era molto strano stare seduti là a Vegas a sentire Bruce che cantava roba tozza come Chicago o country song se i genitori si fossero disturbati ad ascoltare le parole tutto il gruppo sarebbe finito incatramato e coperto di piume un po' di mesi dopo ad Aspen Bruce cantò le stesse canzoni in un club pieno di turisti e alla fine dello show l'ex astronauta X venne al nostro tavolo e cominciò a blaterare il solito tipo di sbobba da super patriota ubriaco rinfacciando a Bruce che razza di sfacciataggi ne può avere un maledetto canadese per venire qui a insultare questo paese ascolta gli dissi io sono americano vivo qui e condivido ogni fottuta parola che lui ha cantato a questo punto comparvero i butta fuori dicendo con un ghigno imperscrutabile buonasera signori i cingh dice che è tempo di restare calmi e nessuno dà fastidio ai musicisti in questo posto è chiaro l'astronauta se ne andò borbottando sommessamente di voler spendere la propria influenza perché venisse fatto qualcosa in fretta per modificare lo statuto sull'immigrazione come ti chiami mi chiese mentre i butta fuori lo pilotavano via Bob Zimmerman risposi e se c'è qualcosa che mi sta sul cazzo in questo mondo sono i polacchi coglioni polacco credi che io sia polacco sporco vagabondo che non sei altro tu sei merda tu non rappresenti questo paese Cristo speriamo proprio di no mormorò Bruce stava ancora farneticando quando lo scaraventarono in strada la sera dopo in un altro ristorante l'astronauta si stava ingozzando di roba sobrio stavolta quando un ragazzino di 14 anni si presentò al suo tavolo per chiedergli un autografo lui fece il timido per un istante simulando imbarazzo e poi scarabocchiò la sua firma sul pezzo di carta che il ragazzo gli porgeva il ragazzino guardò l'autografo e poi stracciò il foglietto in tanti pezzettini che gettò sulle ginocchia di X non tutti ti amano amico gli disse dopodiché se ne tornò al suo tavolo due o tre metri più in là la combricola dell'astronauta era rimasta muta nove o dieci persone mogli direttori e ingegneri di spicco impegnati a far divertire X nella favolosa Aspen pareva che qualcuno avesse spruzzato addosso a tutti della merda spray nessuno aprì bocca mangiarono in fretta e se ne andarono senza lasciare la mancia ma basta con Aspen e gli astronauti X non avrebbe mai avuto problemi simili a Las Vegas una piccola dose di questa città basta per parecchio tempo dopo cinque giorni ci si sente come se ci si fosse stati per cinque anni certa gente dice che gli piace ma se è per questo c'è anche gente a cui piace Nixon sarebbe stato un sindaco perfetto per questa città con John Mitchell Sheriffo e Spyro Agnew assessore alle fognature capitolo 13 parte 2 fine della strada morte della balena gran sudata all'aeroporto quando feci per sedermi al tavolo del baccarat i buttafuori mi misero le mani addosso tu non hai nulla a che fare con questo posto disse dolcemente uno di loro andiamo fuori perché no dissi mi scortarono fuori dalla porta principale e fecero cenno che mi portassero alla balena dov'è il tuo amico chiesero mentre aspettavamo quale amico il portoricano ciccione sentite feci io sono io sono dottore in giornalismo non mi vedrete mai girare per posti come questo insieme a un maledetto portoricano risero e questa come la spieghi dissero e mi misero sotto il naso una grande fotografia di me e il mio avvocato seduti a un tavolo del bar galleggiante scrollai le spalle quello non sono io dissi è un tale di nome thompson lavora per il rolling stone un pazzo depravato e quello seduto vicino a lui è un capoccia della mafia di hollywood merda l'avete guardata bene questa foto che razza di maniaco può girarsi per las vegas portando un solo guanto nero l'avevamo notato dissero dov'è ora scrollai di nuovo le spalle si muove abbastanza svelto risposi gli ordini li riceve da san luis mi fissarono come fai a sapere tutte queste cose in un lampo in un lampo gli mostrai il mio distintivo dorato di giornalista collaboratore della polizia mettendomi di spalle alla folla fate finta di niente sussurrai non mi fate scoprire erano ancora fermi lì quando me ne andai sulla balena il ragazzo l'aveva portata giusto in tempo gli allungai 5 dollari e sgommai con stile i pneumatici stridettero sull'asfalto era davvero finita passai dal flamingo e caricai tutto il bagaglio sulla macchina cercai di alzare la cappotta per avere un po' di intimità ma il motorino non funzionava la spia di controllo della batteria lampeggiava il suo bel rosso acceso da quando avevo spinto la macchina fin dentro il lake mid per un test acquatico una breve ispezione al cruscotto rivelò che tutti i circuiti erano completamente fottuti non funzionavano più un cazzo nemmeno i fare di posizione e quando cercai di accendere l'aria condizionata senti una sorta di esplosione sotto il cofano la capotta era rimasta bloccata a metà ma decisi lo stesso di tentare la via del aeroporto la balena la depositai nel parcheggio vip ad accogliermi fu un pischello sui 15 anni alle cui domande mi rifiutai di rispondere pareva molto preoccupato per le condizioni generali del veicolo santi dio santi dio non faceva altro che gridare ma cos'è successo continuava a gridare intorno alla macchina indicando i vari acciacchi i graffi e i pezzi spaccati eh lo so dissi l'hanno proprio conciata male questa è una terribile dannata città per andarci in giro su una decapottabile il momento peggiore è stato su boulevard di fronte al sahara sai sai quell'angolo dove circolano tutti quei drogati cristo non potevo crederci quando sono andati fuori di testa simultaneamente il piscale non pareva molto scaltro il suo viso era già impallidito parecchio e ora sembrava precipitato in un muto terrore non preoccuparti dissi sono assicurato dimostrai il contratto indicandogli la minuscola clausola dove era detto che ero assicurato contro ogni danno per soli due dollari al giorno il piscello stava ancora scuotendo il capo quando me ne andai mi sentii un po' in colpa lasciarlo nella merda con la macchina perché non c'era modo di spiegare quella massa di danni era andata un relitto totalmente distrutta in circostanze normali avrei dovuto essere preso e arrestato non appena avessi tentato di restituirla ma non a quell'ora del mattino con solo quel ragazzino ad accogliermi dopo tutto ero un VIP altrimenti una macchina come quella non me l'avrebbero nemmeno noleggiata che le conseguenze delle tue azioni ricadano su di te pensai mentre mi precipitavo all'aeroporto era ancora troppo presto per non dare nell'occhio perciò mi seppellii nel coffee shop dietro a un Los Angeles Time da qualche parte in fondo al corridoio un jukebox stava suonando one took over the line l'ascoltai per un momento ma le mie terminazioni nervose non erano più in grado di recepire niente l'unica canzone con cui avrei potuto avere a che fare a quel punto era Mr. Tambourine Man o tutt'al più Memphis Blues again oh mama can this really be the end il mio aereo partiva alle 8 il che significava che dovevo ammazzare due ore mi sentivo disperatamente visibile non avevo dubbi che mi stessero cercando la rete si stava chiudendo era solo una questione di tempo e mi sarebbero stati addosso come animali rabbiosi spedì tutto il bagaglio all'infuori della cartella di pelle con dentro le droghe e la 357 avevano o non avevano il maledetto metal detector in quell'aeroporto girellai intorno alla porta d'imbarco facendo il vago mentre perlustravo i paraggi in cerca di scatole nere non ne vidi nemmeno una decisi di tentare la sorte di infilarmi dritto nella porta con un gran sorriso sulla faccia borbottando distrattamente qualcosa a proposito della brutta caduta del mercato della ferramenta ero solo un altro commesso viaggiatore fallito che se ne tornava all'ovile è tutto per colpa di quel bastardo di nixon certo decisi che sarebbe venuto ancora meglio se avessi trovato qualcuno con cui chiacchierare una breve conversazione di routine tra passeggeri come va amico scommetto che ti starai chiedendo perché diavolo sudo così tanto si beh amico hai letto i giornali di oggi dico non ci crederesti mai a quello che mi hanno fatto quei bastardi stavolta mi convinsi che una cosa del genere andava benone ma non trovai nessuno con cui parlare che sembrasse abbastanza sicuro tutto l'aeroporto era affitto di gente che pareva pronta a saltarmi addosso se solo avessi fatto un movimento sospetto ero in paranoia mi sentivo come uno strangolatore ricercato da Scotland Yard vedevo maiali dappertutto perché in effetti quella mattina l'aeroporto di Las Vegas era pieno di poliziotti l'esodo in massa dopo l'apogeo della conferenza antidroga quando finalmente me ne resi conto mi senti molto più tranquillo a proposito della mia salute mentale beh e perché no è una gran brutta giornata a Las Vegas mille poliziotti lasciano la città sgambettando per l'aeroporto in gruppi di 6 o 10 tornano a casa la conferenza antidroga è finita la sala dell'aeroporto risuona di propositi meschini e brusio di corpi birrette e bloody mary qua e là una vittima di esantema cutaneo che si spalma pomata sotto la bretella a scellare di una grossa fondina da spalla non c'è più ragione di nascondere questa roba lasciala pur vedere o almeno dalle un po' d'aria sì mille grazie a tutti voi credo di aver perso un bottone dei calzoni spero che non mi caschino non volete che mi caschino i calzoni vero? no cazzarola non oggi non qui nel mezzo dell'aeroporto di las vegas in questa umidissima mattina al termine del grande convegno su sostanze psicotrope e droghe pericolose di tanto in tanto capitano giornate nelle quali tutto è vano veri fiaschi dall'inizio alla fine e se ci si vuole bene in giornate come quelle bisogna tipo acciambellarsi in un angolo e guardare magari pensare un po' lasciarsi andare su una vecchia sedia di legno tirare le tende per ripararsi dal traffico e strappare argutamente 7-8 Budweiser farsi fuori un pacchetto di malboro mangiarsi un panino al burro di arachidi e alla fine verso sera trangugiarsi un tampone di buona mescalina e più tardi andarsene in macchina fino alla spiaggia sulla battiglia nella nebbia a sguazzare con i piedi intorpediti dal freddo a una decina di metri dal frangenti in mezzo a stormi di uccelli marini picchi della sabbia ride runners poor hoppers stupidi uccelletti e granchi e succhiatori di sale con un pervertito qua e là o un altro rifiuto della società che zoppica in lontananza solo e senza meta tra le dune e i pezzi di legno quelli sono gli unici ai quali non si verrà mai propriamente presentati almeno fino a quando durerà un po' di fortuna ma la spiaggia è molto meno complicata di una frenetica mattina all'aeroporto di vegas mi sentivo molto evidente psicosi anfetaminica demenza paranoica che cos'è che cos'è i miei bagagli argentini o questo strascicato e ciondolante che a suo tempo mi ha fatto riformare dalla marina certo quest'uomo non sarà mai capace di camminare dritto capitano perché ha una gamba più lunga dell'altra non di molto un centimetro o poco più il che significa un centimetro più di quanto il capitano potesse tollerare così le nostre strade si divisero lui accettò una missione nel mar della cina meridionale e io diventai dottore in giornalismo gonzo e molti anni dopo ammazzando il tempo all'aeroporto di vegas in quella terribile mattina presi su un giornale e vidi dov'era andato a farsi fottere il capitano capitano di vascello massacrato dagli indigeni dopo l'aggressione accidentale A-1 a bordo della USS Cruise Course da quel che parte nel Pacifico 25 settembre l'intero equipaggio della 3465 uomini di questa porta aerea americana nuova di Zecca e intumultuoso tutto da stamane dopo che 5 di loro compreso il capitano sono stati fatti a pezzi in uno scontro con i reparti di polizia antieroina del porto neutrale di Hong Si dottor Blur cappellano di bordo ha celebrato all'alba i funerali nella tensione generale sul ponte di Tecollo il coro della quarta flotta ha cantato Tim Tam Blue poi mentre la campana rintoccava freneticamente i resti delle vittime sono stati cremati in urna e sparsi nel Pacifico da un ufficiale incappucciato chiamato semplicemente il comandante poco dopo la fine del servizio funebre sono scoppiati incidenti tra i membri dell'espazio e le comunicazioni con la nave sono state sospese a tempo indeterminato portavoce ufficiali presso il quartier generale della quarta flotta a Guam hanno riferito che la marina non ha nulla da dichiarare a proposito in attesa dei risultati di un'inchiesta di massimo livello condotta da teriti civili coordinati dall'ex procuratore distrattuale di New Orleans James Gers perché dunque darsi disturbo di leggere i giornali quando questo è tutto ciò che possono offrire Agnew aveva ragione la stampa è una congrega di checche crudeli il giornalismo non è una professione né un mestiere è solo una modesta trappola per coglioni e sbandati un falso portone sul retro della vita una miserabile possa biologica nelle grinfie degli ispettori edili ma abbastanza profonda perché un ubriacone ci si possa ragomitolare dentro e masturbarcisi come una scimmia nella gabbia capitolo 14 parte 2 addio a Vegas che Dio abbia pietà di voi porci mentre mi muovevo furtivamente per l'aeroporto mi resi conto vedendolo riflesso nello specchio sopra un vespasiano che avevo ancora indosso il cartellino di identificazione da poliziotto era un piccolo rettangolo arancione sigillato in plastica trasparente che diceva Raul Duke investigatore speciale Los Angeles sbarazziamoci di questo affare pensai buttiamolo via lo scherzo è finito e quello non dimostrava nulla almeno non a me e di certo non al mio avvocato lui pure aveva il suo cartellino che ora si trovava a Malibu a curarsi le sue tristi paranoie è stato tempo buttato quella conferenza una patetica presa per il culo che col senno di poi per un migliaio di poliziotti ha rappresentato solo uno squallido pretesto per starsene qualche giorno a Las Vegas a spese dei contribuenti nessuno aveva imparato nulla perlomeno nulla di nuovo salvo forse io e quello che avevo imparato io era che l'associazione nazionale dei procuratori distrettuali era dieci anni in ritardo sulla realtà brutta e sinistra di quella che loro avevano appena imparato a chiamare la cultura della droga in quel fetente anno del signore 1971 stanno ancora bruciando migliaia di dollari del denaro pubblico per fare film sui pericoli dell'LSD quando ormai l'acido è universalmente noto a tutti salvo che ai poliziotti come la Stodebaker del mercato della droga la popolarità della psichedelia è scesa così drasticamente che la maggior parte dei fornitori all'ingrosso non trattano nemmeno più la mescalina e gli acidi di qualità e non per fare un favore ai clienti speciali per lo più logori dilettanti della droga ultra trentenni come me o il mio avvocato il vero mercato di questi tempi è quello dei tranquillanti rosse e lenta cioè secondal e eroina è un guazzabuglio di pessima erba fatta in casa e tagliata con qualsiasi sostanza immaginabile dall'arsenico ai sedativi per cavalli quello che si vende bene oggigiorno è tutto ciò che ti fotte tutto ciò che ti cortocircuita il cervello e che te lo mette fuori uso più a lungo possibile il mercato del ghetto si è propagato nelle periferie il metalmeccanico in cerca di vendetta si è orientato verso iniezioni inframuscolari e pere in vena e per ogni freak ex anfetaminico scivolato nella lenta in cerca di sollievo ci sono 200 pischelli passati direttamente dal secondal alla siringa senza nemmeno darsi pena di provarla l'anfetamina gli stimolanti non sono più di moda la metedrina sul mercato del 1971 è rara quasi quanto l'acido puro o il DMT l'espansore di coscienza se n'è andata con LBJ e non ha nessun rilievo storico il fatto che l'era dei tranquillanti sia arrivata insieme a Nixon mi trascinai a zoppino sull'aereo senza problemi fatta eccezione per l'onda di disgustose vibrazioni emanate dagli altri passeggeri ma ero talmente fuori di testa a quel punto che non mi sarei preoccupato nemmeno di salire a bordo tutto nudo e ricoperto di cancri purulenti sarebbe occorso un enorme spiegamento di forze per tenermi fuori da quell'aereo mi ero spinto così oltre la mera fatica fisica che continuavo a sentirmi gradevolmente a mio agio nella prospettiva dell'isteria permanente sentivo che il più leggero malinteso con l'hostess avrebbe potuto farmi indifferentemente piangere o impazzire e la donna parve avvertirlo poiché mi trattò con grande gentilezza quando voli altri cubetti di ghiaccio per il mio Bloody Mary si affrettò a portarmeli e quando rimasi senza sigarette mi offrì un pacchetto delle sue l'unico momento in cui mi sembrò innervosirsi fu quando tirai fuori un pompelmo dalla borsa e cominciai a tagliarlo col coltello da caccia notai che mi sorvegliava da vicino così cercai di sorridere non mi muovo mai senza pompelmi dissi è così difficile procurarsene dei buoni a meno di essere ricchi approvò con la testa le lanciai di nuovo il mio sorriso smorfia ma era difficile immaginare cosa stesse pensando era ben possibile lo sapevo che avesse già deciso di farmi evacuare dentro una gabbia appena arrivati a Denver la fissai intensamente negli occhi per un po' ma lei mantenne il proprio autocontrollo stavo dormendo quando l'aereo toccò la pista ma lo scossone mi svegliò all'istante guardai fuori dal finestrino e vidi le montagne rocciose cosa cazzo ci facevo lì mi chiesi era totalmente senza senso decisi di chiamare subito il mio avvocato per farmi mandare un po' di soldi con cui comprare un grande Doberman albino Denver è il centro nazionale di raccolta dei Doberman rubati ne arrivano da ogni parte del paese visto che ero lì pensai che avrei potuto prendermi uno di quei cagnacci ma prima qualcosa per i miei nervi appena l'aereo terminò la manovra mi fiondai nel corridoio che portava al drugstore dell'aeroporto dove chiesi alla commessa una scatola di popper quella cominciò ad agitarsi e a scuotare il capo oh no disse alla fine non posso vendere quella roba senza prescrizione medica lo so peci ma vede io io sono un medico non ho bisogno di prescrizione era ancora agitata beh dovrà mostrarmi un documento d'identità murmurò ma certo tirai fuori il portafogli e feci in modo che lei vedesse il distintivo della polizia mentre frugavo in cerca della mia tessera di riduzione ecclesiastica che mi identificava come dottore in teologia pastore diplomato della chiesa della nuova verità la ispezionò con cura poi me la restitui avverti subito un nuovo atteggiamento in lei molto più rispettoso il suo sguardo si era fatto caldo pareva volesse toccarmi spero mi perdoni dottore disse con un bel sorriso ma dovevo chiederglielo qui bazzicano freak di ogni tipo tossici pericolosi roba da non credersi non si preoccupi dissi capisco perfettamente ma ho il cuore malato e spero certo esclamò lei e in pochi secondi era sparita e riapparsa con una dozzina di fialette pagai senza stare a sottilizzare sulla riduzione ecclesiastica poi apri la scatola e me ne spezzai uno sotto il naso lì mentre quella guardava ringrazio dio di avere un cuore giovane e forte dissi se fossi lei non santa merda come si mi deve scusare adesso sento che comincia ad arrivare mi girai e presi a vacillare in direzione del bar che dio abbia pietà di voi porci urlai a due marines che uscivano dal cesso loro mi guardarono ma non dissero nulla io stavo già ridendo come un matto ma non faceva differenza ero solo un altro di quei sacerdoti allo sfascio col cuore malato merda mi avrebbero adorato al brown palace mi feci un'altra bella tirata di popper e arrivai al bar col cuore colmo di gioia mi sentivo come una mostruosa reincarnazione di Orazio Alger un uomo in marcia abbastanza malato da avere fiducia in tutto un uomo in marcia un uomo in marcia di Orazio Alger Grazie a tutti. Salve a tutti e avvidissimi ascoltatori. Innanzitutto vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto e aver ascoltato questa lisergica storia insieme a me e il mio cliente. Ora, in qualità di vostro avvocato, vorrei esprimere una parola in favore della persona senza la quale questo progetto non avrebbe mai potuto innalzarsi. Quindi vi invito a fare come il salmone fresco e quindi andare tutti quanti a buttarvi sul canale di Zero Copyright Free Music. Come dite, non sapete dove andare, ma vi ho segnato il link qua sotto nella descrizione del video. Quindi, oltre a iscrivervi al mio canale, iscrivetevi anche al su. Grazie a tutti e grazie a te, signor Zero. Grazie.